Due paragrafi a tutti, quindi per voi non si capisce... Com'è? No, la leggo, la leggo. E protocolliamo direttamente la versione. E protocolliamo la versione, sì, sì. Se me lo date procedo alla lettura. Allora, vi chiedo un attimo di attenzione. Le prime due pagine dell'ordine del giorno restano immutate. C'è un'aggiunta di due capoversi nell'impegnativa. Vado a darne lettura. A riferire annualmente alla commissione consigliare competente sulla rendicontazione delle risorse, con particolare riferimento agli introiti derivanti dai tesserini e all'utilizzo e o destinazione delle risorse medesime. Secondo capoverso aggiunto. Nell'ambito dell'aggiornamento della mappatura di cui al punto precedente a valutare la possibilità di classificare le aree tartufigene in base alla loro reale produttività. Alle firme precedenti che avete si aggiungono quelle del collega Meini e del collega Fantozzi. Chiunque vuole venire a sottoscrivere l'atto può farlo. A questo punto mettiamo in votazione l'ordine del giorno, così come modificato. Apriamo la votazione, per favore. Sì, così come modificato. È aperta la votazione, grazie. Aggiungiamo il voto, come vota la collega Mercanti? Favorevole, grazie. Chiudiamo la votazione. 28 favorevoli, più il voto della collega Mercanti, 29 voti favorevoli. Un contrario, zero astenuti. L'ordine del giorno 157, così come modificato e di cui ho dato lettura, è stato approvato. Passiamo a questo punto alla... Certo, aggiungiamo anche il voto della collega Rosignoli e della collega Spadi. Bene, passiamo alla votazione della legge. Allora, io sarei per votare, come abbiamo fatto, sempre gli articoli per alzata di mano e il resto in forma, diciamo, un voto elettronico. Chiedo di aprire la tele... No, ancora no, perché ci sono le dichiarazioni di voto, do la parola al Presidente Scaramelli. Sì, ok, grazie. Allora, all'esito, vedendo la discussione, andando avanti, confermo, diciamo, il mio pronunciamento. Sono convinto di avere la mia posizione e del punto di caduta. è emersa il fatto che ci siano dei punti di vista differenti, è emersa la volontà di fare un testo che, a mio avviso, non va incontro alle esigenze di tutti i territori. È vero, si fa un testo di legge che va incontro al tentativo di uniformare. Quello è vero. A livello regionale è una normativa. Non sono convinto, il resto non convinto, che questo possa essere un beneficio per tutti i territori toscani. Questo mi sia concesso appunto di ritenerlo, al punto tale che anche la definizione delle zone geografiche di provenienza dei tartufi, la definizione delle sette zone, avrebbe anche potuto portare allo sviluppo di una discussione per definire ambiti territoriali. Una delle questioni messe sul piatto era la possibilità di definire ambiti territoriali all'interno dei quali le singole territori avrebbero potuto normare in maniera autonoma la definizione degli aspetti normativi che riguardava la coltivazione o la raccolta. Ovviamente qui il tema è di fondo, perché se si parla esclusivamente di libera raccolta è evidente che stiamo parlando di due questioni completamente diverse. Per quanto riguarda, io sono convinto, tutelando l'impresa, tutelando il lavoro e tutelando un elemento che ha portato a produzione di reddito regolare, in alcune parti del punto del territorio, che si potesse definire la zonizzazione e quindi si potesse andare anche in una differenziazione territoriale rispetto alla possibilità di definire anche metodologie e abitudini differenti. Questo per dire e per aggiungere anche una cosa stando nel merito della tecnica legislativa. È evidente, molti oggi parlano di regolamenti, non di risoluzione, penso che sia un errore nella dicitura del termine. Le questioni regolamentari, se si fosse demandato effettivamente un regolamento, anche il distanziamento, anche le questioni di dettaglio sarebbero potute definire in fase regolamentare e non impostare un quadro normativo unico di carattere regionale. Avremmo potuto demandare con un regolamento la definizione di aree territoriali, come vengono fatte nella caccia, e a livello locale si sarebbe potuto definire poi anche una differenziazione e ascoltato e magari tradotto in norma la differenziazione dei vari territori. Questo mi lascia perpresso. Peraltro un punto di caduta, lo dico senza nessuna belletà, ovviamente non essendo stato coinvolto neanche nel tentativo di mediazione. Quindi io ritengo che a questo punto di modificare la mia intenzione. Prima pensavo di non partecipare alla votazione, ora invece parteciperò e voterò convintamente contro invece a questo testo di legge. Pensavo di non partecipare perché ritenevo inopportuna quella discussione, parteciperò e voterò convintamente contro perché credo che se la politica voterò convintamente contro rispetto a un testo di legge che non condivido nella parte modificata siamo distanti notevolmente sotto il punto di vista della programmazione, sotto il punto di vista del rispetto territoriale perché è vero che si fa una norma di carattere regionale ma si oltraggia e sono convinto di quello che dico un territorio e in primis quello senese. Grazie, ringrazio il Presidente Scaramelli. La parola al collega Pieroni. Sì, grazie Presidente per dichiarazione di voto per rappresentare il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico ritenendo che anche gli emendamenti che come gruppo abbiamo presentato in sede di discussione in commissione siano migliorativi e rispondano anche alle questioni poste nella fase di consultazione. Ecco, non riteniamo che questi emendamenti stravolgano il testo arrivato dalla Giunta e che anzi apportano ulteriori precisazioni, ulteriori elementi che vanno ad accogliere anche esigenze che si sono presentate nell'ambito delle consultazioni, delle audizioni e anche nelle regolari interlocuzioni che ognuno di noi ha avuto con i rispettivi territori e chi li rappresenta in questo ambito. Per cui l'esigenza di aggiornare una legge, adeguarla, modernarla, rinfrescarla, renderla coerente anche sotto il profilo del calendario con le esigenze che oggi i mutamenti climatici ci pongono ci sembra che sia un risultato importante. L'ordine del giorno evidenzia alcuni elementi di dettaglio che necessitano anche di un lavoro tecnico che appunto viene affidato agli organi e agli uffici della Giunta e questo produrrà un completamento di una norma che riteniamo già essere adeguata a rispondere ai bisogni di coloro che operano nell'ambito della raccolta e della lavorazione del tartufo come prodotto prezioso e pregiato dei nostri territori. Grazie. Ringrazio il collega Pieroni. Partiamo con la fase delle votazioni. Vi prego di allargare. Bene, iniziamo. Articolo 1. Aspettate che non si vede di nuovo, devo togliere la camera. Riproviamo. Articolo 1. Favorevoli, contrari, astenuti, il collega... No, aspettate, non partecipate al voto? No, no, si può fare, volevo solo guardare quanti eravamo solamente così, non perché non lo potevate fare, perché devo dire se il voto è valido o non è valido, non peraltro, stavo guardando per questo. Il collega Melio? L'articolo 1 è stato approvato. Articolo 2, favorevoli, contrari, astenuti. Collega Melio? L'articolo 2 è stato approvato. Articolo 3, favorevoli, contrari, astenuti. Il collega Melio? L'articolo 3 è stato approvato. Articolo 4, favorevoli, contrari, astenuti. Collega Melio? L'articolo 4 è stato approvato. Articolo 5, favorevoli, contrari, astenuti. Collega Melio? L'articolo 5 è stato approvato. Articolo 6, favorevoli. Scusate, allora, facciamo sì. Vi prego di alzare la mano perché i numeri sono al limite, altrimenti il voto risulta poi qualcuno e dice non è valido. Alziamola sempre in qualunque cosa si decida di votare. Chi non l'alza decide di non votare. Chi non l'alza decide di non votare. Chi decide di non conto anch'io. Quindi siccome so contare fino a 21, siccome so contare fino a 21, lo faccio. Articolo 5, favorevoli, contrari, astenuti. Collega Melio? L'articolo 5 è stato approvato. Articolo 6, favorevoli, contrari, astenuti. Il collega Melio? L'articolo 6 è stato approvato. Articolo 7, favorevoli, contrari, astenuti. Il collega Melio? L'articolo 7 è stato approvato. Articolo 8, favorevoli, contrari, astenuti. Il collega Melio? L'articolo 8 è stato approvato. Questo numero non c'è il numero legato. L'hanno votato in Italia Viva. Non c'è il numero legato. In Italia Viva non hanno votato. Ha ragione il collega Scaramelli. Si sospende la seduta per 5 minuti. Grazie per la visione. 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 Bene, riprendiamo i lavori. A questo punto tenuto conto che i numeri sono sempre molto risicati, almeno se il voto continua in questa maniera, sono io a richiedere il voto elettronico, in maniera tale da non avere nessun problema, così c'è un computer che ci dice quanti ne sono. ripartiamo articolo 8 con voto elettronico, prego. Aperta la votazione. No, la collega Mercanti vota a favore, vero? Bene. 22 favorevoli, 0 contrari, 6 astenuti, l'articolo 8 è stato approvato. Articolo 9. No, col voto a favore, non gli va il sistema. Aperta la votazione. Come vota collega Mercanti? Col voto favorevole della collega Mercanti, 22 favorevoli, 1 contrario, 7 astenuti, l'articolo 9 è stato approvato. Articolo 10. Apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. 22 favorevoli, 1 contrario, 8 astenuti, l'articolo 10 è stato approvato. Articolo 11. Aperta la votazione. Chiudiamo la votazione. 22 favorevoli, 1 contrario, 7 astenuti, l'articolo 11 è stato approvato. Articolo 12. Aperta la votazione. Chiudiamo la votazione. 22 favorevoli, 1 contrario, 8 astenuti, l'articolo 12 è stato approvato. Articolo 13. Apriamo la votazione. Aperta la votazione. Aperta la votazione. Chiudiamo la votazione. 22 favorevoli, 0 contrari, 8 astenuti, l'articolo 13 è stato approvato. Articolo 14. Apriamo la votazione. 22 favorevoli, 1 contrario, 11 astenuti, l'articolo 14 è stato approvato. Articolo 15. Apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. 22 favorevoli, 1 contrario, 10 astenuti, l'articolo 15 è stato approvato. Articolo 16. Apriamo la votazione. 16. Chiudiamo la votazione. 29 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, l'articolo 16 è stato approvato. Articolo 17. Apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. 23 favorevoli, 1 contrario, 9 astenuti, l'articolo 17 è stato approvato. Articolo 18. Aperta la votazione. Chiudiamo la votazione. 22 favorevoli, 1 contrario, 10 astenuti, l'articolo 18 è stato approvato. Articolo 19. Apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. 22 favorevoli, 1 contrario, 10 astenuti, l'articolo 19 è stato approvato. Articolo 20. Aperta la votazione. Aperta la votazione. 22 favorevoli, 1 contrario, 10 astenuti, l'articolo 20 è stato approvato. Articolo 21. Aperta la votazione. Aperta la votazione. Chiudiamo la votazione. 22 favorevoli, 1 contrario, 10 astenuti, l'articolo 21 è stato approvato. Articolo 22. Apriamo la votazione. Aperta la votazione. Chiudiamo la votazione. 22 favorevoli, 0 contrari, 9 astenuti, l'articolo 22 è stato approvato. Articolo 23. Aperta la votazione. Chiudiamo la votazione. 22 favorevoli, 1 contrario, 10 astenuti, l'articolo 23 è stato approvato. Articolo 24. Aperta la votazione. Chiudiamo la votazione. 22 favorevoli, 1 contrario, 9 astenuti, l'articolo 24 è stato approvato. Preambolo. No. È aperta la votazione. Chiudiamo la votazione. 22 favorevoli, 2 contrari, 7 astenuti, il preambolo è stato approvato. Il collega vicepresidente Casucci aggiunge il suo voto. Quale? Astenzione. Anche il collega Petrucci. Vedo distratti. Mettiamo in votazione la proposta di legge 157. Aperta la votazione. Do il coordinamento formale del testo agli uffici. Chiudiamo la votazione. 22 favorevoli, 2 contrari, 9 astenuti, la proposta di legge 157 è stata approvata. Ora, dedicatemi 30 secondi di attenzione. Per ordine dei lavori. La conferenza dei capigruppo ha deciso di procedere in questo modo. La seduta continuerà per tutta la discussione relativa al piano regionale di sviluppo e al DEFER. Questo vuol dire che nel contingentamento dei tempi possono essere massimo 5 ore. Poi dipende molto dalla discussione che viene fatta. Quindi oggi si discute tutta la discussione preliminare. Domani ci sarà, da domattina, alle ore 10. Ripeto, alle ore 10 perché prima si riunisce l'ufficio di Presidenza. Ci sarà la discussione, la votazione degli emendamenti, dichiarazioni di voto finale, voto della risoluzione e voto del DEFER. Ci fermeremo intorno a pranzo, domani dalle 13 alle 14.30, insomma il tempo che servirà. E poi si continuerà fino alla fine delle votazioni. Quindi io penso che stasera, diciamo, continueremo i nostri lavori al massimo fino alle ore 10.20, ma insomma io penso che più o meno finiremo intorno a quell'orario, intorno alle 10 se tutti interverranno. Quindi la seduta notturna viene sostituita da questo tipo di percorso condiviso in conferenza di programmazione. A questo punto do la parola al Presidente Bugliani per l'illustrazione della proposta di risoluzione e per la presentazione del DEFER. Quindi discutiamo insieme la proposta di risoluzione 239 e la PDD 326. Prego Presidente Bugliani. Il programma regionale di sviluppo come atto di programmazione più importante di questa legislatura si propone di agganciare la ripresa del territorio regionale ponendo al centro l'innovazione, il lavoro, i territori e la sostenibilità. Lo fa attraverso la valorizzazione di una serie di assi portanti che sono il rilancio degli investimenti, lo sviluppo delle risorse naturali, la digitalizzazione, la transizione ecologica e l'inclusione sociale. Un piano quindi straordinario di contributi e di interventi concreti che si muovono lungo quattro assi di transizione. Da una parte quello economico-digitale, dall'altra quello ambientale-energetico fino ad arrivare a quello della salute e a quello istituzionale. con un obiettivo che è quello di offrire una reale prospettiva per le nuove generazioni per garantire la ripresa attraverso il sostegno alle imprese, l'investimento sulle infrastrutture, la riconversione ambientale e la garanzia di diritti e di servizi fisici e digitali per tutti. È chiaro che alla base di questo complesso e articolato documento si pongono una serie di sfide e di obiettivi per la Toscana. Innanzitutto c'è la sfida di un nuovo sistema socio-economico che tiene conto del difficile contesto storico-economico nel quale ci troviamo, la crisi che è stata prodotta dagli effetti della pandemia e ora accentuata dall'invasione russa in Ucraina. È chiaro che tutto questo ha mostrato una serie di elementi di debolezza, ma ha anche dato la possibilità di emersione di componenti dinamiche che possono caratterizzare le potenzialità del nostro sistema regionale. Si tratta quindi di adottare tutta una serie di interventi i quali sono volti a favorire nuove attività produttive, a garantire una piena e buona occupazione, avendo come priorità la politica industriale. Che significa anche cambiare cosa si produce e come, disegnare una nuova traiettoria di sviluppo puoi fondare questa traiettoria di sviluppo sulla sostenibilità, sulle tecnologie avanzate e sul welfare. Il tutto si aggancia alla necessità di garantire un incremento della qualità del lavoro con il ricorso a personale maggiormente qualificato e maggiormente formato. Altra sfida importante che è posta alla base di questo programma è la sfida della transizione ecologica. La Regione Toscana ha non molto tempo fa approvato la riforma del proprio Statuto e ha inserito all'interno dello Statuto due principi. Da una parte quello dello sviluppo sostenibile e dall'altra quello dell'economia circolare che pertanto intende incentivare un sistema autorigenerante attraverso la valorizzazione degli scarti, l'estensione del ciclo di vita dei prodotti, l'uso delle energie da fonti rinnovabili. Occorre quindi a questo principio che è stato posto alla base del nostro sistema statutario dare concreta attuazione attraverso tutta una serie di misure che hanno due grandi obiettivi. La riduzione delle emissioni climaalteranti e il contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici che peraltro sono già in atto. Un altro obiettivo prioritario è quello del diritto alla salute. La Toscana da sempre si pone nella traiettoria di garantire un sistema di sanità pubblica diffusa, universalistica, capace di porsi al di sopra degli standard medi del nostro Paese. Lo ha dimostrato nell'ambito anche della ricerca, lo ha dimostrato soprattutto nel settore oncologico e lo ha dimostrato anche durante la pandemia con la campagna di vaccinazione e con l'esecuzione dei tamponi nella popolazione. Per fare questo occorre chiaramente fare leva sul Stato perché il Fondo Sanitario possa maggiormente consentire investimenti in questo settore, ma soprattutto dovrà darsi atto dell'impatto positivo che le risorse provenienti dal PNRR potranno avere rispetto allo sviluppo soprattutto della sanità territoriale. Quando si avrà la concretizzazione di questi risultati per il nostro sistema sanitario si imporranno anche scelte importanti come quelle di nuove assunzioni, di investimento sulla formazione e anche la riorganizzazione dello stesso sistema. Occorre quindi a questo scopo lavorare su tre livelli. Da una parte garantire una maggior copertura da parte del Fondo Sanitario Nazionale, dall'altra ripensare i livelli organizzativi e anche una diversa distribuzione del personale che è già in forza presso le aziende sanitarie e poi ancora attivare un attento controllo delle spese. Accanto alla sfida della salute c'è quello della integrazione socio-sanitaria. In questo settore devono essere adottate tutta una serie di interventi che possano favorire la più ampia integrazione tra i servizi sociali, servizi sanitari e i servizi per il lavoro. Occorrerà garantire la continuità assistenziale tra i servizi sociali, quelli sanitari e quelli socio-sanitari nei diversi contesti, cioè ospedale e territorio, reti formali e informali, enti pubblici ed enti del terzo settore. Occorrerà sviluppare dei percorsi assistenziali che siano fondati su punti unici di accesso, sulla interdisciplinarietà della presa in carico e sulla collaborazione tra gli operatori dei diversi servizi. Garantendo anche una partecipazione forte della Regione ai programmi che si sono sviluppati a livello comunitario e a livello nazionale. Allo scopo di garantire un efficace intervento complementare proprio nell'ambito delle diverse fonti di finanziamento. Ma un aspetto profondo, di notevole importanza sul quale il nostro sistema deve riflettere nella programmazione avvenire è anche quello istituzionale che si muove da una parte nel rapporto tra la Regione e il sistema degli enti locali e dall'altra in quello ascendente verso lo Stato. Per quanto riguarda i rapporti con gli enti locali dovranno essere incentivati percorsi partecipativi che la Regione Toscana già da tempo coltiva attraverso il tavolo di concertazione istituzionale e attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali. Dovrà quindi proseguire il sostegno ai piccoli comuni, favorire il ruolo delle Unioni dei Comuni ad esempio rendendo operativa per la prima volta dalla sua istituzione la conferenza permanente delle Unioni dei Comuni. Dovrà essere rafforzato il ruolo delle società della salute per garantire omogeneità dei servizi oggi erogati attraverso questi enti su tutto il territorio regionale. Si pone poi il delicato problema del ruolo delle province province che hanno avuto nel corso del tempo una notevole rivisitazione della propria struttura e della propria funzione in attuazione della legge del Rio. Il dibattito che è in atto circa la ricostituzione almeno parziale delle province nella veste che originariamente le stesse avevano dovrà vedere la regione toscana protagonista in questo complesso percorso che riassegni funzioni e anche ruolo alle province sui territori. Ma la sfida istituzionale passa anche dal ridisegnare il rapporto con lo Stato e con il Governo nazionale. Soprattutto su un tema delicato che da tempo caratterizza il dibattito come quello dell'autonomia differenziata. La regione toscana intende essere protagonista di questi passaggi e intende farlo verificando il suo progetto di autonomia alla luce delle novità che potranno emergere dal dibattito nazionale. La regione toscana si farà il contempo portatrice della piena attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 3 del 2001 che preveda la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Un altro settore nel quale gli interventi della regione dovranno articolarsi è quello della cultura e dello sviluppo di nuovi stili di vita nella consapevolezza che la cultura può essere un importante motore di sviluppo dell'economia di un territorio che passa anche attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale soprattutto del patrimonio degli enti locali e che porti all'attuazione di quell'ambizioso progetto molte volte richiamato nel testo del programma regionale di sviluppo che viene individuato come Uffizi Toscana la cultura come veicolo di sviluppo economico ma anche come motore per il turismo come dimostra anche la vicenda che ha visto coinvolte le terme di Montecatini e il relativo acquisto e che dimostra come l'interconnessione tra lo sviluppo turistico di un territorio e la promozione della cultura sia in realtà molto stretta un altro obiettivo fondamentale è quello della riqualificazione dei luoghi dello sport con l'investimento di importanti risorse per l'attuazione di una serie di concreti interventi che favoriscano questi luoghi intesi non soltanto come occasioni di aggregazione sociale ma anche come incentivo alla tutela della salute in via preventiva c'è poi la sfida delle infrastrutture la regione toscana intende adottare una serie di interventi che vadano verso la realizzazione di una mobilità sicura, efficiente e sostenibile investimenti infrastrutturali che devono avere una caratterizzazione globale quindi non soltanto relativi alle strade e alle ferrovie ma anche ai porti, agli aeroporti e agli interporti investimenti importanti devono e dovranno essere fatti per garantire la sicurezza sulle strade regionali e anche una mobilità a basso impatto ambientale c'è poi una sfida che è figlia del nostro tempo e sulla quale occorre che le istituzioni in questo caso la regione appunti l'attenzione in modo importante che è quella della sovranità digitale occorre infatti che vi sia un intervento della governance pubblica delle infrastrutture digitali questo non soltanto per prevenire questo ambito la commissione di reati ma anche per garantire la continuità dei servizi già erogati su tutto il territorio regionale l'obiettivo è quello della realizzazione di una Toscana connessa che sia in grado di garantire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e sviluppare al meglio quel concetto di Toscana diffusa che caratterizza un po' tutta l'ossatura del programma regionale di sviluppo una governance che quindi sia in grado di garantire infrastrutture e servizi digitali per tutti i territori toscani ma al tempo stesso anche un monitoraggio di tutte quelle azioni di infrastrutturazione a banda ultralarga e 5G la struttura del programma regionale di sviluppo sulla quale non mi addentro più di tanto perché sarà sicuramente occasione di discussione nel corso del dibattito dopo aver appuntato l'attenzione sulle sfide importanti che ha la nostra regione di fronte a sé e gli obiettivi strategici che intende perseguire individua le linee di sviluppo della regione lo fa attraverso le sette aree nelle quali viene articolata questa parte della programmazione e che sono da una parte la digitalizzazione la semplificazione e la competitività la transizione ecologica le infrastrutture per una mobilità sostenibile l'istruzione, la ricerca e la cultura l'inclusione e coesione la salute e le relazioni interistituzionali vengono promosse una serie di strategie trasversali che sono caratterizzazione di questo atto di programmazione attraverso la transizione al digitale la transizione verde la strategia per l'equità e per la coesione che guarda a temi importanti e prioritari come le pari opportunità l'investimento sui giovani e sulle nuove generazioni e i temi della Toscana diffusa ma anche la strategia per una specializzazione intelligente una parte del programma regionale di sviluppo è dedicata al modello di programmazione modello di programmazione che viene approfondito con l'individuazione degli strumenti attuativi della programmazione ma anche un monitoraggio delle politiche regionali e un'apposita sezione dedicata a un tema centrale anche per il ruolo che riveste questo consiglio che è quello della programmazione normativa una parte del programma regionale di sviluppo è dedicato a una voce importante di quest'epoca e soprattutto dell'epoca post-pandemica che è dato dalle risorse del piano nazionale di ripresa e di resilienza una serie di risorse che porteranno a una disponibilità a livello nazionale portano a una disponibilità di 191 miliardi nelle sei missioni nelle quali il piano si articola tenendo conto che una delle fonti fondamentali di risorse attraverso le quali si potrà orientare l'azione del governo regionale è quella della programmazione comunitaria oltre che della programmazione nazionale quindi il Fondo europeo di sviluppo delle regioni il Fondo sociale europeo ma anche il Fondo nazionale l'FSC determinanti nelle politiche regionali sono le risorse collegate al pilastro della politica agricola comune a livello comunitario con il piano di sviluppo rurale e anche i 193 milioni del patto Italia-Francia-Marittimo questo è il quadro generale di un atto di programmazione che poi si articola nei 29 progetti che in realtà sono già stati nel corso di questi anni che caratterizzano la prima fase della legislatura individuati anche nei documenti di economia e finanza regionale nella prima commissione sono stati due i momenti importanti di istruttoria di questo atto da una parte quello che ha visto il confronto con le categorie attraverso un articolato sistema di consultazioni consultazioni che sono state molto partecipate molto approfondite e che sono andate dalle categorie economiche alle associazioni sindacali fino ad arrivare al mondo della istruzione e soprattutto al mondo universitario che più di altre volte ha avuto voce in capitolo nel contesto di queste consultazioni arrivando poi la prima commissione a un'attività che ha portato a una serie di correzioni di miglioramenti del testo originario del programma regionale di sviluppo che mi piace sottolineare sono frutto di un'importante attività della maggioranza ma anche di una parte dell'opposizione che ha potuto trovare nel testo di questo programma regionale di sviluppo l'occasione per approfondimento e soprattutto per vedere adottati alcuni dei suggerimenti che attraverso l'attività di emendamento che si è svolta in commissione sono stati apportati così come richiesto illustro unitamente al programma regionale di sviluppo anche il documento di economia e finanza regionale del 2024 rispetto al quale si articolerà un'unitaria discussione è noto come il documento di economia e finanza regionale rappresenti lo strumento attraverso il quale si mettono in evidenza le priorità programmatiche per l'anno successivo deve essere quindi approvato di norma entro il mese di luglio e andrà a completarsi attraverso la nota di aggiornamento al DEFRA quindi l'individuazione delle priorità programmatiche dell'anno a venire sia attraverso una complementarietà di contenuti tra il documento di economia e finanza regionale e la nota di aggiornamento che dovrà essere predisposta nella fase di chiusura del bilancio di previsione per garantire al meglio la coerenza tra gli obiettivi programmatici e le risorse a disposizione è chiaro che questo documento di economia e finanza regionale si genera nel contesto di un sviluppo economico che indubbiamente subisce una serie di arresti che vengono come già detto con riferimento al programma regionale di sviluppo dalla situazione internazionale e dalla crisi in Ucraina con tutti gli effetti che ciò ha prodotto sul fronte della crisi energetica ma anche da una crescita del prodotto interno lordo che ha sempre segno positivo ma che è piuttosto bassa e a rilento tenendo anche conto delle politiche restrittive della Banca Centrale Europea adottate proprio contro la crescita dell'inflazione il documento che viene quindi presentato oggi all'Aula consta di due allegati un primo allegato che dopo aver offerto una rappresentazione del quadro economico attuale ed è sostanzialmente la parte del documento di economia e finanza che viene redata in collaborazione con l'IRPET e dopo aver illustrato il quadro finanziario regionale indica gli assi portanti della manovra per il 2024 interventi sui quali potranno incidere sia la legge delega sulla riforma del sistema fiscale sia la legge sull'autonomia differenziata c'è poi una parte che è dedicata alle politiche regionali quindi all'articolazione dei 29 progetti secondo una caratterizzazione generale la quale prevede un incremento di risorse di 1,77 miliardi che derivano soprattutto dai fondi strutturali e dalle risorse del PNRR c'è poi una parte innovativa del testo del documento di economia e finanza regionale la parte dedicata alla strategia regionale di sviluppo sostenibile e un'ultima parte che è quella su cui vorrei soffermarmi che è quella delle modifiche al piano di razionalizzazione delle società partecipate precisandosi poi che accanto all'allegato 1 del documento abbiamo anche un allegato 1A che è quello che articola in maniera più puntuale 29 progetti suddivisi nelle sette aree della digitalizzazione della transizione ecologica delle infrastrutture per una mobilità sostenibile dell'istruzione ricerca e cultura inclusione coesione salute e relazioni interistituzionali per quanto riguarda l'approfondimento a modi appendice in conclusione che ci tengo ad effettuare rispetto al documento di economia e finanza in analogia a quanto avvenuto durante i lavori della prima commissione bisogna tenere presente che vengono apportate attraverso questo documento modifiche ai tempi di razionalizzazione di sei società partecipate la prima è alla toscana spa si prevede la proroga per il termine disposto per la giunta per l'approvazione a sua volta della proroga della durata societaria questo perché bisognerà tener corto del master plan aeroportuale sulle future strategie aziendali da parte di ala toscana in approvazione entro il 31 di luglio quindi si ha uno slittamento della scadenza predisposta per la giunta dal 30 aprile al 31 dicembre altra società è l'interporto della toscana centrale dove si prevede che il patto parasociale della società possa essere approvato in via definitiva al 31 12 del 2023 la terza società partecipata è COSVIG la giunta regionale ha autorizzato il rappresentante della regione presso COSVIG a partecipare all'assemblea convocata per il 23 giugno scorso che nell'ordine del giorno aveva anche il piano di riorganizzazione aziendale proposto dal consiglio di amministrazione in particolar modo la giunta ha autorizzato il rappresentante regionale a comunicare che la valutazione puntuale sul documento di riorganizzazione potrà essere effettuata soltanto a seguito dell'approfondimento giuridico relativo al conferimento di Sesta Lab al Trust nella consapevolezza che l'analisi del progetto che è stato presentato non possa prescindere da una soluzione che sia finalizzata ad espungere il ramo Sesta Lab questo allo scopo di razionalizzare i costi collegati al piano di riorganizzazione aziendale per quanto riguarda Fidi Toscana la modifica che viene apportata al piano di razionalizzazione delle partecipate prevede lo slittamento del termine per l'accessione del pacchetto di maggioranza che va dal 30 aprile al 31 ottobre per quanto riguarda Firenze e Fiera sono tre gli aspetti che vanno sottolineati il primo riguarda il piano di risanamento perché la giunta regionale ha stabilito di dare mandato al rappresentante regionale di esprimere parere favorevole in merito all'approvazione del piano di risanamento altro aspetto che viene toccato dal piano di razionalizzazione riguarda l'aumento del capitale sociale per il 2024 perché la regione toscana potrà aderire subordinatamente la variazione degli strumenti di programmazione quindi al piano di razionalizzazione delle partecipate e anche al bilancio di previsione per quanto riguarda invece la fortezza da basso viene espresso l'indirizzo di indicare il primo gennaio 2028 come termine iniziale per l'inizio dei lavori a carico di Firenze e Fiera rinviando però a successivi atti le determinazioni da parte dei proprietari della fortezza da basso quindi regione toscana comune di Firenze Città Metropolitana e Camera di Commercio da ultimo sviluppo toscana SPA il termine per l'acquisto delle azioni della società di gestione del risparmio SICI viene spostato al 31 dicembre del 2023 acquisto che potrà essere effettuato anche mediante l'aumento di capitale sia rispetto al programma regionale di sviluppo che al documento di economia finanza la prima commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza grazie Tozzi Sì grazie presidente vorrei che la cabina di regia inquadrasse soprattutto i banchi desolatamente vuoti della giunta regionale perché io credo che pur capendo la stanchezza di tutti di fronte a quello che è l'atto principe della consigliatura quindi le linee del piano regionale di sviluppo così tanto richiesto ricordo che è l'anniversario oggi di un ordine del giorno che presentai l'anno scorso con il quale sollecitavamo per l'appunto la giunta all'adozione di questo atto che arriva dopo un anno quindi io ecco questo già è imbarazzante di per sé ed è imbarazzante di per sé anche farlo in un'aula quasi surreale e semi vuota detto questo cerco di nel tempo nei 15 minuti che ho a disposizione cercherò di essere come dire di calcare alcuni aspetti dico subito che noi naturalmente non possiamo partire dall'analisi di un documento che si chiama piano regionale di sviluppo senza parlare di crescita e io credo che molti di voi spero tanti colleghi abbiano avuto modo di dare un'occhiata al rapporto di IRPET che a mio modestissimo modo di vedere è diciamo la cornice ideale perché disegna quello che è lo stato attuale della Toscana e lo fa con delle cifre e con dei dati precisi il rapporto di IRPET ci dice di una regione che ha sì una crescita ma è una crescita che naturalmente risulta drogata dal turismo noi siamo una regione in cui la produzione industriale ha comunque avuto una diminuzione significativa e la produzione industriale è indubbiamente un indice importante della crescita di una regione parlo di crescita drogata perché sappiamo bene che il settore del turismo e tra l'altro con questa diciamo crociata che si sta portando avanti nei confronti del BNB pare essere diventato invece che una voce di PIL di questa regione un obiettivo imprenditoriale da colpire ma detto questo naturalmente il turismo si porta anche con sé quelle che sono un po' diciamo alcune altre criticità che stanno emergendo molto forti e quella diciamo dell'occupazione perché di fronte a una situazione di questo tipo è evidente che noi scontiamo anche una mano d'opera che in questo settore soprattutto è poco qualificata di fronte a quella che è però un'altrettanta criticità che è la costante difficoltà di incontrare domande d'offerta e questo nonostante i tanti proclami sui patti per il lavoro gli accordi a livelli di zona la realtà è che il 96% delle imprese su un campione preso a base dell'indagine IRPET oggi ancora ha difficoltà a reperire personale questo significa che sulle politiche dell'occupazione questa regione evidentemente ha fallito che sulle politiche per la formazione evidentemente non si sono messe in campo delle strategie adeguate che quando si pensa di risolvere le crisi aziendali estorcendo all'impresa dei soldi pur di come dire di uscire dal territorio e si crede in questo modo di salvaguardare l'occupazione io continuo a ribadire i miei dubbi su questo tipo di approccio dicevamo della crescita crescita che naturalmente che cosa presuppone presuppone la fiducia nel sistema toscana un sistema toscana che tutto quanto insieme deve come dire entrare dentro un meccanismo virtuoso io dico subito che sono soddisfatta anche del lavoro che abbiamo fatto in commissione anche con i colleghi della maggioranza che ringrazio per la disponibilità ad aver accolto diversi emendamenti che dal mio punto di vista in qualche modo intervenivano a colmare o comunque a chiarire alcuni aspetti lo abbiamo fatto parlando di crescita sulla ribadendo la necessità di un sostegno effettivo a quello che è l'efficientamento delle realtà produttive dei siti industriali lo abbiamo fatto cercando di sul fronte del turismo introducendo una voce secondo me importante che è la guida enogastronomica che può essere sicuramente una possibilità non solo di lavoro qualificato ma anche di espandere il turismo decongestionando i centri storici perché l'altra vera partita è quanto questa politica che si basa sul turismo possa in qualche modo anche essere sostenibile e questa è l'altra vera sfida la sostenibilità del turismo nei centri storici e la questione del turismo diffuso vedremo poi come saranno declinate e naturalmente appunto dicevo prima la questione della fiducia che è una questione essenziale fiducia perché per creare quello che è diciamo la base perché si possa vivere in questa regione con un livello di servizio adeguato con un lavoro adeguato perché si possa in poche parole costituire quel nucleo centrale della società che è la famiglia famiglia largamente intesa permettetemelo io non sto qui a fare molte sottigliezze e finalmente in questo piano regionale di sviluppo troviamo un chiaro riferimento alla famiglia al sostegno alla natalità perché non ci dimentichiamo che anche questa regione sconta quella che è una crisi demografica importante a livello nazionale in questi giorni si parla addirittura di una silver economy cioè noi abbiamo superato gli anziani rispetto ai giovani nel nostro paese e questo genera addirittura una economia cosiddetta d'argento quindi della terza età dove tanti diciamo persone che escono dalla vita lavorativa che sono ancora in buona salute per carità addirittura continuano a essere attivi nel mondo del lavoro in questo modo ponendo che cosa un altro tema sul quale sono tornata più volte che anche questo ringrazio abbia trovato finalmente spazio nel piano regionale di sviluppo che è la questione generazionale il patto generazionale di questo parla chiaramente anche IRPET nel proprio rapporto proprio perché c'è una difficoltà certificata nel far sì non solo che si favorisca una successione nelle imprese ma addirittura una successione nella mano d'opera all'interno delle imprese questo perché evidentemente c'è una lacuna formativa che oggi nonostante i miliardi destinati alle politiche attive evidentemente non si è stato in grado di declinare in modo efficace questo credo che sia sotto gli occhi di tutti naturalmente in tutto questo c'è la questione del PNRR ne parlavo anche stamattina si parla appunto di PNRR soprattutto sul fronte investimenti noi non ci dimentichiamo che in questi due anni e mezzo abbiamo licenziato variazioni di bilancio sostanzialmente a debito aumentando l'idebitamento di questa regione nella prospettiva di fare investimenti bisogna anche vedere poi che tipo di investimenti si vanno a finanziare perché altrimenti ci ritroviamo diciamo a dover finanziare gli investimenti più svariati al di fuori di una cornice programmatoria che noi arriviamo ad affrontare solamente oggi il vero uno dei dati più interessanti è che in relazione anche alle risorse del PNRR che hanno una loro potenzialità anche in termini di occupazione e di fil noi abbiamo un 64% di risorse destinate alla pubblica amministrazione questo vuol dire che noi agiamo essenzialmente sul piano degli investimenti pubblici voi capite che in una nazione in una regione che è fortemente ancora ancorata a procedimenti da un punto di vista burocratico quantomeno complicati o complessi o lunghi e anche devo dire legata a tutta una serie di questioni che poi derivano da una congiuntura internazionale che ha portato al rincaro dei materiali a un rincaro anche delle energie altra questione e apro un'altra parentesi la questione energetica che non è secondaria e che il governo ha fatto bene a diciamo ottenere in primo piano nella propria azione perché è certificato anche qui che purtroppo la gran parte dei costi energetici si sono scaricati da parte dell'azienda sul consumatore finale e la partita dell'inflazione e permettetemi non ho visto grandissime diciamo misure di sostegno anche straordinarie sia per quanto riguarda il potere d'acquisto sia per quanto riguarda appunto il caro vita che si è abbattuto anche sui toscani ecco detto questo è chiaro che se si punta sugli investimenti pubblici dobbiamo anche creare le condizioni perché questo investimento pubblico possa dare i risultati sperati e purtroppo come dire questo dicevo sconta anche delle ingessature dall'altro il poco coinvolgimento il poco riflesso che anche questa sfida diciamo europea porta sul capitale privato diciamo determina anche un certo ridimensionamento di quello che potrebbe essere il potenziale il potenziale del PIL c'è un punto secondo me importante e riguarda quello che noi intendiamo per investimento un investimento che deve essere generazionale deve essere un investimento di prospettiva ed è un investimento che credo ne parla anche il rapporto IRPET di cui abbiamo in qualche modo accennato anche nei nostri dibattiti ed è la questione degli investimenti sul nostro territorio sulle nostre facilità su quello che sono su quello che è l'ambiente quello che davvero sarebbe un investimento duraturo ed in prospettiva visto che si parla tanto anche di cambiamento climatico è l'investimento sul nostro territorio un territorio che molto spesso troppo spesso evidenza fragilità anche frutto purtroppo di scelte politiche nel passato che hanno sacrificato molto suolo anche nelle aree urbane oggi si pensa di ritornare indietro a volte anche in modo così fa anche sorridere come si possa pensare che di fronte a una cementificazione selvaggia si risolve dal problema della sostenibilità della fragilità del territorio con gli orti urbani però questo è in realtà ripeto un vero grande investimento su un grande progetto di messa in sicurezza delle aree fragili significherebbe anche secondo me colmare quelle diseguaglianze di cui molto spesso parliamo ma che in realtà guardate se si analizza anche qui ritorno un passo indietro la questione del PNRR noi scopriamo che se facciamo investimenti pubblici dedicati ed esclusivi su una sola area di questa regione noi sulle diseguaglianze non interveniamo se per investimento intendiamo tramvie alta velocità piuttosto che strade e quant'altro qui non esiste solo un'area su cui debbano ricadere i benefici degli investimenti pubblici esiste una regione che ha bisogno di una corale ridistribuzione in termini di investimenti pubblici e sicuramente un investimento principe è la tutela del nostro territorio due brevi notazioni sul DEFRE molto è stato detto l'abbiamo detto anche durante la nostra mattinata io credo che questa diciamo piano regionale di sviluppo abbia in qualche modo non abbia colto quello che a mio avviso dovrebbe essere diciamo l'elaborazione di un nuovo modello socio-economico che tenga anche conto delle mutazioni che stanno diciamo accadendo non solo per effetto della contingenza internazionale non si è riusciti a leggere in modo lucido alcune dinamiche dal mio punto di vista e questo rischia di essere grave perché si rischiano di perdere anche delle occasioni il debito va bene ma il debito deve essere un debito dicevamo virtuoso e che nasce da una programmazione perché altrimenti è chiaro che c'è noi viviamo un totale scollamento rispetto a ciò che è programmato e a ciò che invece la parte finanziaria dovrebbe dovrebbe realizzare abbiamo già detto di questo mancato coordinamento multilivello e abbiamo già detto che ci sono tantissimi nodi irrisolti nella nella nostra nella nostra regione io credo che un PRS che possa definirsi tale parta senza dubbio dal dal concetto di crescita e l'ho detto crescita dalla quale puoi far discendere politiche di sviluppo che riguardano le attività produttive a tutto fondo dal commercio ma anche la cultura intesa come economia della cultura ne abbiamo parlato quindi dalla crescita allo sviluppo affinché si possa creare un meccanismo virtuoso che centri che cosa l'azione politica poi sul sostegno all'occupazione perché è dal lavoro che naturalmente discende tutto quanto discendono le opportunità per i giovani discende la possibilità che anche chi oggi è nella fascia della terza età ma è ancora attivo contribuisca anche a formare e ad effettuare appunto a favorire questo passaggio generazionale significa creare un modello sociale dove le famiglie e chi vuole investire la propria vita in questa regione abbia davvero un sistema sociale al passo coi tempi e non bastano naturalmente i nidi gratis e naturalmente un grande tema quello degli investimenti investimenti però a tutto campo investimenti che davvero guardino una prospettiva di uguaglianza della regione toscana che si concentri sulla viabilità che si concentri sui servizi anche non ne abbiamo parlato la partita della gestione dei pubblici servizi pare che non debba essere oggetto di un dibattito del Consiglio regionale quando io invece credo che questo tema sia un tema centrale in questo momento in cui ci sono dei movimenti importanti e se non parliamo dei modi degli strumenti con cui intendiamo gestire pubblici servizi nella nostra regione credo che poi anche il dibattito sulla questione del piano dei rifiuti resti anche mozzo per non parlare poi del quadro sanitario un quadro sanitario naturalmente scontra le difficoltà che ci siamo detti che non da stamattina con una quasi impossibilità di trovare la quadra di fronte ad una assenza chiamiamola così ad una impossibilità di programmazione di organizzazione che ci dica il reale fa bisogno del sistema sanitario tralascio la questione di partecipato sulle quali credo abbiamo abbondantemente come dire sviscerato l'argomento io giudico anche qui segno di estrema difficoltà nel saper gestire anche fasi delicate mi riferisco in particolare alla questione FIDI Toscana sviluppo toscana che doveva avere tempi ben diversi che invece vediamo invece posticipare quando in realtà proprio per quello che dicevo prima aver avuto oggi in piedi un'agenzia regionale per lo sviluppo degna di questo nome che allo stesso tempo assistesse magari le imprese in una fase delicata come quella del PNRR ecco voi capite bene che se tutto questo arriverà alla fine di quest'anno magari ancora verrà posticipato al giugno del 2024 capite bene l'inutilità a quel punto di avere uno strumento di cui avremmo dovuto essere già dotati da tempo proprio per far fronte a queste diciamo sfide nuove che ripeto io credo non vengano forse affrontate con la dovuta lucidità e ribadisco e mi spiace molto che oggi su questi temi non abbiamo davvero una dialettica con la giunta regionale almeno per capire come intendano poi declinare questa cornice programmatoria anche perché la partita come ho detto stamattina della complementarietà anche della programmazione europea è una lacuna che noi ci portiamo dietro ormai da troppo tempo e mi sarebbe piaciuto che oggi qualcuno ci avesse spiegato come di fronte a dei dati precisi si intende correggere la rutta io evidentemente come dire concluderò il mio mandato senza aver avuto questa soddisfazione grazie grazie Capecchi sì grazie presidente colleghi io farò un intervento articolato soprattutto sul PRS e non sul DEFR comprendendo poco le ragioni del di una discussione unitaria e soprattutto di un contingentamento dei tempi così stretto a maggior ragione se lo confrontiamo con altre discussioni l'ultima delle quali sulla straordinaria questione dei tartufi ci ha occupato per ben due ore e mezza volevo fare un intervento polemico ma questa vicenda mi porta a una certa ilarità mi verrebbe da dire che dopo due ore e mezzo la montagna ha partorito un tartufino e devo dire che lo sforzo collettivo è riuscito a ricuscire una discussione molto articolata che ho visto ha suscitato interventi appassionati da parte quasi di ogni provincia mentre qui più semplicemente stiamo discutendo il quadro macroeconomico i pilastri dell'economia regionale le scelte infrastrutturali per i prossimi 10 15 20 anni ma naturalmente con lobby che valgono molto meno di quelle dei tartufai battute a parte perché non voglio essere provocatorio vorrei buttarla diciamo su un tono un pochino più scherzoso devo però dire questa questione questo atto del PRS davvero lo dico rivolto alla presidenza non potendo non notare come l'ha considerato che la discussione la differenza anche del valore della discussione fra il tartufo e il PRS emerge dal fatto che sul tartufo perlomeno un rappresentante della giunta era presente anche se largamente distratto sul PRS e sul DEFR non c'è nessuno della giunta il che voi capite bene risulta questo sì provocatorio non quello che io vado dicendo ma credo che questo sia provocatorio ma sia anche il segno di dove siamo finiti con la politica perché si rinuncia e dirò per come la vedo io personalmente a fare discussioni vere tra noi anche sui modelli anche sulle questioni di fondo su come analizziamo la realtà tant'è vero anche questo io mi sono permesso e chiedo scusa ai nostri collaboratori di far preparare un emendamento un po' particolare cioè che riprende l'ultimo studio di IRPET datato 26 di giugno e cerca di inserirlo all'interno del PRS perché nel PRS attuale c'è lo studio di 7 mesi fa voi capite bene che visto e considerato e questa discussione arriva con un ritardo di 3 anni e in qualche modo la delibera della giunta è di dicembre del 2022 siamo alla fine di luglio forse fatto 30 si dice dalle mie parti si poteva fare 31 e inseriamoci noi lo chiediamo non perché riteniamo che IRPET sia esente diciamo da responsabilità o sia la panacea di tutti i mali ma sicuramente si tratta di uno studio assolutamente rilevante e in qualche modo riferibile alla realtà di oggi detto questo dicevo il vero segno che oggi percepiamo al di là dell'assenza rumorosa della giunta è la trasformazione del ruolo delle regioni dobbiamo prenderne atto colleghi mi riferisco in particolar modo alla maggioranza di oggi e consentitemelo io spero alla maggioranza di domani le regioni non sono più caro presidente enti di normazione ma sono enti di gestione non siamo più enti di programmazione siamo enti di gestione è una trasformazione per la quale noi non siamo pronti non abbiamo strumenti veloci ed efficaci abbiamo dobbiamo dircelo nonostante tutti gli sforzi che fanno un personale che professionalmente non è all'altezza di star dietro io parlo di quello che è di supporto al consiglio regionale che dovrebbe aiutare a capirci questa roba non so se lo vedono anche i concittadini cioè noi qui qui dentro ci sta qualche miliardo di spese in questa tabella io sfido se me la sapete spiegare essendo un consigliere mediamente attento la combinazione di queste di queste crocettine che vale per ciascuna delle programmazioni centinaia di milioni di euro e dove sono e come si utilizzano gli strumenti di monitoraggio per capire noi che ne siamo politicamente responsabili efficacia e efficienza di queste scelte e non lo dico badate bene con una critica rivolta solo a questa maggioranza o a questa giunta semmai leggeranno il verbale di oggi lo dico perché sta involgendo in questo paese una trasformazione oltre a quella che riguarda le regioni da ente di programmazione e normazione a ente di gestione sostanzialmente ma anche quella di rispondere in tempi sempre più stretti a una forma di dibattito e di finanziamento drogato perché prima c'era un riparto dei soldi per cui le regioni avevano nella loro autonomia la possibilità di scegliere contrattavano le risorse ma le scelte fondamentalmente si facevano qui oggi sul modello del PNRR le scelte le fanno da un'altra parte e ti dicono noi ti si dà i soldi ti si danno per fare questo a debito o lo fai entro tre mesi sei mesi un anno un anno e mezzo oppure li perdi e di fronte all'opinione pubblica sei un cattivo amministratore perché perdi i soldi e allora noi oggi e ieri e probabilmente anche domani daremo il via a tanti di quei progetti sui quali non siamo nemmeno in grado di capire che cosa effettivamente sono solo e soltanto con la furia la fretta la necessità impellente di non perdere i quattrini ed è un meccanismo ed è un meccanismo che lo dico almeno dal mio punto di vista che rischia di schiacciare soprattutto le assemblee soprattutto le assemblee che dovrebbero servire invece come luogo di confronto per fare un ragionamento di medio-lungo respiro e non è un caso e qui chiudo il cerchio diciamo dal mio punto di vista della differenza fra il dibattito di prima e quello di questo momento che si è accettato anche il contingentamento dei tempi sul piano regionale di sviluppo perché poi alla fine fondamentalmente conta più diciamo fare e la giunta è la prima a non aver interesse ad ascoltare quello che gli dice il consiglio perché si scambia la responsabilità e il senso di responsabilità di tutti per la prassi e le regole quasi si vivono come che sono formali se non sarebbero regole come un disturbo come un intrancio una rottura di scatole vediamo quando si esce da qui non guardiamo tutti insieme con responsabilità la qualità del lavoro che si è fatto vediamo quanto ci si mette a farlo quello diventa il tema e guardate io lo dico consapevole dei miei personali limiti anzi mi scuso perché non stando bene dovrò anche probabilmente andare via prima e non so quanto riesco ad essere lucido nella mia analisi ma guardate non lo diciamo noi penso che ci parliate anche voi con gli uffici con quelli soprattutto interni al consiglio ma anche della giunta perché noi siamo perennemente in ritardo su tutto su ogni dibattito noi siamo in ritardo rispetto non solo alla giunta ma più in generale all'economia quell'economia che vorremmo conoscere in qualche modo sostenere ed aiutare e in questo vuoto chiaramente siccome la politica non può non occuparsene che succede interviene la giunta sono decine gli atti le delibere di giunta i disciplinari si inventano locuzioni formali incredibili per giustificare interventi sull'emergenza sull'urgenza che in realtà poi diventano stabili per anni per anni succede quello che succede a livello nazionale con i decreti ovviamente e quindi lo dico non è che c'è una differenziazione di colore è un sistema di trasformazione ci sta travolgendo un po' tutti e guardate la cartina di Tornasole sempre per come li leggo io di Ati e gli Atti la dà la situazione della pianificazione dei piani scusate il gioco di parole cioè la programmazione dei piani non so se l'avete letta quella scheda dove c'è la griglia con delle motivazioni molto stringate voglio usare questa espressione che rimandiamo ancora ancora c'è il piano delle acque l'informativa al consiglio regionale è stata fatta nel 2017 sono passati sei anni in sei anni non siamo stati in grado di dotarsi del nuovo piano delle acque e si dice lo faremo forse entro la fine di questa legislatura e vi sembra giustamente ponete il tema ambientale che il tema della risorsa idrica non sia fondamentale per quello che sta succedendo in questo paese e nel mondo eppure siamo indietro non cito se non per titoli il piano dei rifiuti e più complessivamente il tema della riorganizzazione dei servizi pubblici su cui questa regione non spende una parola mentre invece dal punto di vista quali quantitativo dell'organizzazione è un tema centrale quello dell'organizzazione dei servizi pubblici io mi ricordo una conferenza stampa del presidente Gianni che annunciò insieme al sindaco Brenda Barnini e a qualcun altro che avevano risolto il problema dei rifiuti facendo il gasificatore a Empoli non so se ve lo ricordate e annunciando l'operazione della multi utility io non ricordo altro dentro a quest'aula nelle commissioni sull'organizzazione dei servizi pubblici che peraltro fanno economia in questa regione come in tutte le altre ma vi ho a concludere perché non voglio rubare tempo ai colleghi con questo meccanismo beffardo per cui il primo che parla naturalmente sottrae tempo agli altri faccio un esempio di metodo e non di merito perché anche dentro al nostro gruppo al nostro partito la discussione è abbastanza articolata Toscana strade promessa elettorale del presidente Gianni non ve li leggo tutti ma vi invito ad andarli a rivedere la prima versione del PRS con il programma di Gianni con la seconda versione del PRS da una parte si dice si occupa solo di FIPILI da un'altra parte si dice si occupa delle strade regionali poi si torna indietro si fa la proposta di legge si manda alla Corte dei Conti sbagliando la procedura e gli si dice mentre nel PRS si dice già e si scrive che servirà per tutte le strade regionali alla Corte dei Conti gli si dice serve solo per la Firenze Pisa Livorno vi sembra un atteggiamento normale a voi? a me non pare normale non pare normale perché è il governo delle volontà che invece non tiene conto di quelle che sono le norme anche solo procedurali fosse successo ad altre latitudini con il parere che vi invito a trovare a leggere della Corte dei Conti su questa procedura qualche dirigente qualche funzionario avrebbe preso una lavata di capo perché si è sbagliato completamente la procedura e lo dico perché nonostante quello che ci dicono si va avanti lo stesso perché siccome si è detto bisogna andare avanti lo stesso quello che manca e chiudo all'interno secondo noi di questo piano regionale di sviluppo ci sarà modo io spero perché è previsto dal nostro ordinamento vi ricordo soltanto l'articolo 11 dello Statuto il Consiglio dovrebbe verificare la gestione complessiva dell'attività economica e finanziaria della Regione la rispondenza dei risultati delle politiche regionali agli obiettivi di governo i risultati gestionali degli enti delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione e li cito solo per titoli nelle forme previste dalla legge verificare almeno annualmente lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale io non lo so forse mi distrago quando si fanno queste cose penso di essere mediamente attento le cose che mancano e che noi lasciamo a verbale perché la Giunta ci rifletta sopra il tema delle dipendenze l'avevo già detto il Presidente Gianni lo volevo ringraziare se fosse stato presente lo faccio tramite voi e tramite diciamo il video perché è venuto con me a visitare una comunità di recupero che non conosceva ci sono migliaia di ragazzi ancora nella nostra regione che cadono vittime dell'alcol ma soprattutto delle droghe è un tema serio non solo quello più in generale quello delle dipendenze servizi pubblici ho detto gestione del patrimonio il personale le relazioni con i sindacati il tema della formazione interna e esterna quello che accennava anche il Consigliere Petrucci in un'altra discussione infine gli assetti istituzionali guardate in questa regione si tende a confondere lo dico perché leggo come voi giornali la città metropolitana con l'area metropolitana l'area metropolitana è nata un delibera di giunta nel 2000 era l'asse centrale di questa regione Firenze Prato Pistoia verso Lucca è scomparsa non si fa più ragionamento di area metropolitana si parla solo di città metropolitana dandogli molte troppe risorse rispetto agli altri questo è un tema vero è un tema serio di equilibrio anche istituzionale perché la città metropolitana siccome è normata a livello comunitario ha già linee di finanziamento proprie e non si può continuare a assistere a una concentrazione di potere e di soldi come si sta avvenendo a discapito degli altri territori hai voglia poi a dire la Toscana è diffusa e tutti devono stare dentro facciamo una verifica puntuale di quanti soldi vanno da una parte e dall'altra e infine e ho chiuso davvero scusandomi anche con i colleghi al di là di un tema di identità di comunità regionale che cambia non siamo così stupidi con i paraocchi da non vedere che la nostra società sta cambiando ma questo non vuol dire naturalmente rinunciare ad avere un'idea di comunità e di servizi per la nostra comunità che è sociale ma è anche economica il tema della mafia per la quale abbiamo fatto una commissione speciale di inchiesta il tema dell'anticorruzione il tema di come questa amministrazione riesce a essere trasparente e raggiungibile anche da parte dei cittadini e stride un po' consentitemi la battuta aver assistito alla informativa da parte della giunta su come migliorare la legge sul dibattito pubblico quando la giunta si parla del PRS e del DEFRE snobba così clamorosamente i rappresentanti eletti dai cittadini grazie presidente grazie Fantozzi prego Bugetti Bugetti allora è difficile anche tra di noi con il tempo a disposizione distinguersi per le considerazioni su un testo così importante io nella lettura a un certo punto ho trovato anche dei tratti evangelici in qualche modo però come diceva il collega Bugliani è chiaro che non si può prescindere da una valutazione di un documento di questo genere senza tenere conto delle variabili che sono in gioco variabili che oggettivamente sono epocali c'è poco c'è poco da fare e sono variabili che lo condizionano Bucker però lo chiamano anche a essere giudicato e valutato in pochissimi minuti anche dall'opposizione in quest'aula e c'è tutto nel volume c'è il covid c'è l'inflazione c'è la crisi energetica non si dice ma c'è anche il governo Beloni ci sono le problematiche di rapporto ci sono un po' anche un pochino più sfumate delle carenze i ritardi le inefficienze che però non vengono mai ascritte a responsabilità di nessuno e questo è abbastanza curioso ma lo dirò poco insomma in sostanza cerchiamo anche io cerchio di essere abbastanza sintetico per quanto è possibile però per le somme che ci sono qui a disposizione e per gli obiettivi che sono in gioco ci saremmo aspettati francamente di più nella lettura a una seconda una terza lettura emerge chiaramente la distanza che c'è fra il testo del piano di sviluppo la realtà che viene raccontata ogni giorno a mezzo stampa e poi quello che c'è fuori dal palazzo e quello che mi preoccupa ma io lo volevo dire se ci fosse stato effettivamente qualcuno presente della giunta è che comunque uno spirito costruttivo non abbandona questa parte dell'aula che è chiamata l'opposizione temporaneamente ma che vede parte di questa opposizione invece governare buona parte del territorio regionale tra i comuni tra i comuni capoluogo e la vede governare il paese quindi ci vuole uno spirito costruttivo allora cercando di essere costruttivi io ho inteso costruttivo anche l'intervento del collega Capecchi perché comunque è andato al merito di questioni che possono essere recuperate portate al centro del dibattito e anche della formulazione finale del testo perché le tabelle è vero sono abbastanza curioso siamo quasi al limite dell'eneghimistico qualche volta io qualcuno ho provato a compilarla ma non ce l'ho fatta sul contenuto però io ho fatto degli appunti che sono importanti perché il contenuto è ampiamente per tanti parti è condivisibile è condivisibile soprattutto in quelle parti che sono diventate ineludibili perché non hanno alternativa di applicazione quindi c'è poco sostanzialmente da derogare all'ideologia al programma elettorale o a quelli che sono anche desiderata di coloro che sedono sui banchi di maggioranza non c'è più tempo c'è il tempo di governare quindi anche qui chiaramente la filosofia lascia un pochino il tempo che trova e il bello è che nelle pagine del PRS c'è tutto chi l'ha fatto l'avete fatto l'avete emendato avete fatto un ottimo lavoro c'è tutto sembra la casa del maschetti all'isodotto c'è tutto c'è tutto e a un certo punto ci sono delle sezioni ci sono delle sezioni la salute le infrastrutture che sono fatte talmente bene dove però c'è il rischio del troppo pieno cioè c'è veramente il rischio c'è uno stile che è lo stile con il quale avete formulato questo documento che ceda la quantità cioè si vuole dire talmente tutto si vuole dire tutto e il problema è che quando si arriva a dire tutto non è che succede che non si vuole dire niente poi alla fine succede che elementi importanti rischiano di finire banalizzati relegandosi solo alla mera enunciazione e il problema è che tanti dei nostri emendamenti faranno la stessa fine perché chiaramente l'eco del lavoro che può aver prodotto l'opposizione è quella di aver portato quello che mancava sostanzialmente perché c'era tanto c'era quasi tutto ma qualcosa o si è stati dimentichi o in qualche modo non c'è stato ottimo puntare per esempio su questo è un passaggio del presidente sulla conoscenza sulla bellezza e sull'ingegno dei toscani come un elemento per cercare di raggiungere i grandi obiettivi e questo mi fa piacere perché forse è l'unica cosa sulle quali non riuscirete a mettere le mani dal punto di vista politico che fa parte della natura dello spirito dell'uomo e quindi probabilmente su questo sarà difficile che mettiate diciamo anche qui il bavaglio o comunque la gavezza per quanto riguarda altre cose sorprendenti c'è questa cosa che spunta a un certo punto la toscana a due velocità io ero già rimasto con le aree interne e con la tercone diffusa anche la toscana a due velocità a me ma un pochino meravigliato chiederei quando farete le repliche se ci spiegate quando vi siete accorti che la toscana sta andando a due velocità perché noi dai dati che abbiamo per la mano qualche idea ce la siamo fatta e potrebbe essere parte probabilmente del dibattito notturno anche sull'ambiente io mi sono emozionato perché vedere scritto che l'ambiente non è un freno a crescita economica è un grandissimo passo avanti se magari aggiungiamo anche che nel centro dell'ambiente c'è l'uomo probabilmente si chiude il cerchio e quindi si superano questioni che non sono più soltanto di governo ma anche culturali educative e politiche per tutti noi poi andando avanti questo discorso bellissimo il capitolo Cardiopalma sulla ricostruzione della crisi economica a ragione ci sono tutti i dati ci sono tutti i dati sulla ricostruzione della crisi economica ci sono i punti deboli lo ricordava Bugliani prima si naviga un po' a vista sui punti di forza si precisa che la priorità della politica industriale è quella su cui bisogna puntare e poi ci sono tutti c'è tutto il resto ci sono le vittime della crisi economica c'è l'assassino quando non è la congiuntura internazionale del governo poi non si sa bene il complice non c'è c'è non si sa bene la regione che fa se è complice o se è testimone insomma racconta che c'è stata una crisi però da qualche parte la regione la regione toscana e chi la governa insomma qualche responsabilità da questo foglio non emerge mai che si venga che si venga assunta vabbè ma sono questioni di stile nessuno le contesta nessuno le contesta sulle aree interne toscana diffusa e aree interne a me piace il capitolo per come è stato concepito e per come è formulato però vorrei precisare che l'area interne far parte delle aree interne per esempio qui la Garfagnana lo dico al collega Puppa è citata una volta sola la Puccini non è mai citata lo dico da Lucchese ma lo dico anche da Italiano lo dico anche da non lo so insomma da amante internazionale della musica che non ci sia mai Puccini come esigere che a Salisburgo nel Salisburguese non si citi Mozart ma insomma potrei fare raffronti anche di diversa natura però le aree interne per quanto siano importanti non sono un destino io non voglio che la Garfagnana resti una riserva indiana o diventi una riserva indiana bisogna fare in modo che da qualche parte venga scritto che si lavora alle aree interne perché si esca dalla vicitura di aree interne e si torni a essere neanche a Toscana a due motori ma a Toscana diciamo un pochino uguale per tutti lo stesso vale per la Toscana per la Toscana diffusa a me la Toscana diffusa che sia una destinazione mi preoccupa molto la Toscana diffusa è un elemento che viene speso molto all'interno del PRS ma mi preoccupa il fatto che fra qualche tempo non venga in mente a qualche comune di chiedersi come si fa a entrarci invece che uscirci e anche questo è un elemento su cui si potrebbe dibattere e vorrei che dibattessimo perché sono questioni comunque al di là di come lo esprimo io sono discorsi serissimi anche la transizione che è sostenibile è importante cioè ci chiediamo qual è il costo della sostenibilità a me va bene tutto a prescindere del fatto ma non ve la prendiate a male che insomma se ci deve essere un letto fine di questa storia non necessariamente debba essere l'elezione di Gianni e di voi in maggioranza credo che si possa lavorare un letto fine diverso diciamo che possa essere quello di raggiungere tutti assieme i risultati che sono auspicati dagli obiettivi molto molto importanti che vengono nucleati quindi l'inclusione l'uguaglianza l'integrazione sperando che sia vera che sia quella vera la riduzione delle emissioni la rotta a rischio idrogeologico ecco su questa io spero che tra gli interventi che faremo ci si pigi molto perché se gli altri interventi possono aspettare i quinquenni i decenni le scadenze anche dei progetti internazionali la crisi idrogeologica quando capita si paga in giornata quindi sarebbe interessante anche qui riqualificare a dare comunque nuova linfa anche dal punto di vista di quel che fanno che si domandano i cittadini alla vita dei nostri consorsi di bonifica e niente vado alla conclusione altrimenti lasciamo pochissimo spazio ai colleghi considero che però ci sia una lacuna importantissima a questo documento e mi dispiace che non ci sia il presidente Gianni perché da un uomo dello spessore di Gianni sotto questi aspetti che dirò ora invece qualcosa me l'aspettavo perché per me manca proprio c'è un vulnus diceva prima la meina usavo il termine vulnus c'è proprio una carenza forte che è il messaggio al centro di tutta questa operazione vedete vengono indicati degli obiettivi che sono di ricaduta internazionale che sono di ricaduta mondiale però non c'è mai in questa narrazione il protagonista ultimo di tutta questa politica di tutta questa spesa di tutto questo investimento che è il cittadino toscano cioè non c'è manca tante cose ma quello che non c'è qui è l'anima non c'è il cuore cioè non c'è l'idea che non ci sarà transizione non ci sarà sostenibilità se non riusciamo a portare il cittadino a condividere queste finalità e la condivisione non è che può passare sempre attraverso la logica della coercizione o dell'incentivo economico qui se c'è una cosa che manca è anche l'investimento nell'educazione le tematiche che vogliamo produrre come obiettivo come obiettivo perché e qui cerco di concludere siamo a 25 minuti l'esigenza di fondo è che la transizione di cui si parla in queste pagine è anche una transizione di carattere politico cioè non si può transare il mondo l'economia l'ambiente e non transare coloro che vanno a rappresentare al di là dei rapporti fra regione toscana il governo nazionale e gli enti locali c'è qui una grandissima opportunità di rifondere anche la politica di rimettere al centro della discussione coloro che oggi non vanno a votare di portare i cittadini toscani a essere un modello magari esposto o esportato anche all'estero oltre che a livello nazionale per quello che può essere un percorso da fare tutti assieme ebbene questo francamente non emerge così in maniera importante è un appello quello che quindi facciamo dai banchi dell'opposizione per lo meno lo fa Fratelli d'Italia a essere costruttivi così abbiamo fatto anche attraverso la presentazione dei nostri emendamenti che vi dobbiamo chiedere scusa per il numero per la sostanza però di fatto la volontà è quella di uscire di qui con un documento che metta nelle condizioni di operare al meglio per il raggiungimento di risultati che non saranno né facili da ottenere né assolutamente scontati né per il governa né per chi oggi ha l'onore e anche il piacere di stare un pochino all'opposizione grazie Bartolini grazie presidente oggi il nostro tempo non lo so forse va cambiato riparto va bene adesso riparto mi hanno già levato e va bene oggi che dire con un ritardo di appena due anni e mezzo ci troviamo a discutere dell'atto principale di ogni amministrazione regionale il programma regionale di sviluppo lo sapete io ho insegnato a parte che insegnavo matematica ma sapevo anche l'italiano faccio parte della commissione cultura e istruzione e sono andata a cercarmi proprio il significato di programma dalla Treccani dice è un'enunciazione particolareggiata verbale o scritta di ciò che si vuol fare di una linea di condotta da seguire degli obiettivi a cui si mira e dei mezzi con cui si intende raggiungerli regionale lo sappiamo tutti sviluppo vuol dire progresso crescita in estensione quantità produttività ed efficienza faccio questo breve cappello introduttivo per inquadrare l'importanza di queste oltre 200 pagine che dovrebbero permettetemi l'uso del condizionale definire gli obiettivi le strategie e le politiche che la Toscana si propone di realizzare nell'arco della legislatura sì nella legislatura fino al 2025 considerando che siamo a luglio 2023 in pratica mancano circa due anni ora come si fa a realizzare tutto quanto descritto in due anni le possibilità possono essere due o avete già tutte o quasi le azioni descritte iniziate e allora sarebbe inutile parlarne oppure riuscirete a fare una parte di quello che avete scritto e si rivedrà il solito programma l'anno prossimo che rimbalza di legislatura in legislatura dove sono andata quindi restando in tema scolastico il mio voto non è sufficiente a questo piano regionale di sviluppo per portarlo almeno alla sufficienza e poi anche di più ovviamente noi come opposizione diciamo responsabile abbiamo deciso di presentare una serie di emendamenti proprio perché vogliamo essere propositivi così come diceva il collega Veneri io occupandomi di cultura ho cercato di produrre degli emendamenti che mirassero ad alcune storture presenti nel sistema precedente e penso ai contributi alla sostenibilità finanziaria di alcuni soggetti come il maggio musicale o eventi invidiati in tutto il mondo come il Carnerà Valle di Viareggio o il Festival Pucciniano o ai moltissimi teatri che abbiamo in giro per la Toscana che ha bisogno tutti di una programmazione economica strutturale e non di interventi spot dobbiamo inoltre trovare il modo di trasformare il litorale pisano nella cinecittà toscana in modo da far recuperare la storica vocazione cinematografica a un territorio che vada in questo modo ad attrarre nuove imprese internazionali poi vorrei soffermarmi sulla formazione perché dal mondo delle imprese chiedono lavoratori formati e non ne trovano neanche non formati li trovano a dire la verità perché li stanno cercando anche per lavori che non c'è bisogno di formazione qualificata è un periodo un po' particolare il lavoro però è importante il lavoro qualificato è ancora più importante e quindi bisogna dedicarsi alla formazione professionalizzante in qualche modo bisogna riformare gli istituti professionali per proprio far innovare anche il sistema produttivo regionale perché le imprese hanno bisogno di innovarsi ma hanno bisogno di persone preparate che le aiutino in questa innovazione poi ancora mi preme essendo anche membro della commissione aree interne valorizzare i territori cosiddetti delle aree interne montane e anche insulari e per far sì che queste aree che hanno spesso anche diciamo siti rurali particolari come possono essere quelli che si chiamavano una volta i metati i mulini gli essiccatoi cose del nostro passato anche recente di quando eravamo quasi tutti contadini diciamo così che secondo me andrebbero fatti rivalutare o dagli enti locali in cui si trovano oppure con un aiuto anche della regione per far sì che in questi luoghi si riesca a coniugare un certo tipo di turismo che sicuramente potrebbe dare un aiuto economico alle persone che ci vivono per fare in modo che non si spopolino ancora di più quindi cultura e valorizzazione delle aree interne devono essere al centro dell'azione di sviluppo dei prossimi anni e mi auguro che accanto a quanto definito nel vostro piano regionale di sviluppo possano trovare spazio molte idee di buonsenso presentate quest'oggi dall'opposizione grazie grazie consigliera Bartolini la parola alla consigliera Valentina Mercanti presidente ma abbiamo seguito la gestazione di questo piano regionale di sviluppo dal primo giorno essendo membro della prima commissione che devo dire su questo ha lavorato molto e ringrazio davvero il lavoro straordinario che hanno fatto gli uffici tecnici perché sono sempre stati disponibili sempre presenti anche alle tante domande e ai tanti lavori di approfondimento che abbiamo fatto fra cui quello di spiegarci le tabelle che più volte sono state illustrate quindi siamo stati tutti messi nelle condizioni di capire ovviamente chi le voleva approfondire e capire perché su questo ecco ci tengo a dirlo però davvero gli uffici sono sempre oltre che molto professionali anche davvero molto disponibili questo piano regionale di sviluppo arriva in ritardo vero ma purtroppo dal nostro insediamento siamo stati una legislatura in maniera oggettiva tanto per usare un'effemismo poco fortunata ci siamo insediati con il covid nel pieno della seconda ondata peraltro anche con un rinnovamento sia della giunta regionale che del consiglio perché era il presidente al primo mandato molti degli assessori in giunta sono al primo mandato il consiglio regionale stesso si è rinnovato quindi io non so voi come tutti almeno i primi tempi abbiamo avuto bisogno comunque di insediarci di conoscere anche gli stessi uffici dopo la pandemia finita traghettata per fortuna direi anche con un lavoro fatto molto bene lo abbiamo visto anche dai dati della sanità della fondazione Gimbe comunque nonostante la pandemia e lo stress che ha subito personale sanitario lo stesso bilancio della regione gli indicatori ci danno ancora a risultati qualitativi molto alti quindi frutto di un buon governo della regione toscana anche in questa prima parte della legislatura finita la pandemia arriva la guerra alle porte dell'Europa con tutta la situazione di incertezza internazionale di sfiducia anche della della cittadinanza di sfiducia da parte degli imprenditori e quindi con una sofferenza come molti anche denunciano degli investimenti perché c'è un po' la tendenza anche culturale che a me preoccupa e che credo che anche questo consiglio dovrebbe farci i conti quando soprattutto si parla di economia e crescita che è un po' l'abbandono di una visione di lungo periodo ma un po' più il vivere alla giornata c'è stato in questo un cambio di mentalità che qualsiasi settore noi oggi andiamo a interrogare purtroppo viene detto ce lo dicono gli imprenditori perché vedono io penso al mio settore il cartario c'è stato per quanto abbia segnali molto positivi lo si vede anche dall'ultimo rapporto di IRPET però c'è stata una flessione o quantomeno c'è una difficoltà nelle vendite soprattutto dei macchinari dovuti proprio a una prudenza che anche all'estero c'è nonostante le esportazioni nella nostra regione vadano molto bene e questo è un cambio di mentalità sul quale se noi non agiamo tutti insieme ovviamente anche insieme al governo però se noi non riusciamo a ricostruire la fiducia ecco questo vivere un po' alla giornata o comunque ragionare in breve periodo per vedere i risultati immediati rischia nel lungo periodo di portare gravi conseguenze molto gravi in termini di crescita di sviluppo di società in termini sociali che saranno ben più gravi purtroppo sia della pandemia che delle conseguenze della guerra questi ultimi due anni ovviamente sono stati difficili l'aumento dei costi energetici si è tornato a parlare di inflazione dopo decenni che non se ne parlava però nonostante tutto e mi fa piacere che il collega Capecchi parli del rapporto IRPET l'ultimo perché fa piacere avere dati aggiornati anche sulla situazione della Toscana che dimostra quanto alla fine le azioni che questa regione ha fatto siano andate nella direzione che abbiamo indicatori anche più alti della media nazionale grazie a una domanda interna grazie alle esportazioni grazie anche alle poli io non sono una grande stimatrice lo dico in maniera onesta delle politiche dei bonus perché sono più favorevole a politiche di tipo strutturali però ammetto che le politiche dei bonus soprattutto edilizie fatte in questo caso non c'era Fratelli d'Italia che sarà un domani maggioranza come forse sperano loro però poi grazie alle politiche del centro-sinistra in particolare la regione è riuscita a crescere nonostante una congiuntura internazionale assolutamente sfavorevole mentre preoccupa che le politiche di centro-destra penso alla rimodellazione penso alla cancellazione del reddito di cittadinanza non voglio difendere i 5 stelle chi mi conosce sa che non lo faccio mai volentieri però in maniera oggettiva quando poi si studia si vede che le misure del governo a un anno e poco più dal suo insediamento hanno fatto aumentare le famiglie povere o comunque quelle che si percepiscono più povere dimostrano che forse il problema più che le politiche regionali sono da guardare da altre parti perché noi più che metterci soldi più cercare di fronteggiare più che cercare di far crescere la regione e nel bilancio IRPET c'è scritto molto bene che poi sono le politiche di crescita che fanno sì che diminuisca che diminuisca che facciano aumentare scusate i contratti di lavoro più che le normative e tutte quindi su questo la regione io credo che nel rapporto IRPET si vede che in questi anni nonostante le difficoltà questa regione e questa legislatura si caratterizza per il buon governo così come fa piacere sentire dire dal collega Fantozzi mio concittadino anche se non è di Lucca ma è di Monte Carlo specifichiamolo però che in questo documento c'è tutto non va confuso questo documento però con altri tipi di documenti di programmazione è normale che non ci sia Puccini su cui peraltro la regione non ha mai fatto mancare il sostegno penso ai soldi che diamo al Pucciniamo ma penso al fatto che la regione è presente in ogni tavola anche sulle celebrazioni anche qui ecco io spero che non se ne occupi troppo il centro-destra visto che poi insomma con le scelte fatte sulle celebrazioni del Pucciniano alla fine gli eventi e le celebrazioni saranno ricordati più per le polemiche dei vari personaggi che per le cose fatte e quelle che staranno sul territorio mi auguro che le celebrazioni non finisca con un bel evento a qualche sagra per quanto fondamentale col maestro Veronese Bendato e la Beatrice Venezzi che farà parlare di sé magari invitando qualche personaggio discutibile ma mi auguro che il governo e il comitato nazionale avranno davvero la capacità non solo di indicare Puccini sul piano regionale di sviluppo che non ci deve essere ma che veramente avrete la capacità di essere ricordati nella mia provincia e io faccio il tifo sia per l'amministrazione comunale che per il governo perché prima di tutto prima dei partiti prima delle testere sto con Lucca e sto con il mio paese quindi io mi auguro che starete ricordati nella storia per quanto siete riusciti a portare Lucca e Puccini nel mondo perché al momento i risultati sinceramente a parte qualche articolo di cronaca polemica io non li vedo mentre vedo risultati tangibili della regione del governo toscano sul turismo visto che il turismo ci ha consentito riprendendo anche meglio di altre regioni di avere una crescita superiore alla media nazionale non lo dico io che può valere quel che conta ma strano una che gli piace studiare nelle prime pagine del rapporto IRPET quindi l'ultimo sul 2022 si vedono bene che poi le scelte strategiche che abbiamo fatto ci hanno pagato quindi documento chiaramente difficile documento completo che arriva a metà la legislatura e che credo abbia un profilo che si può tranquillamente dire non solo di fare da raccordo con altri con altri strumenti di pianificazione strategica vediamo la programmazione dei fondi europei il PNRR quindi per la prima volta in un documento abbiamo un insieme una regia e una visione complessiva dell'utilizzo delle risorse per i prossimi anni nella regione ma credo anche che questo documento dire che poi finirà nel 2025 è limitante perché è vero c'è tutto è vero che è completo è vero che in questi tre anni non si è affermato nessuno nonostante ci si sia tutti dovuti parlo della maggioranza ma parlo anche in maniera corretta dell'opposizione concentrare sulle varie emergenze che in questa legislatura abbiamo gestito non abbiamo partorito un tartofino per quanto anche il tartufo abbia la sua importanza e quando si interviene a nome del territorio io credo serva rispetto perché poi ognuno di noi cerca di fare l'interesse generale però risponde anche sì lo rivendico che abbiamo un attaccamento territoriale sul contingentamento dei tempi invece voglio esprimere solidarietà al capogruppo Torselli sfiduciato da voi pubblicamente in aula perché siccome sul contingentamento dei tempi è stata fatta una capigruppo dove non mi risulta che ci fossero pareri discordanti sul disconoscimento dei tempi quindi venire ora a dire che la maggioranza ha parlato su tartufi perché non crede nell'importanza del PRS e su questo si contingente tempi mentre sul PRS mentre su tartufi no lo trovo scorretto e lo trovo denigrante nei confronti del capogruppo Torselli che personalmente rispetto e quindi pubblicamente volevo dire che visto che il capogruppo rappresenta il gruppo ecco gli esprimevo la mia totale solidarietà e non volendo togliere tempi anche ai miei colleghi perché giustamente vorrei che si intervenisse tutti io ringrazio quest'ala e ringrazio per la grazie consigliera mercanti la parola alla presidente Irene Galletti presidente allora il dibattito su colleghi tranquilli può andare rientrato l'allarme sulle tempistiche grazie presidente colleghi allora il dibattito su due documenti PRS e DEF è inevitabilmente congiunto per quella che io definisco una surreale concomitanza nell'ambito della stessa seduta dei due perché è un'oggettiva anomalia ed è un aspetto che rileva anche nei termini di quello che poi è il giudizio che abbiamo espresso sia sui contenuti dei due documenti che sul metodo che la giunta a quanto vediamo intende continuare a portare avanti contenuti e metodi su cui lo dico anticipatamente esprimiamo un giudizio fortemente negativo l'elemento più rilevante all'interno del dibattito sulle PRS non può che prendere avvio come hanno fatto anche i colleghi dal fatto che esso viene presentato nell'aula del consiglio regionale con un ritardo clamoroso addirittura mentre il presidente Eugenio Gianni sta girando la Toscana a tappe per presentare illustrando la relazione di metà mandato della sua giunta e la cosa che devo dire per noi è più sorprendente è che tutto ciò viene vissuto dalla maggioranza in consiglio ma in generale anche dalla giunta con un'assoluta normalità per quello che ci è dato da vedere perlomeno e quindi è inevitabile pensare poi quello che anche altri soggetti autorevoli e quindi non avversari politici come nel nostro caso hanno sostenuto e intendo in primis la Corte dei Conti che abbiamo ascoltato non più tardi della scorsa settimana cioè che la giunta e il suo presidente lo dico in termini diciamo non che sono quelli utilizzati dalla Corte dei Conti ma che sono stati utilizzati anche da colleghi un po' più popolari navigano a vista sia sul piano politico che su quello dell'amministrazione che come vediamo corrono paralleli ma possono essere distinti ricordo e sottolineo che il PRS infatti è un documento fondamentale la bussola che ha anzi avrebbe in questo caso lo scopo di definire gli obiettivi e le politiche che la regione si propone di realizzare nell'arco di un'intera legislatura e che viene poi aggiornato annualmente col DEF ecco il motivo per cui si trova questa anomalia che senso può avere quindi a questo punto per noi discuterlo come per la giunta presentarlo nel mezzo della legislatura e poi mentre discutiamo quello che dovrebbe essere il penultimo se non terzultimo correttivo del piano programmatico della giunta stessa queste sono le prime considerazioni con metodo e tempistiche se invece andiamo a passare per delle veloci considerazioni sul complesso dei contenuti io ricordo il comunicato dell'8 giugno 2021 quando venne presentato il documento preliminare al PRS dove si leggeva che gli obiettivi dovevano essere questi trasformare l'impatto profondo della pandemia in un'opportunità così da aprire una fase nuova per la Toscana questo è lo spirito che anima anche il programma regionale per lo sviluppo 2021-2025 se ne parla al presente come se fosse già esistente siamo a luglio del 2023 questo è un comunicato del giugno 2021 quindi il documento chiave per segnare le linee per la ripartenza della nostra regione se aspettavamo il PRS per ripartire diciamo che avevamo qualche difficoltà mettiamola così scorrendo il testo che segue a questo che è un proclama diciamo di intenti troviamo degli obiettivi che sono tanto ambiziosi quanto uditi e riascoltati più volte nel corso non di questa legislatura ma anche della precedente e ancora inattuati a distanza di tempo con qualche ritocco e una modifica che però rilevo molto positivamente l'aggiunta finalmente degli indicatori di risultato che finalmente entrano a far parte dell'orizzonte di chi amministra la nostra regione e che trovo fondamentali noi abbiamo fatto della clausola valutativa che è uno strumento che è a disposizione anche della regione toscana uno dei motivi su cui più insistiamo per valutare l'impatto reale delle nostre leggi e quindi finalmente abbiamo gli indicatori di risultato però sarebbe interessante e qui arriva la nota dolente capire anche come si intende monitorare l'andamento dei percorsi perché nel documento possiamo leggere che esiste possiamo leggere un passaggio su una colonna della frequenza della rilevazione anche degli indicatori ma non come verranno fatte queste rilevazioni chi le fa con quali modalità ci sono indicati soltanto i numeri percentuali quindi abbiamo inserito gli indicatori che sono un passaggio valutativo fondamentale e però non si capisce com'è che viene fatto l'arrivamento annuale chi è che lo fa sono le agenzie della regione sono gli uffici della regione quindi è la regione che valuta se ha raggiunto gli indicatori che essa stessa si è data abbiamo un problema di terzi età che mi sembra non secondario un'altra considerazione sulla parte introduttiva del PRS dall'analisi che ne emerge sembra quasi che le difficoltà della regione siano interamente dovute all'emergenza pandemica del covid e alla guerra in Ucraina due giustificazioni che a nostro avviso vorrebbero coprire i molti errori appunto la navigazione a vista già citata precedentemente che è portata avanti ormai non da questa legislatura ma da due legislature e che non sfuggirà essere la vera causa delle aumentate di disuguaglianze della decentralizzazione dell'aumento delle vulnerabilità sociali anche del lavoro povero specialmente nel settore del turismo seconda commissione abbiamo parlato del turismo soltanto nell'ambito di PIL ma siamo stati gli unici a fare riferimento alla qualità del lavoro e alla stabilità di lavoro anche in questo settore che è dirimente per la regione toscana criticità ambientali tenuta del sistema idrogeologico molti altri fenomeni che delineano un peggioramento complessivo della qualità della vita di molti toscani e che non possono essere certo attribuiti né al covid né alla guerra in Ucraina invece sono servite da paravento per nascondere invece quelli che sono stati errori programmatici che è un aspetto che la corte dei conti non più tardi della settimana scorsa non ha mancato di sottolineare all'inizio del proprio intervento e anche dei suoi documenti se tocchiamo poi all'argomento dei servizi perché tutti noi possiamo verificare con mano l'impoverimento dei servizi sanitari del trasporto pubblico locale ora anche con gli aumenti delle tariffe oltre che con una diminuzione della qualità che ne dica il sondaggio che è stato commissionato dalla regione toscana e di molti altri fenomeni della tenuta delle infrastrutture stradali e ferroviarie in questo documento si parla di mobilità sostenibile e transizione ecologica di cui leggo progetti tanto ambiziosi quanto palesemente non in linea con la condotta che ha tenuto la regione toscana nell'emissione delle proprie leggi nel licenziare le proprie leggi e nei regolamenti l'unica azione sistematica e persistente che ho visto finora è stata quello lo smantellamento della sanità territoriale che ci sia scritto in questo documento e che fa il paio con lo smantellamento della legge Marson sulla tutela del territorio e del paesaggio non è così che si porta avanti la transizione ecologica riprendendo il ragionamento della programmazione passo dal PSRS al DEF che per molti versi come abbiamo detto si vanno a sovrapporre insistiamo su questa abitudine radicata della regione ripeto non da questa legislatura ma la del precedente quando si parla di programmazione e progettualità tendere a rinvio rimadulazioni continue di investimenti programmati e finanziati come ogni anno con la legge di bilancio sistematicamente riprogrammati e definanziati con successive leggi di variazioni sono esempi segnalati anche dalla Corte dei Conti di nuovo la cito perché altrimenti si fa presto a derubricare quelle che sono le nostre osservazioni come un attacco politico scomposto da parte di un'opposizione invece no lo fanno anche degli organi tecnici che nulla hanno di politico pensiamo agli eventi sulla realizzazione della Darsena sul porto di Livorno al netto di quello che è il nostro giudizio su quell'operazione che secondo noi andrà a impattare molto pesantemente così come è stata modulata sul profilo della costa toscana che periodicamente è soggetta anche a dei ripascimenti che sono dei costi della Darsena Europa se ne parla dal 2015 quando facciamo un passaggio a Bruxelles per cercare gli investitori e siamo ancora in questa situazione con gli investitori che dovevano arrivare a frotto e sono mancati rispetto all'equilibrio generale definito dalla legge di bilancio dello scorso anno dalle successive leggi di variazioni sono stati adottati 26 interventi correttivi da parte della giunta programmazione capite bene che un numero così alto di interventi può significare o un'azione riparatoria in corso d'opera rispetto a un alto numero magari di errori di valutazione di necessità di riprogrammazione o un'abitudine che abbiamo appunto sempre nella famosa navigazione a vista cioè si cerca di guardare la situazione contingente per cercare di capire come andare a modulare la propria azione e chiaramente pensare a una giunta che ha una visione di ampio respiro e che vada oltre quello che è l'orizzonte temporale della propria legislatura diventa oggettivamente un po' arrischiato sempre dal punto di vista della programmazione regionale un altro sintomo delle difficoltà di questa giunta è legato alle modalità con cui si interviene sul fondo delle spese impreviste che di fatto viene originariamente caricato poi alimentato con risorse anche ingenti che poi vengono sottratte alle politiche ordinarie e destinate principalmente perché questa è una delle funzioni in cui spende maggiormente una giunta regionale al richiano dei disavanti del servizio sanitario regionale che anche queste sono state evidenziate pesantemente nel giudizio dell'organo della Corte dei Conti altre due note dolenti cerco di andare velocemente per cercare di analizzare alcuni dei punti nodali la gestione dei residui delle criticità legate all'erogazione di cassa agli enti del servizio sanitario regionale che sono altri elementi che ci danno indicazioni di incertezza dell'amministrazione diciamo che lo stile è un po' anche creativo ecco con cui vengono gestiti i residui le criticità che emergono nella mancata tempestività della ripartizione delle risorse dell'erogazione del fondo sanitario regionale creano ambiguità nella chiusura degli esercizi e anche questo è stato rilevato però c'è un trasferimento soprattutto parziale delle risorse agli enti del servizio sanitario che generano anche nuovi residui per la parte che non viene trasferita quindi tutto questo è una spirale che si autoalimenta all'interno del servizio sanitario regionale che è costretto diciamo con più interventi e l'abbiamo sottolineato a rimodificare continuamente il percorso gli investimenti e i passaggi tutto questo a detrimento di quello che è una programmazione che dovrebbe essere fatta sul raggio un ben più lungo ricordo ancora i 26 milioni di euro messi a disposizione per la Toscana dal governo visto che ogni tanto viene citato viene chiamato in caso il governo e spesso a buon diritto lo devo dire per risolvere l'annosa questione delle liste d'attesa a ottobre del 2022 la regione era riuscita a spenderne 4 abbiamo ascoltato tutte le giustificazioni dell'assessore al riguardo però il dato di fatto è che su 26 milioni 4 ne sono stati impiegati se non è un problema di programmazione questo ditemi quale può essere un altro capitolo difficile perché sottolineo che le disuguaglianze sono e restano un grande problema della regione è dell'edilizia residenziale pubblica al netto di quella che è la narrazione del governo i numeri denunciati anche dai sindacati sul tema non depongono bene a favore della regione durante l'anno precedente gli sfratti sono aumentati del 30% cominciamo a fare i numeri anche di quella che è questa emergenza 180 mila famiglie in disagio abitativo e in questo quadro il tasso di assegnazione degli alloggi si attesta a un 4,8% con 20 e più anni che servono per riassegnare una casa popolare questa è una cosa che gli assessorati della giunta stessa ha dovuto rilevare noi speriamo e nel frattempo in tutto questo quadro il governo ha tagliato il fondo affitti e morosità per 25 milioni di euro nella nostra regione quindi vedete bene che cerchiamo di individuare quali sono le responsabilità che non vanno sottasciute però certamente quelle della regione non sono inferiori a quelle del governo noi speriamo in un ripensamento da parte del governo centrale però nel frattempo si rischia il disastro sociale e tutto quello che leggo all'interno del PRS ma anche del DEF non sono soluzioni così radicali da far pensare a un cambio di marcia e questo è evidente anche dalle poche risorse economiche investite finora quindi vanno rimesse al centro le politiche abitative ma le soluzioni che troviamo all'interno di questi documenti sono le medesime che abbiamo visto finora qui manca e quello che secondo noi servirebbe una cabina di regia compiuta e piena con poteri anche forti da parte della regione sui vari enti che versano in situazioni tutte complesse tra di loro anche per il fatto che sono variegate le situazioni delle vari comuni dei vari lode e quant'altro quindi qui servirebbe un intervento forte della regione toscana investimenti per l'ambiente allora le progettualità sul settore ambientale sarebbero molte però noi ci siamo concentrati in questi anni e continueremo a farlo su ARPAT che è un soggetto che per noi specialmente nell'ottica del PNRR continua a rimanere centrale perché sappiamo che si alimenta finanziariamente col fondo sanitario indistinto 44 milioni circa di euro 93% del finanziamento totale mantenuto anche lo scorso anno eppure la legge del 2009 la legge regionale 30 nel preambolo dice che di procedere alla revisione del sistema di finanziamenti ARPAT con l'individuazione di attività strategiche da mantenere a carico della regione e altre da porre a carico degli enti pubblici richiedenti per cercare di far sì che non sia soltanto la regione ad alimentare perché in questo modo gli introiti derivanti dalle prestazioni svolte per gli altri rimangono a meno di 3 milioni però questa legge è stata inattuata e è una delle criticità del finanziamento di ARPAT quindi pende questa questione di legittimità della spesa che anche questa è stata rilevata e poi arriva il problema della liquidità di cassa a fine esercizio ARPAT che presenta mediamente valori superiori al 50% del contributo necessario per il normale funzionamento quindi delle varie rilevazioni che facciamo sui problemi di funzionamento di ARPAT oltre alla mancanza cronica armadi personale che è andato a decrescere numericamente nel corso del tempo con problemi anche di know-how abbiamo anche dei problemi sulla gestione di come vengono ripartite le risorse che vanno a impattare anche su ARPAT che magari sono meno evidenti rispetto a un calo numerico del personale ma sono altrettanto impattanti lo porto questo chiaramente all'attenzione di tutti perché con questa circostanza diciamo con questa modalità di gestione si sottolinea che si rischia di apparire come un eccessivo finanziamento che ARPAT non riesce a spendere ma invece il problema è l'inadeguata ripartizione e amministrazione delle risorse pubbliche e questo lo dico appunto perché non vorrei che sembrasse che il definanziamento di ARPAT poi è necessario per l'incapacità dell'ente di andare a spendere passo alle partecipazioni societarie della regione perché sono un aspetto che economicamente hanno un impatto piuttosto forte perché qui è stata anche in questo caso sottolineata un'incapacità della razionalizzazione della partecipazione societaria oltre che nel corso degli anni e ripeto ancora non solo in questa legislatura una carenza anche nella capacità di gestione delle criticità e delle crisi che sono avvenute una su tutte le terme di Montecatini che appunto si ritrova in una situazione veramente molto critica perché si è trascurato di intervenire in maniera forte negli anni precedenti perché fondamentalmente una delle questioni irrisolte sono tra le varie la mancata riconciliazione di poste contabili tra regioni e le due partecipate quella di Fidi Toscana e Sviluppo Toscana Fidi Toscana di cui ancora oggi stiamo cercando di capire che indirizzo e che ruolo avrà nell'ottica prima di tutto delle risorse umane molto preparate che sono al suo interno e che possono essere ancora utili e possono lavorare per la regione toscana per quanto riguarda tutto ciò che riguarda il finanziamento e anzi dovrebbero avere un ruolo più forte con sviluppo toscana Fidi Toscana S.P.A. registra questa perdita di un milione e mezzo di euro Firenze e Fiera c'è stato un ampio dibattito che non riprendo perché le criticità sono state secondo me da colleghi ben sollevate c'è la questione di Alla Toscana pensiamo senza tirar fuori la questione aeroportuale più grande ampiamente dibattuta anche nel più piccolo la situazione di Alla Toscana che è insabbiata dal risultato del referendum che ha visto la vittoria del no degli Elbani a questo nuovo progetto però gli Elbani non lo vogliono però il Presidente che è qui con noi ha detto che procederà comunque sia tanto sono soltanto 100 metri di allungamento però la Corte dei Conti fa notare che c'è un problema di pianificazione anche territoriale non da poco la questione di Rezzo Fiera anche quella è stata trattata in maniera abbastanza ampia da un organo tecnico fondamentalmente abbiamo un ente che fa tutto fuorché il lavoro per cui era preposto vado a concludere con la questione relativa al soccorso finanziario nei confronti delle terme di Casciana Terme e poi di Monte Catini e SPA che meritano dei ragionamenti a parte anche separati per le modalità c'era la necessità che noi abbiamo condiviso di salvare il patrimonio storico artistico degli immobili perché rimanessero di proprietà pubblica però non possiamo fare a meno di chiederci come sia stato possibile lasciare precipitare la situazione economica di queste realtà in questo modo specialmente Monte Catini responsabilità da condividere anche con le precedenti amministrazioni e con le amministrazioni comunali tuttavia sussistenti anche a capo della regione diciamo che i tempi non permettono di toccare altri argomenti che andrebbero dibattuti con più approfondimento e soprattutto andavano toccati all'inizio di questa legislatura e quindi concludo annunciando sicuramente il nostro voto contrario ai due documenti che sono stati oggetto della nostra discussione al netto della presentazione di alcuni emendamenti che sottoponiamo al voto per l'aula che riguarderanno alcune questioni per certi versi più locali ma anche questioni di più ampio respino come per esempio l'ERP le questioni della multi utility e quella di Toscana Strade che è un altro aspetto che andando a chiudere appunto con le partecipate c'è stata fatta una tirata ad orecchie diciamo sull'utilizzo diciamo anche un poco eccessivo dello strumento delle partecipate come veste giuridica di operazione della regione toscana e ricordo anche ancora che appunto si è detto no non ne abbiamo più fatte salvo l'anno prossimo Toscana Strade Toscana Strade che ancora oggi e sarà oggetto delle prossime interrogazioni e spero anche del dibattito dobbiamo ancora capire che sostenibilità economica può avere perché da quelle poche slide che abbiamo visto rischia di essere un altro problema all'interno del sistema delle partecipate per la regione toscana e non la soluzione per quella grande arteria che è la FIPILI che ha bisogno di lavori ma non certo di uno scatolone di cui non si conoscono né i contenuti né il funzionamento grazie presidente Galletti la parola al consigliere Gianni Anselmi grazie gentili e stimati colleghi presidente io apprezzo moltissimo la volontà che percepisco nel dibattito di sottrarre questo passaggio a una solennità burocratica a cui rischia di costringerlo il fatto che lo si approvi contestualmente al quarto DEFRE penso che non si debba smarrire una profondità di analisi una statura nell'impostazione un peso nel mostrare un profilo congruo a quella che è la storia di questa regione anche nel contributo alle vicende programmatorie del nostro paese ci riguarda questa storia perché dagli anni 90 in poi i piani regionali di sviluppo che si sono succeduti nel tempo sempre con il contributo prezioso del nostro istituto per la programmazione economica fondato nel 1968 dal compianto Giacomo Beccattini che ne diresse le sorti fino al 1973 e che è stato uno dei descrittori più luminosi delle vicende del sistema economico sociale della nostra regione in particolar modo negli anni dopo successivi al grande boom dello sviluppo nel racconto di una regione che frammentava e disintegrava i grandi blocchi produttivi in un sistema di piccole e medie imprese che ne hanno segnato le sorti di lungo periodo un altro luminoso economista del quale che è stato espressione della nostra regione il professor Carlo Trigilia ci parlava in un saggio il suo primo del 1986 di grandi partiti e piccole imprese aggiungeva riferendosi alla Toscana ma anche al Veneto che era oggetto della sua analisi comunisti e democristiani nelle regioni a economia diffusa sono seguiti altri numerosi approfondimenti che hanno corroborato una programmazione della nostra regione che sta nel novero delle più storicamente evolute anche nei benchmark che nel tempo si sono prodotti su questo tema e che sono documentati nella collana dei volumi che l'Istituto per la programmazione economica mette a disposizione dico queste cose perché quello che non si deve abbandonare interlocuisco anche volentieri con alcuni argomenti che nel dibattito sono stati introdotti circa la progressiva marginalizzazione delle regioni nel ruolo nella loro funzione programmatoria è invece al contrario che nel tempo veloce nel tempo in cui tutto scorre con i ritmi dettati dai tempi che non sono quelli propri della politica ma che sono quelli più propri della comunicazione la politica ha bisogno di fermarsi a pensare a pensare sulla sua funzione sull'altezza del suo contributo sulle sorti dei territori che sono inclusi nella sua responsabilità allora a consultare documenti preziosi di programmazione in questi giorni mi è stato prezioso perché mi permette di aiutare dare un modesto contributo in una riflessione che nelle curve della vicenda della legislatura seppur ben inoltrata possano aiutare noi stessi a dare il contributo che ci compete che ci spetta e che rispetto al quale i nostri elettori ci hanno concesso un privilegio seppur fortunatamente viva Dio temporaneo alcuni di questi documenti sono datati io fra tutti ho nel mio empireo di riferimento il progetto 80 che fu elaborato per supportare la programmazione del paese negli anni 70 nella prima metà degli anni 70 da Giorgio Ruffolo e Luciano Barca il padre del Barca che si occupa oggi di politiche comunitarie di politiche place based e che è un altro riferimento dei lavori sulla programmazione in quei documenti si legge che un programma di sviluppo richiede la definizione di un progetto sociale deve anzitutto chiarire le finalità generali verso le quali si vuole orientare il progresso della società sulla scala territoriale che si sceglie come riferimento può essere quella nazionale nel nostro caso è la società toscana non si tratta di enunciare una lista di valori ma di rendere esplicite le scelte fondamentali sul tipo di società che si intende costruire da queste scelte si muove per individuare gli obiettivi del piano tali scelte riguardano anzitutto quale si intenda essere il posto della comunità di riferimento nel paese e nella comunità internazionale le condizioni della prosperità economica le condizioni dello sviluppo culturale e civile in queste parole sta il senso della nostra discussione di oggi legittimamente accidentata per le rispettive funzioni che ci sono assegnate ma io penso che non si debba abbandonare questa altezza e questa ambizione non lo deve fare chi governa non lo deve fare chi ambisce a governare perché è intimamente legato alla sostanza stessa della missione della politica e io credo che noi abbiamo una particolare missione generazionale perché ci sono molti stimoli ad abbandonare la qualità e la profondità della politica penso che si debba ciascuno con il proprio ruolo ho avuto modo di dirlo lo ribadisco volentieri qui nella nostra assemblea elettiva che abbiamo un compito delicato rispetto al quale soprattutto nei momenti di maggiore attenzione il bilancio gli atti di programmazione il DEFRE che li scandisce dobbiamo avere la passione di ribadire che la politica sta con la testa alta i piedi piantati in terra ma alta con la testa sull'orizzonte ci sono documenti penso al Toscana 2020 che fu elaborato verso la metà della prima decada degli anni 2000 e che corroborò il piano regionale di sviluppo 2005-2010 che è stato uno dei migliori documenti che la regione abbia prodotto anche da un punto di vista letterario proprio anche per come era scritto non che questo sia scritto male ma come ogni strumento capita che si incrocino delle stelle più o meno positive in quel caso come in altri casi noi abbiamo rinverdito una tradizione solida forte di programmazione nella convinzione qui faccio mie le parole che ho sentito dalla collega che ha parlato all'inizio la collega Tozzi lei non lo sapeva probabilmente ma citava un grande economista tedesco dei primi del secolo scorso che si chiamava Josef Schumpeter che è l'economista conosciuto per la distruzione creativa c'è una bellissima citazione di Schumpeter che fu uno dei primi economisti che per primi individuò la distinzione tra crescita e sviluppo come io penso che la Toscana sia una delle regioni che ha meglio declinato il concetto di sviluppo nel nostro nel nostro paese poi chiuderò se me lo ricordo ricordando perché c'è questa bella citazione di Schumpeter si possono aggiungere quante diligenze si vogliono ma non si otterrà mai una ferrovia questo per dire che tu puoi costruire un numero di vagoni di mezzi e quindi produci fai posti di lavoro cresci da un punto di vista quantitativo ma il salto innovativo che introduce l'elemento dello sviluppo è l'innovazione e l'inserimento nei processi di accumulazione economica anche di fattori di crescita culturale scientifica di crescita della qualità delle istituzioni della loro capacità di rispondere alle dinamiche della società io penso che questo PRS ci aiuti anche nella sua articolazione europea che è stata secondo me giudiziosamente scelta nella sua redazione a proseguire nella scia di questa di questa modalità di tenere la nostra regione all'interno di un percorso di sviluppo e non solo di crescita crescita che si va di bene è indispensabile chi non parla di crescita ci sono stati anni nei quali il concetto di crescita era quasi ritenuto offensivo nel dibattito pubblico un barbaro che non tiene conto della sostenibilità eccetera eccetera senza la crescita non si crea la ricchezza senza senza la ricchezza la sostenibilità la qualità dei posti di lavoro la trasformazione della società e dei territori sono un esercizio di astrazione perché attraverso la produzione della ricchezza entrano in campo le politiche di redistribuzione della ricchezza tutto ciò che è welfare e per fare buone politiche di welfare servono gli strumenti di analisi quelli che anche Irpet ci ricorda nelle sue più recenti lavori che sono stati ricordati qui l'ultimo è dello scorso fine giugno ci racconta di una Toscana che cresce anche nel numero dei posti di lavoro di posti di lavoro che sono nei quali bisogna guardare dentro perché spesso sono posti di lavoro a bassa resa salariale ci racconta di una povertà percepita che cresce e questo è un problema collettivo e che impedisce a molte famiglie di rivolgersi al futuro con fiducia e di investire anche nella nella procreazione questo ha conseguenze sulla demografia e questo ha conseguenze di nuovo sul welfare e su ciò che si caratterizza come dinamismo sociale per tutto questo noi abbiamo un documento che è uno strumento su cui la giunta lavora ormai già da tempo che è stato molto ben composto da un punto di vista anche grafico in particolar modo rispetto al dibattito consigliare sulla comunicazione che facevamo un tempo fa la risposta che ho considerato molto importante è stato l'allineamento delle risorse del PNRR del fondo di sviluppo e coesione dei fondi SIE che sono i fondi strutturali il nuovo acronimo con cui vengono chiamati fondi strutturali oltre a le risorse regionali e le altre risorse statali noi abbiamo un abaco di strumenti che è declinato nelle varie programmi regionali nelle varie linee di sviluppo nelle strategie trasversali ma è un documento europeo non si può dire che il PNRR è un grande strumento e poi come dire svilirlo nella sua declinazione nella sua articolazione in realtà io penso che chi ha costruito il piano di riprese e resilienza europeo e poi declinato nel nostro paese senza essere smentito da chi che sia di là al netto degli avvicendamenti di governo abbia individuato un cambio di paradigma solido del contributo dell'Europa alle sorti dei paesi membri compito degli stati e delle regioni è quello di declinarlo e di attagliarlo alle dinamiche sociali che ci riguardano vado verso la conclusione noi non dobbiamo pensare che la programmazione sia un vincolo un fastidio la programmazione è un faro al contrario è una guida per chi governa e poi nella programmazione intervengono i fatti straordinari ma lì sta la capacità degli amministratori di misurarsi con le cose vale la pena dirlo dopo una crisi epocale dell'economia e dopo una crisi epocale di natura sanitaria vicende che hanno messo a rischio la stabilità e la solidità di ciò che l'Europa nel novecento ha costruito allora se la politica serve a qualcosa ancora io penso che bisogna misurarsi avere la volontà di non arretrare di non dare per scontato che tutto è guidato da qualcosa di distante o dalla burocrazia o dal fatto che ci sono i bandi io penso che serva più politica non meno politica e che la fuga dalla complessità sia tradire questa missione a stare dentro la complessità provare a far entrare nei titoli dei post anche qualcosa di un po' più complicato e pensoso e meno ottimistico e questo riguarda tutti e penso che questo sarebbe apprezzato dalla cittadinanza in una regione che è una regione largamente di media e piccola impresa molto specializzata e questo l'ha salvata nei momenti difficili della concorrenza dei paesi emergenti è una regione che non deve abbandonare grandi bastioni industriali leggo che si fanno riunioni sull'industria della mia città senza che io sia coinvolto io non sono non ho ancora smesso voglio informare quest'aula che io non ho ancora smesso e che le cose di cui mi sono occupato da 20 anni mi impegnano e non mi si può scansare questo perché nella nostra regione c'è una provincia che ha due aree di crisi complessa l'amico e collega Francesco Gazzetti condivide con me questa sorte la regione investe molto sul porto di Livorno sui collegamenti ferroviari noi ci siamo permessi io mi sono permesso e ringrazio gli amici che hanno i colleghi che hanno sostenuto questi emendamenti ne parleremo domani di coerenziare alcune questioni che hanno una geolocalizzazione ma che sono questioni strategiche non ho mai pensato di occuparmi di piccole questioni e di inserirle soprattutto nella programmazione lo dico perché non ci siano malintesi fra di noi lo dico avendo apprezzato moltissimo il lavoro sugli emendamenti che è stato fatto prima di tutto al gruppo al quale aderisco e al quale continuerò ad aderire e anche apprezzando lo sforzo costruttivo che i gruppi di opposizione hanno messo in campo posso immaginare senza volontà ostruzionistiche con l'idea di concorrere alla qualificazione degli strumenti di programmazione questo perché finisco davvero noi siamo la regione della costruzione sociale dell'innovazione e cioè la programmazione questo è il titolo di un altro libro di Carlo Trigilia questo è del 2007 non si programma se non si promuove la partecipazione e il concorso delle forze produttive sindacali e politiche e delle istituzioni locali ai processi di crescita quindi c'è un tema di costruzione e poi di messa a terra se tu costruisci bene poi hai più complici nella messa a terra delle opere di programmazione che tu metti in campo e delle risorse che allinei e quindi scusandomi per la lunghezza perché ho rubato più tempo di quel che pensavo prima di tutto al mio gruppo io credo che dobbiamo fare tutte queste cose sostenendo il lavoro detto da questa parte della giunta regionale del presidente avendo la testa ben piantata in avanti che chi governa e pensa che il meglio sia già alle spalle vuol dire che ha finito e esaurito il proprio compito chi governa deve pensarsi nel futuro e chiamare le forze sociali a una complicità chi si oppone e ambisce a governare ha il compito di mettere in campo una visione alternativa della società ma chi ha sempre vinto deve sfuggire dalla tentazione della manutenzione anche quando la manutenzione è straordinaria in Toscana noi siamo orgogliosi di essere nati e cresciuti in questa regione non solo per le linee per il miracolo della cappella Brancacci o dei magi di Benozzo Gozzoli che sono dall'altro e c'era anche Brunelleschi per l'ingegneria straordinaria di Brunelleschi o delle intuizioni geniali di Leonardo e non lo siamo perché siamo gli eredi degli etruschi che sono una delle civiltà più celebrate nella storia dell'umanità noi siamo orgogliosi di essere nati e cresciuti in questa regione anche per il nostro novecento e per il buon governo del novecento che ha restituito vigore coesione sociale forza sindacale forza cooperativa un tessuto imprenditoriale sano e ambizioso e una politica all'altezza di tutte queste cose che non ha mai smarrito se stessa indipendentemente dalla storia di ciascuno ma che era ben conscia della propria funzione ecco io questo credo che sia una cosa che ci riguardi molto e nel nostro piccolo con questo passaggio sul piano regionale di sviluppo possiamo dare un contributo in questo in questo senso soprattutto avendo l'ambizione di essere all'altezza del nostro futuro e del futuro dei cittadini che governiamo grazie per la vostra attenzione grazie consigliere Anselmi la parola al consigliere segretario Diego Petrucci grazie mi la devi togliere te che grazie prenderò non tutta l'ora e due minuti che mi sono state date però è molto c'era un minuto in più è molto stimolante intervenire dopo il collega Anselmi anche se i temi trattati purtroppo non possono essere affrontati nel mio intervento perché per gioco di squadra mi occuperò soprattutto della sanità mi fa piacere farlo alla presenza del governatore Gianni inizio leggendo un paragrafo dell'intervista che oggi ha rilasciato il ministro Schillaci un altro rispetto a quello di Samani sul sole 24 ore siamo intervenuti mettendo a disposizione le regioni più risorse sia recuperando quelle non spese per le liste d'attesa nel 2022 sia aggiungendo più fondi i soldi dunque sono stati assicurati ma ho chiesto alle regioni di spenderli bene se occorre un ulteriore supporto noi siamo a disposizione ma credo che serva soprattutto un maggiore sforzo organizzativo per questo stiamo lavorando a un cambiamento strutturale e non a interventi tampone questo per dire e purtroppo ce n'è ampia traccia nei due documenti che affrontiamo presidente che chiedere più soldi non è risolutivo soprattutto se non si dice per cosa si vogliono più soldi il governo ha stanziato rispetto al 2019 14 miliardi in più sul fondo sanitario nazionale voglio dire a Ceccarelli ora ci sono i dati sono emersi l'altro giorno in commissione quando dice sì però sono aumentate le spese energetiche nel 2021 la regione toscana in ambito sanitario spendeva 123 milioni di euro per spese energetiche nel 2022 ha spesso i 285 milioni di euro per spese energetiche vale a dire 162 milioni di euro in più quindi gli aumenti di spese per le spese energetiche sono abbondantemente coperti dall'incremento del fondo sanitario nazionale che poi accaduta va nel fondo sanitario locale certamente non sono gli 850 milioni di sforamento della spesa in ambito sanitario che abbiamo prodotto in toscana però dicevo non è sufficiente presidente governatore chiedere più soldi noi penso che non si possa fare a meno di ragionare su nuovi modelli organizzativi così come il ministro Schillacci invita a fare le regioni dicendo se mi portate le proposte concrete noi ci siamo e siamo disponibili ad aumentare la spesa sanitaria nazionale di nuovi modelli organizzativi non si parla né nel DEFR né nel PRS ed è il cuore della riforma e dei problemi della sanità toscana io vi faccio soltanto qualche esempio così a spot è notizia di questi giorni come sia scoppiato il caso delle ferie non fatte dai medici in servizio presso l'azienda ospedaliere universitaria pisana io ci ho fatto due interrogazioni a questo proposito ci sono decine e decine di giorni che sono state messe a recupero ore e quindi non sono state fatte le ferie il record è di un medico che ha fatto in un anno 103 giorni di riposo a recupero ore senza fare le ferie ci sono molti medici che hanno accumulato oltre 300 giorni di ferie salvo poi arrivare alla corte dei conti e dire le ferie vanno fatte per legge e quindi costringere i direttori delle aziende a mettere in ferie i medici e quindi chiudere le sale operatorie compreso per gli interventi oncologici perché i medici devono andare in ferie forzate servono più soldi o servono modelli organizzativi differenti l'azienda ospedaliera pisana cito ancora una volta questa risparmierà un milione e mezzo di euro bloccando il ricambio d'aria quando nelle sale operatorie quando le sale stesse sono chiuse un milione e mezzo di euro l'anno bloccando il ricambio d'aria nelle sale operatorie quando queste sono chiuse su base regionale quell'intervento se riproposto in tutti i plessi sanitari porterebbe un risparmio ce lo dicono in commissioni tecnici di oltre 10 milioni di euro lo richiedo servono nuovi modelli organizzativi non è sufficiente chiedere più soldi così come non possiamo ancora non mettere nei documenti di programmazione mi riferisco anche all'intervento di Anselmi hai ragione Anselmi però il giudizio è completamente differente anche se l'analisi può essere condivisa noi abbiamo una partita straordinaria davanti che è quella delle case di comunità io non penso che si possa affrontare quella partita senza avere una legge quadro regionale su che cosa si fa in quelle case di comunità chi ci sta quando ci sta quali tripi di prestazioni si erogano e a chi si erogano se non creiamo un modello organizzativo e se non si parte a crearlo da documenti di programmazione quali quelli che stiamo analizzando oggi per quello che tutti noi ci auguriamo possa essere un tracciato di soluzione dei problemi della sanità se non lo creiamo lì noi ci troveremo a gestire in maniera raffazzonata spot le case di comunità così come gestiamo gli ospedali e con tutte quelle magagne che poi si ripercuotano inevitabilmente sul tipo di prestazione sul tipo di cura e sui problemi della nostra sanità così come non avete potuto fare a meno di fare un passaggio il più tiepido possibile senza coraggio sul fatto che la sanità anche in Toscana è ormai una sanità mista è un modello misto quando dico modello misto intendo che c'è chiaramente un ruolo centrale prioritario dal locomotiva del pubblico ma sarebbe sciocco nascondere il fatto che alla macchina sanitaria al sistema sanitario non partecipino anche il volontariato sociale il privato convenzionato dirò di più le RSA in larghissima parte le RSA sono ormai degli ospedali per cronici a bassa intensità a volte anche ad alta intensità allora non aver coraggio su questa cosa facendo quelle due righe che sono state inserite sia nel DEF che nel PRS rispetto al fatto che ormai è inevitabile un modello misto pur dando la priorità assoluta al pubblico e non organizzando quel modello misto lo dico ancora una volta a Anselmi e al presidente fa sì che facciamo un torto a chi deve ricevere quelle prestazioni e ci troviamo a far sì che quello che non è pubblico a volte eroghi prestazioni che non possono che essere erogate dal pubblico il non voler mettere testa a quell'intervento fa sì che si ottiene nel concreto l'esatto contrario di quello che vorremmo ottenere da un punto di vista di teoria ci troviamo il privato convenzionato ci troviamo la sfera privata a fare prestazioni che devono essere fatte per forza dal pubblico non riuscendo invece a mettersi al tavolino noi il pubblico decidendo che cosa fa chi quanto costa farlo e che cosa fa chi altro insomma interverrò poi nel proseguo del dibattito anche su altri temi commentando gli atti di indirizzo però io penso che in quello che rappresenta il 70 l'80% della spesa della regione ci dovesse essere in questi due documenti specialmente nel PRS maggior coraggio e maggiore capacità di voler programmare e di organizzare una spesa importante come la spesa sanitaria utilizzando quegli strumenti cito un'altra volta Anselmi per quello che quegli strumenti devono essere non per fare il post su Facebook ma per chiarire che cosa vogliamo fare dove vogliamo andare come vogliamo spendere i tanti soldi a disposizione che il settore della sanità della socio-sanitaria dell'assistenziale ha a disposizione ogni anno grazie consigliere Diego Petrucci la parola al consigliere Massimiliano Baldini grazie presidente grazie consiglieri mi piace la piega che il dibattito ha preso in molti interventi che ho ascoltato prima di adesso mi fa molto piacere la presenza l'arrivo del presidente della regione e credo che un ragionamento su questo atto importante che andiamo ad affrontare debba partire da un approccio che non sia necessariamente tecnico o comunque in qualche modo peculiare su i vari passaggi che riguardano questo piano così corposo ma credo che vada fatto un ragionamento in primo luogo di ordine intellettuale generale come anche qualcuno prima di me ha cercato di portare avanti a me è piaciuto chi ha detto che chi ha sempre vinto deve rifuggire il tentativo della manutenzione io trovo una frase importante che ci permette a noi che invece abbiamo l'obiettivo di governare e di portare avanti un modello di governo differente ci dà la possibilità di affrontare alcune critiche nei confronti del piano regionale di sviluppo e più in generale dell'amministrazione di questa regione con assoluta moderazione ma con altrettanta fermezza in un tentativo di dialogo che va nell'interesse delle comunità e dei cittadini in primo luogo perché vedete io quello che ho notato nell'affrontare il piano regionale di sviluppo ma anche questi mesi così impegnativi su tantissimi temi affrontati quello che ho notato non me ne voglia nessuno non è una mancanza di rispetto assolutamente è una percezione di cui sono convinto è una stanchezza una notevole stanchezza che connota il governo della Toscana e in particolar modo che connota il modo in cui il partito di maggior riferimento al partito democratico e il centro-sinistra in generale porta avanti l'azione amministrativa così importante come quella che guarda a tutti i toscani e io l'ho vista nel affrontare tanti temi così importanti con modalità come dire poco organizzate e programmate con una rincorsa costante alla necessità dell'approvazione dell'atto piuttosto che a quella del confronto e della come dire valutazione più approfondita di quanto andiamo a ragionare e ad approvare che seppur può essere comprensibile da alcuni punti di vista nell'esigenza di un percorso che inevitabilmente ha i tempi di una società che corre è altrettanto vero che c'è il rischio che venga persa di vista invece una necessità fondamentale che è quella di approvare e produrre atti che oggettivamente ricomprendano quelle che sono le esigenze dei cittadini e delle comunità è un elemento importante che a mio avviso si lega anche a un altro concetto anche lì condivido quello che è stato detto da qualcuno prima di me e cioè che ci sia la necessità che la politica abbia uno sguardo alto e che abbia anche i tempi necessari alla comprensione alla valutazione dei temi secondo dettami che non siano necessariamente sempre sono quelli della comunicazione e allora sotto questo profilo io non posso altro che evidenziare quelli che mi sembrano alcuni limiti evidenti il piano di sviluppo regionale arriva in grande ritardo si sono avanzate giustificazioni si sono avanzate modi di giustificare questo quadro ma in realtà il piano di sviluppo regionale arriva oltre metà legislatura e quindi non può avere l'ambizione di guardare a quella che dovrebbe essere invece l'assolvimento dei programmi che di solito si portano avanti a inizio di legislatura per poi cercare di realizzarli una volta che si è al governo di questa regione e questo vale a maggior regione per la regione toscana dove come dicevo prima si governa o c'è una parte che governa praticamente da sempre e allora se questo dato è vero è altrettanto vero presidente ripeto mi fa piacere vederla qui stasera però abbiamo iniziato il dibattito di questo piano di sviluppo regionale in una totale assenza della giunta e con una certa distrazione dello stesso consiglio questo è un dispiacere a prescindere dagli impegni che si possano avere perché l'atto che stiamo governando è un atto assolutamente importante sul quale il dibattito è fondamentale e questo apre un'altra riflessione che è quella della partecipazione perché i temi della partecipazione i temi del contraddittorio devono trovare a prescindere dalle parti politiche a prescindere dalle convinzioni differenti che ognuno di noi ha che ognuna delle nostre parti porta avanti devono avere i tempi necessari al loro sviluppo e invece purtroppo anche qui lo abbiamo toccato con mano tante volte sia nel licenziare gli atti sia nei momenti in cui le commissioni cercano di svolgere il loro lavoro nell'ascoltare e nel guardare come punto di riferimento ai rappresentanti del territorio spesso questo risultato non si è accolto e non a caso poi succede che su tanti temi importanti questo ritardo continua a esserci continua a esserci e si realizza anche un po' di confusione e i cittadini e le comunità che vengono chiamate a interloquire su questi temi rispondono in modo non esauriente in modo non positivo verso quella che dovrebbe essere l'aspettativa di una realtà istituzionale come la nostra è successo nel momento in cui si è parlato dei temi dell'aria ricordo che siamo ancora in attesa dei piani che toccano tutta una serie di argomenti centrali e però nel momento in cui siamo andati a parlare dei temi dell'aria chiamati voglio dire a responsabilità le comunità che quei provvedimenti toccavano abbiamo capito che per esempio il tema della partecipazione il tema del confronto non veniva percepito da parte dei cittadini delle comunità e degli stessi sindaci molto spesso anche nello stesso colore politico lo stesso sta succedendo in questo momento nell'affrontare per esempio il piano dei rifiuti il piano dei rifiuti che a breve terminerà il suo percorso con uno sforzo davvero importante della commissione e che arriverà subito dopo le ferie ad una valutazione da parte dell'aula ha visto tutta una serie di interventi da parte di rappresentanti delle comunità da parte di rappresentanti delle realtà interessate direttamente al tema largamente negativi e comunque molto spesso come dire lontani da quello che è un reale e vero confronto che dovrebbe esserci o ci sarebbe dovuto essere stato in precedenza lo abbiamo toccato con mano non voglio entrare su questo tema anche perché il tempo è veramente scarso e non voglio rubare spazio a chi nel gruppo della Lega interverrà dopo di me a maggior ragione al capogruppo lo abbiamo toccato con mano sui temi della sanità abbiamo visto stamani discutendo del rendiconto quali sono i rilievi avanzati da Corte dei Conti sulla questione lo abbiamo toccato sui temi per esempio delle partecipate anche questo un elemento che evidenzia le difficoltà di questa regione di questo governo della regione toscana a portare avanti situazioni che oggettivamente potrebbero probabilmente avere un paradigma diverso e lo abbiamo visto a maggior ragione sui temi delle infrastrutture dove forse uno dei cardini centrali anche del piano di sviluppo regionale questa toscana strade come dire convince davvero poco ed è frutto anche di una certa confusione sulla quale mi auguro si possa invece avere maggiore chiarezza e in modo più rapido e lo stesso vale per esempio altro tema quello dell'acqua dove la parte nostra lo ragioneremo probabilmente domani abbiamo prodotto tutta una serie di emendamenti che guardano a un approccio differente che guardano a un approccio che è più vicino alle realtà locali alle realtà provinciali e che cerca di dare una risposta dove la regione dove le leggi che escono dal governo regionale siano oggettivamente più vicine ai cittadini e io credo che la riprova del ragionamento che sto facendo e mi avvio anch'io alla conclusione sia quello di guardare anche ai piani di sviluppo regionale precedenti che non mi risulta mi correggerete sicuramente con pieno diritto visto che io siedo in questi banchi da pochi mesi non mi risulta non abbiano colto grandi risultati e probabilmente le problematiche che i cittadini toscani sono costretti ad affrontare ancora a maggior ragione in periodi difficili come quelli che abbiamo dovuto affrontare non trovano soluzioni e allora e chiudo davvero io credo che è anche comprensibile e credo probabilmente giusto e giustificato che ci sia la necessità probabilmente di un cambio di paradigma in vista delle prossime elezioni regionali che anche questo piano di sviluppo regionale in qualche modo manifesta testimoniando la stanchezza di un governo amministrativo di questa regione che è sotto gli occhi di tutti soprattutto lo è sotto gli occhi dei cittadini e credo che la responsabilità che noi della Lega di tutto il centro-destra e di tutti coloro che sono alternativi a un certo governo del centro-sinistra crediamo di portare avanti e anche forte di un'energia e in qualche modo di una vitalità che credo si sia dimostrata anche nei mesi di governo di questa legislatura grazie grazie consigliere Baldini la parola al consigliere Giovanni Galli si grazie grazie presidente grazie colleghi parto dal fatto che sono due anni e mezzo che siamo stati eletti logicamente in questi due anni e mezzo abbiamo vissuto dei momenti abbiamo attraversato dei momenti difficili abbiamo cercato di dare come opposizione il nostro contributo e così vorremmo farlo anche in questo piano di sviluppo regionale oggi siamo a metà con quello che è il passato con quello che è stato ma con un occhio rivolto al futuro e a quello che secondo me abbiamo estrapolato da quello che è questo libro che c'è stato questo testo che c'è stato consegnato dove all'interno c'è questo progetto futuro io devo dirvi che ci sono dei temi che mi hanno coinvolto e sui quali ho cercato di dare contributo ho portato all'interno di quello che sarà la discussione diversi emendamenti per cui toccherò molto superficialmente quello che è oggi il mio intervento magari poi dopo nello specifico quando andremo ad affrontare i vari temi ecco questi che mi hanno coinvolto sono le infrastrutture le problematiche del disagio abitativo le case popolari il mondo dello sport con l'impiantistica le RSA ecco devo dirvi che nell'andare proprio a cercare all'interno di questo testo delle risposte sinceramente non ho trovato delle risposte esaustive delle risposte che mi mettessero nella condizione di accettare e di condividere quello che ci è stato proposto partiamo ad esempio dalle infrastrutture due sono le più grandi infrastrutture che al momento sono sulla bocca di tutti mi riferisco all'aeroporto e vado a vedere all'interno del alla pagina 167 le ultime due righe riferimento all'aeroporto c'è scritto proseguirà ma infine lì il volume del primo del piano di sanare sulle infrastrutture fin dall'inizio si è scritto sulle infrastrutture per non ripetere si fa il fenomeno si ho capito presidente però avevamo magari bene d'accordo benissimo benissimo siccome su questo intanto dovremmo dare se mi permette presidente dare delle risposte sul passato sull'immediato perché qui si parla del futuro non abbiamo master plan non abbiamo assolutamente niente ancora sul quale parlare per cui sarebbe opportuno magari dare risposte soprattutto a quello che è successo anche stamattina con la dichiarazione del presidente dell'Enac che credo che andrebbe redarguito da parte di tutti non soltanto da parte dell'opposizione comunque per quanto riguarda ad esempio la Foster presidente della Foster abbiamo eh ho capito abbiamo lo stesso problema perché ad oggi noi sappiamo che ad esempio ci sono i dirigenti della regione e i dirigenti del comune che stanno cercando di capire che quale quale sarà poi dopo la la struttura a cosa servirà la struttura perché ad oggi non abbiamo nessun riferimento si sta pensando visto che RFI ha deciso in riferimento alle due strutture che ha già in carico e mi riferisco a Roma alla Tazione Tiburtina e a Torino Porta Susa che sono in carico a RFI ha deciso la Foster di non prendersela in carico per cui vorrei sapere domani che cosa succederà ancora non sappiamo niente ci porteremo gli autobus ci porteremo che cosa ci porteremo che cosa ci faremo su quattro piani della stazione Foster non sappiamo ancora non sappiamo non abbiamo avuto non abbiamo avuto risposte per quanto riguarda l'impiantistica Presidente ah sempre per riguardo riguardo ai collegamenti ferroviari Presidente però mi lasci dire che con leggendo appunto qua l'adeguato collegamento tra le stazioni di Santa Maria Novella dell'alta velocità l'attivazione della Guidoni la circondaria va a finire che a Firenze ci sono più strazioni che treni ho la sensazione perché mi sembra che si stia facendo un grande investimento su questo poi per quanto riguarda sempre appunto dell'edilizia residenziale pubblica e disagio abitativo qui si fa riferimento dice la regione intende attivare specifiche linee di intervento legate alla manutenzione straordinaria degli immobili e credo che qui si vada a toccare quello che è stato il PNRR che ha destinato alla regione toscana 92 milioni per cui questo è una strategia che arriva però quello che non riesco a capire è perché qui si fa un doppio gioco Presidente e questo mi piacerebbe che ce lo spiegasse perché si parla di acquisto di enti pubblici di immobili a destinare all'emisigenza abitativa all'acquisto di alloggi invenduti tramite addirittura ricorso a curatelle fallimentari quando poi dopo appunto abbiamo queste strategie e l'abbiamo parlato spesso e volentieri anche con il collega con il collega Ceccarelli quando abbiamo una legge regionale che un po' ci impala nel fatto di andare a fare costruire nuove abitazioni nuove abitazioni perché devono essere in base a quelle che sono state vendute oppure è il contrario quelle vendute in base a quelle che vengono costruite per cui è un gioco che secondo me questo bisognerebbe bisognerebbe risolvere anche per quanto riguarda lo sport Presidente devo dire che e gliel'ho sempre riconosciuto il grande investimento economico che è sempre che è stato fatto da parte della regione su tutti però ecco bisognerebbe andare un pochino più nello specifico e noi l'abbiamo fatto negli emendamenti perché credo che la riqualificazione non è soltanto mirata perché è una delle missioni del PNRR per quanto riguarda il recupero energetico delle acque e tutto il resto ecco mi piacerebbe avere una risposta proprio sugli impianti che fossero autosufficienti alla fine cioè che non dovessero sempre comunque essere un costo per comune perché poi dopo il gestore viene sempre dal comune o dal comune di conseguenza magari dalla regione a chiedere dei contributi per poter portare avanti ecco sarebbe opportuno che nel momento in cui si va a dare dei fondi secondo il mio punto di vista sarebbe opportuno che ci fossero degli obblighi da parte prima di erogare dei fondi di avere queste risposte al tempo stesso anche per quanto riguarda l'accesso agli impianti Presidente questo ci tengo particolarmente per quanto riguarda soprattutto la disabilità perché c'è qualcosa ma non è molto ben definito nel senso che se si va a realizzare sempre attraverso i fondi della regione si va a intervenire sugli impianti sportivi una delle prerogative deve essere proprio questa cioè che l'impianto sportivo deve essere accessibile a tutti sia nell'andare nell'impianto per assistere a una manifestazione ma sia di poterlo usufruire l'impianto sportivo stesso perché sappiamo bene le Paralimpiadi quante soddisfazioni hanno dato alla nostra nazione per cui sarebbe opportuno e giusto che anche questi ragazzi possano avere la possibilità di poter proseguire non in quello che può essere l'attività sportiva e poi ritocco anche quello dell'RSA Presidente perché credo che in questo capitolo sì c'è quella la prospettiva futura le case di comunità e tutto il resto però credo che l'esigenza di oggi sia quello che la regione soprattutto l'assessorato si prenda con forza la decisione di sapere che cosa vogliamo fare con l'RSA perché lei sa benissimo spesso l'hanno contattata spesso l'hanno cercata per avere delle risposte perché ad oggi quello che è la contrattualizzazione dei servizi di quelli che vengono dati di quello che viene erogato dalla regione logicamente pende tutto a sfavore per quello che riguarda l'RSA e anche questa circostanza però comunque era soltanto un intervento generale poi dopo sulle varie specifiche andremo con degli emendamenti da proporre all'Aula per poter fare una discussione concludo Presidente visto che esce da una riunione di ieri mattina con grande soddisfazione per tutti per quanto riguarda il maggio musicale fiorentino le opere che credo ci abbia coinvolto tutti in questi ultimi mesi e credo che a questo punto anche questo debba essere un punto fermo come Firenze e Fiera che sono due eccellenze della nostra regione perché non sono soltanto di Firenze ma sono della nostra regione ma credo che anche in questa circostanza non si debba correre il rischio di essere colonizzati Presidente mi lasci usare questo termine perché noi abbiamo l'aeroporto che è argentino il trasporto pubblico è francese e non vorrei che si corresse il rischio che anche su queste grandi eccellenze arrivassero come nell'RSA arrivassero questi grandi strumenti internazionali europei a metterci le mani sopra mi auguro di no perché la nostra eccellenza è la Toscana grazie Presidente Grazie Consigliere Galli la parola al Consigliere Enrico Sostegni Presidente Enrico Sostegni Grazie Presidente abbiamo poco tempo quindi cercherò di essere veloce alcuni concetti molto sintetici primo sento tanti interventi che dicono che ovviamente il sistema sociosanitario avrebbe bisogno di una trattazione più di dettaglio più ampio e questo è assolutamente vero tant'è che il PRS è il punto di partenza ma poi la parte sociosanitaria dovrà avere un elemento di dettaglio nel piano sociosanitario regionale che vedrà lì la programmazione di tutto il servizio sociosanitario e dell'integrazione tra il sociale e il sanitario questo per sgombrare intanto uno dei primi equivoci che mi pare ci sia talvolta non in tutti ma in alcuni interventi poi l'altro quello che non c'è un disegno ecco anche questo mi pare che sia veramente generoso comunque assolutamente falso la regione toscana ha un quadro preciso di quello che deve essere l'organizzazione sociosanitaria nella propria regione e cioè fatto da aziende ospedaliere che hanno dimensione circa un milione di abitanti in maniera tale da fare una programmazione integrata della rete sanitaria per la CUTSE ora vuoi abbastanza veloce ma nell'ambito della quale integrare gli ospedali universitari come elemento ospedale di terzo livello per la specialistiche che devono trovare lì su quel bacino una risposta un ospedale pediatrico che è uno dei più importanti al mondo una fondazione la fondazione monasterio che vede un'integrazione straordinaria che non c'è da nessun'altra parte in Italia tra mondo della ricerca CNR e mondo del sistema sanitario regionale con la sperimentazione di eccellenza nel campo cardiologico e poi abbiamo la rete dei distretti che sono in questa regione ben definiti e strutturati che possono essere visti ma ci sono e nell'ambito della quale deve essere avvenire l'integrazione tra l'elemento sociale l'elemento sanitario attraverso uno strumento che noi abbiamo provato come regione e è ormai diffuso in gran parte della regione che è quello delle società della salute come elemento vero che prova al di là dei discorsi perché di integrazione ne parlano tanti ma poi chi la fa davvero e cioè chi non manda il cittadino in comune per una cosa e all'as per un'altra sono pochi in Italia i luoghi dove non si divide la vita di cittadino ma si integra in un luogo che è quello della società della salute alla quale affidiamo anche il tema dell'approccio a tutti i determinanti di salute perché l'approccio a il tema della salute dei cittadini è elemento essenziale e quindi rete forte con i punti di eccellenza eccellenza pediatrica e cardiologica diffusione di una strutturazione territoriale con zone distrette che non si sono solo definite ma si è fatto realmente un'integrazione e poi la riforma del territorio che è una roba della quale si dice da anni che è forse il portato più importante della pandemia non in Toscana ma in Toscana possiamo avere il vanto di dire che il modello introdotto del DM77 è quello toscano rivisitato ma è stato talmente importante quell'idea che in maniera chiara io dico che non c'è riuscito a attuare ancora in tutte le parti della Toscana perché non tutte le società le case della salute sono luogo di vera integrazione ma è il modello che il livello nazionale ha ripreso e quando sento dire ma diteci che idee voi avete noi le idee delle case di comunità e di come deve essere strutturato il territorio c'è un DM77 che è molto preciso in quella che è la definizione della strutturazione del territorio la stragrande maggioranza delle regioni il Presidente mi potrà confermare ha semplicemente attuato con una delibera che richiama il DM77 per l'attuazione del modello territoriale la Toscana non ha fatto questo ma ha rideclinato prevedendo anche l'integrazione dell'assistente sociale come obbligatorio prevedendo l'integrazione del servizio psicologico nelle case di comunità quindi è rifatto proprio un modello che è quello nazionale sul quale siamo d'accordo e su questo ci garberebbe sapere l'idea più forte del governo su quello che intende fare per l'attuazione delle case di comunità e di tutto il modello della salute territoriale perché forse il problema è meno della Toscana rispetto a altre parti d'Italia ma come si attua e con quali risorse questo modello c'è e in un ultimo il modello toscano porta l'idea della centralità della ricerca della ricerca nel settore di scienze della vita e tant'è che il polo toscano di scienze della vita è uno e sarà uno dei più importanti il punto di riferimento vedo l'assessore Nardini qui presente in Italia su questo tema perché il tema della ricerca ce l'ha dimostrato la pandemia e di avere un'industria che riesca a collegarsi con il mondo della ricerca nella produzione farmaceutica dei dispositivi medici è essenziale in tanti momenti anche in momenti di crisi come è stato quello della pandemia un disegno c'è è chiaro è forte è un disegno corretto a mio a nostro giudizio ovviamente è un disegno molto complesso che può essere sempre migliorato quindi non è vero che non c'è un'idea ma c'è un'idea chiara e forte e penso che si possa anche dire che attendiamo proposte diverse su quello che dovrebbe essere un modello migliore per organizzare la sanità in Toscana e in altre parti non l'abbiamo visto e non è pervenuto mi duole di nuovo anche in questo dibattito sentire che in quest'aula non tutti ricondividono quella battaglia su due elementi che sono elementi guardate che buttare sul governo attuale basta è ingeneroso e l'ho più volte detto ma sono due problemi strutturali del paese e cioè quello dei limiti all'assunzione di personale e quello non l'ho interrotta se elimina per ora c'è il limite alla spesa di personale se viene eliminato saremo i primi a fare post dicendo benissimo bene è una richiesta che abbiamo fatto tante volte non c'è però quella è un tema forte che c'è che limita la sanità pubblica onore al merito a chi lo leverà l'altro elemento è quello del finanziamento rispetto ai PIL che è una roba che ha detto Fedriga che non è iscritto al partito popolare e al partito democratico e neanche al partito popolare europeo e dall'altra parte lo ha detto il ministro Schillaci che ha dichiarato anche oggi leggo Schillaci dai 3 a 4 miliardi in più nel fondo sanitario nazionale quindi sono due elementi e due battaglie che devono essere trasversali e se non le facciamo tali se non le rendiamo tali perdiamo l'occasione anche di discutere di modelli perché se noi non riusciamo a riprosolvere questi problemi non risolviamo nessun altro tipo di problema poi leggo e ho sentito anche il collega Petrucci alcuni sui risparmi energetici e su altre cose di dettaglio ecco anche il tema del risparmio energetico e citava Petrucci lo dico perché chi era in commissione abbiamo udito su quelle che sono le misure di contenimento dei costi è stato evidenziato come grazie a un lavoro di analisi di tutti i costi energetici che le aziende sanitarie stanno facendo su richiesta della giunta si sono introdotti delle misure come per esempio la rimodulazione dell'uso energetico delle sale operatorie che comporterà qualche milione di euro di risparmio ma questo non è mica uno spreco questo è un'azione nella direzione di un vero risparmio energetico che la regione toscana sta facendo spero e mi auguro che anche le altre regioni italiane stiano facendo con tanta forza come stanno facendo le nostre aziende sanitarie insomma sono intervenuto essenzialmente per dire il modello noi ce l'abbiamo chiaro siamo aperti a modifiche o a idee che non ci sono sul territorio l'idea toscana di organizzazione è chiarissima è già implementata da tante parti aspettiamo le misure del governo perché che diano le gambe davvero al DM77 e sulla parte delle sfide comune per la sanità nazionale lo dicono i ministri di centrodestra non vedo perché in quest'aula non si possa tornare a dire che sono dei problemi strutturali che questo paese ha che non sono certo determinate il governo attuale ma che ora il governo attuale come tutti gli altri problemi del paese deve trovare la soluzione per risolvere grazie presidente sostegni la parola al consigliere Andrea Ulmi grazie grazie presidente allora mi sono segnato a parlare subito dopo il presidente sostegni perché ovviamente lo marcava uomo si parla di sanità per cui è ovvio che mi sono segnato subito dopo di lui e spero qualche risposta di poterla di poterla dare perché ritengo che la visione del PD in realtà sia molto fumosa questo analisi del PRS e del DEFR lo testimoniano ce lo dice la la corte dei conti che accusa diciamo comunque mette in evidenza una mancata programmazione e questa scarsa trasparenza nei bilanci e la mancanza di efficienza io non me le spiegano i bilanci per cui non sono in grado di specificamente parlare di questo però ovviamente quello che da medico mi preme è una mancata programmazione che viene messa in evidenza e allora siccome i testi che ci hanno fornito di fatto sono piuttosto leggerini no? a fin dei conti la lezione della pandemia ci dice che ci è stato insegnato abbiamo bisogno di un'organizzazione agile una struttura flessibile un sistema resiliente sembra veramente che siano le parole che traspaiono la loro leggerezza in questi due testi se vogliamo essere un po' meno benevoli diciamo che dobbiamo pensare che appunto non manca una vera e propria programmazione e si tenta di rattoppare volta a volta i problemi che la gente o i mass media mettono in evidenza nonostante che il presidente della giunta e l'assessore in qualche modo dicono sempre che la Toscana va meglio degli altri e questo è in dubbio perché se si guarda i parametri che ci vengono dati dal Sant'Anna ovviamente quei puntini nei cerchi oggettivamente le abbiamo meglio di tante altre regioni ma allora cominciamo a sfatargli un po' di miti non è che questi indicatori devono essere quantomeno implementati da qualche altro indicatore che ci dia il il concetto reale di quello che la gente pensa perché è un mondo reale o è un mondo ideale perché noi si dice va tutto bene e in realtà poi la gente è scontenta i medici sono in burnout non c'è una programmazione tale da impedire le liste di attesa impedire diciamo che ci sia una mancata sicurezza per i medici e gli operatori sanitari e addirittura per quelli del CUP che molto spesso vengono alle mani o comunque a male parole perché vengono come se fosse colpa loro il fatto che non c'è un appuntamento giusto quindi io credo che dobbiamo ripensarlo i medici sono in burnout non sono sempre con l'acqua alla gola per carenza di organico e giorni e giorni di ferie da smaltire come ricordava Petrucci con un numero esorbitante di ore di aggiuntiva sulle spalle perché non si ammette forse qualcosa non va allora sicuramente come diceva Sostegni il governo nazionale deve fare qualcosa e sicuramente il tetto di spesa è uno degli obiettivi da eliminare per ridurre per ridurre diciamo il problema però al governo da vent'anni ci si sono alternati destra e sinistra tra il 1970 è il PD che nelle sue varie declinazioni guida la regione per cui la regione ha sempre visto la sanità come una mucca da mungere quando c'era i bilanci in rosso si toglieva alla sanità in fin dei conti le tre maxi asle sono frutto sono frutto proprio di questo risparmio e quindi ecco che io credo dobbiamo ripensare a tante cose nel PRS si parla di ottimizzazione dell'erogazione dei servizi e la gestione dei costi senza tuttavia far venire meno adeguati livelli di assistenza nelle zone periferiche ma come si fa cioè è qui che manca il modello organizzativo è qui che manca una definizione concreta di ciò che volete fare noi abbiamo pensato e lo dico ora perché tanto mi bocceranno gran parte dei miei emendamenti immagino una lean health care che è una gestione sanitaria che ha lo scopo di abbattere gli sprechi e le attese aumentando il coinvolgimento degli operatori e dei pazienti abbiamo pensato a una programmazione e qui auspicavo che sostegni potesse sentirmi una programmazione non basata per prestazioni ma basata sulla value based health care cioè noi dobbiamo fee for value invece di fee for service non vogliamo pagare per i servizi ma vogliamo creare il valore che cos'è il valore il valore è gli esiti fratto i costi quindi cambiamo completamente paradigma alla sanità e cerchiamo ovviamente di attrezzarci tra due anni perché questi ovviamente non sono dei rattoppi sono un'idea una visione una visione che noi abbiamo e questo spero di poter che potremo metterlo in atto tra due anni dobbiamo rendere orgogliosi gli operatori sanitari della professione che svolgono e non deprimerli con il troppo lavoro e la situazione conflittuale nella quale si trovano ad operare vedete la seconda lettera dei 288 medici di Careggi che diceva non è tanto i soldi quanto il modo in cui lavoriamo e l'ambiente in cui lavoriamo facciamo in modo che gli infermieri abbiano quello che gli spetta dal punto di vista gestionale hanno la laurea la laurea magistrale non deve servire a creare dei dirigenti infermieri che poi scaldano la poltrona e non vanno nel lavoro una medicina moderna prevede che quei due anni di laurea magistrale possa servire a creare l'infermiere specializzato in cardiologia in diabetologia in oncologia in emergenza urgenza ci avrei da dire mille cose però ecco un'altra cosa che voglio dire è quella sul CUP il CUP praticamente perché c'è questo ingorgo al CUP perché evidentemente tutti vogliono appuntamenti tutti vogliono appuntamenti allora dobbiamo creare noi abbiamo pensato all'open access che è già stato fatto qui in Toscana a Pisa e poi è stato tolto ci sono due livelli di appuntamenti gli appuntamenti i primi appuntamenti al CUP i secondi appuntamenti una volta che vengono presi i reparti ecco che devono gestirli loro di modo che l'agenda lunga un anno e le appuntamenti di visita vengono presi e dati dal reparto di modo che abbiamo una sorta di lista programmata e non le liste di attesa infinite noi pensiamo a un outpatient department cioè affinché il pronto soccorso non sia completamente intasato dobbiamo pensare a un filtro un filtro che governi i codici 4 e i codici 5 e infine due parole sui medici di continuità assistenziale che vedono praticamente la loro professione completamente desautorata perché turni di 4 ore con un'idea fumosa delle 8 ore messe nel diurno quando soltanto quelli i medici di continuità assistenziale quelli titolari possono fare il diurno gli altri e la gran parte adesso la continuità assistenziale è fatta da medici specializzanti oppure che non sono titolari non possono farla al tocco anche l'ultima cosa no basta basta così grazie grazie consigliere Ulmi la parola alla consigliera Donatella Spadi sì grazie presidente e greci colleghi quello che mi meraviglia è che ogni tanto si parla di concetti che si danno come nuovi in realtà nuovi non lo sono se parliamo della lean health care vorrei dire che nelle aziende sanitarie toscane almeno in alcune ma anche in certi dipartimenti regionali già la si attua cioè si fanno corsi di formazione ai dipendenti con la lean ormai un concetto direi abbastanza non nuovissimo insomma e lo si utilizza si utilizza anche in quei dipartimenti che sono di tipo regionale per esempio la donazione organi e la toscana è una di quelle che è molto organizzata e prende a modello regioni dove la donazione organi è estremamente buona come la Spagna e quindi voglio dire già lo utilizziamo la lean e il care e poi vorrei dire che come facciamo a capire se siamo bravi o non siamo bravi se siamo sulla strada giusta o se siamo sulla strada sbagliata beh io credo che in qualche modo dobbiamo misurarci lo fanno tutte lo fanno le aziende lo fanno lo fa chiunque e come facciamo per misurarci bene mettiamo degli indicatori ma non sono degli indicatori calati dall'alto sono degli indicatori che gli operatori sanitari spesso vanno a ricercarsi quando si va a pensare a quel a quel bersaglio del mess è semplicemente una visualizzazione è un modo per avere visivamente quello che è il nostro risultato questo serve in qualsiasi struttura in qualsiasi azienda e io che ho diretto un reparto vi dico che tramite quella visualizzazione tramite quegli indicatori io metto in atto i correttivi tra l'altro da qualche anno a questa parte ma oserei dire qualche decina d'anni è entrato un concetto che si chiama governance clinica dove i medici oltre a fare i clinici fanno anche menagement in qualche modo e quindi avere a che fare con obiettivi e con indicatori e cercare di utilizzare il sistema migliore per arrivare alla cura dei loro pazienti è roba loro quindi credo che sia importante tutto ciò e penso che quello che ho sentito dire secondo me non è nient'altro che quello che è un modello toscano che arriva da lontano che viene ripreso e si cerca comunque di denigrare poi è chiaro che tra l'altro ho sentito parlare degli ambulatori dei codici 4 e 5 nei pronto soccorsi beh l'abbiamo già fatto sperimentato già si facevano i codici bianchi quando ancora c'era i codici colore non è una novità tra l'altro nei pronto soccorsi toscani utilizziamo il CNTREAT che è il trattamento infermieristico per cose che possono diciamo passare dal pronto soccorso in maniera molto veloce utilizziamo i fast track cioè io credo che in questa regione si siano messi tra l'altro un progetto regionale di qualcosa come tre anni fa parlava di nuovo pronto soccorso dove si è cercato nuovi indicatori un nuovo modello introdotto i CNTREAT e introdotto i fast track quindi voglio dire il modello toscano e l'idea di cosa si può fare c'è quello che non c'è secondo me e che poi determina i problemi della sanità è la grave carenza di medici ma ce lo stiamo dicendo ormai da tanto tempo è ovviamente la scarsità di risorse nel fondo sanitario nazionale dove vorremmo arrivare a oltre il 7% del PIL altrimenti non ce la facciamo questo come altri paesi e naturalmente eliminare questo tetto di spesa per il personale perché altrimenti noi non possiamo aumentare le nostre risorse umane quindi non prendiamoci in giro dicendo che non abbiamo le idee oserei dire che la Toscana è un faro rispetto a tutta l'Italia perché io vi posso assicurare che se andate in altre regioni a curarvi probabilmente tornate in Toscana con tutti i problemi che abbiamo nessuno li nega perché poi ci sarà sicuramente da attendere per avere l'appuntamento ah un'altra cosa volevo dire in Toscana esistono anche le visite di controllo che vengano prese all'interno dei reparti esistono quelli che si chiamano meccanismi di retrosportello dove è direttamente dal reparto che si fa tutto ciò quindi secondo me tutto ciò che ho sentito secondo me già esiste già è stato pensato già si mette in pratica può darsi che questo non è sufficiente no ci vogliono più investimenti e ci vuole più personale e ci vuole più formazione di personale grazie grazie consigliere Aspadi la parola alle consigliere Massimiliano Pescini grazie grazie per la parola cercherò di essere molto sintetico perché poi le conclusioni ovviamente spettano al nostro capogruppo e al presidente della regione nel dialogo con gli altri presidenti dei gruppi consigliari mi pare di poter dire che nella discussione che abbiamo fino a oggi portato avanti e abbiamo anche oggi portato avanti i temi sono ormai condivisi come priorità il problema sono le declinazioni e le diverse direzioni che vorremmo dare perché quando si parla di sanità lo facevano ora il presidente Sostegni e la vicepresidente Spadi noi abbiamo una visione a mio parere molto più realistica rispetto a quella di chi individua alcune come fa in alcuni interventi l'opposizione individua alcune problematiche serie che hanno tutti i sistemi sanitari compreso il nostro in questo momento in Italia e non dà come soluzioni le uniche che sono possibili l'aumento del Fondo Sanitario Nazionale almeno almeno al 7,5% del prodotto interno d'ordo e l'abolizione dei vincoli che ancora oggi sul personale riguardano la spesa sanitaria del 2004 tolto l'1,4% legge governo Berlusconi ministro Tremonti quella che tra l'altro introdusse in maniera pesante nello stesso decreti in quei mesi i vincoli e il patto di stabilità per gli antilocali che tanto hanno condizionato gli investimenti anche in Toscana oggi siamo invece dinanzi a una stagione di investimenti molto più forti grazie al lavoro che il governo italiano negli anni dal 2019 al 2020 al 2021 ha fatto con l'Europa il PNRR di cui parliamo tutti anche per la sanità anche per la scuola anche per la cultura così come per il turismo così come per l'ambiente e la digitalizzazione riguarda una spesa per il nostro paese di circa 209 miliardi di euro che è quasi il 50% della spesa complessiva che quel piano europeo ha dato ai paesi dell'Unione e questa è una grandissima occasione tra l'altro il sistema toscano sta dimostrando di essere tra i più efficienti sia nella trasparenza e questo è un merito anche della regione è stato riconosciuto anche recentemente dal Sole24 e sia nell'efficacia dei provvedimenti che le autonomie locali in Toscana danno dalla progettazione fino alla realizzazione dei primi progetti questo per noi è una sfida ma la sfida sia in sanità sia ad esempio nell'edilizia scolastica mi pare che noi avremo molti più asili nido avremo molte più scuole efficientate e antisismiche l'ufficio scolastico regionale che applica le direttive ministeriali oggi sta parlando di accorpamenti e di tagli dentro gli istituti minori delle aree interne quelli con meno popolazione che mettono in seria preoccupazione le famiglie e anche le amministrazioni comunali la regione fa il possibile ma spesso si prende responsabilità io vedo anche nell'opinione pubblica che non sono sue perché l'ufficio scolastico regionale è una estrinsecazione del ministero a livello regionale in ogni singola regione del ministero della pubblica istruzione è bene ricordarlo perché vedo che su questo accuse ingiustificate alla regione vengono mosse ed è giusto ricordare invece che queste sono scelte precise cioè si disinveste nella scuola e non si investe in sanità che sono i due servizi pubblici fondamentali io penso che questo sia ben diverso nell'approccio il compito della regione toscana è quello che è scritto nel nostro programma regionale di sviluppo il vicepresidente Fantozzi riconosceva prendendo una battuta molto bella da amici miei che è un programma dove regionale di sviluppo dove c'è tutto e dove c'è anche molto di divisione e che è stato va detto lo ricordava la collega mercanti all'inizio e lo ricordava con grande capacità anche di argomentazione economica il consigliere il collega Anselmi è stato molto migliorato dal lavoro che ha fatto la commissione preseduta da Giacomo Bugliani nel senso di precisato secondo rendendolo più attuale rispetto a quella che era la prima versione questo l'abbiamo fatto ovviamente in collaborazione con la presidenza e con la giunta regionale e l'abbiamo fatto anche nel lavoro serio di audizione delle tante realtà noi abbiamo passato giornate intere ad ascoltare le realtà economiche sociali ambientali della regione toscana e non solo associazionismo e questo ci ha portato a fare un piano che oggi secondo me è una bussola molto seria e che oggi può dare nuova spinta necessaria quando siamo ormai oltre la metà del nostro mandato e c'è bisogno di dare corpo e sostanza ai tanti progetti che abbiamo messo in campo utilizzando i fondi europei utilizzando al meglio i fondi europei perché anche nelle statistiche che si vedono la regione toscana in molti settori è una regione che utilizza molto bene i fondi europei rispetto al resto d'Italia ed è una regione che con i fondi europei ha fatto scelte che vanno in una direzione precisa come ad esempio quella degli asili nido gratuiti perché ha un ISEE sotto i 35 mila euro prima regione in Italia bisognerà lavorare moltissimo e questo è un tema fondamentale su altri servizi pubblici che sono fondamentali e su cui la regione toscana ricordiamo la seconda voce di spesa dopo la segnalità nel nostro bilancio è quella dei trasporti della mobilità c'è molto in questo PRS sul trasporto e mobilità e c'è molto previsto nella gara che va attuato con responsabilità serietà e tenendo conto che dobbiamo sempre partire da chi ha più bisogno sia dal punto di vista del trasporto sia dal punto di vista economico per cercare di rendere il trasporto pubblico locale toscano più frequentato ancora più frequentato sia su ferro sia su gomma utilizzando l'intermodalità è una sfida grande oggi parte mi pare sia oggi che parte l'alta velocità che libererà tantissimo trasporto almeno due binari su Santa Maria Novella per il trasporto regionale e il trasporto dei pendolari ma quello non basta ovviamente c'è tutto un lavoro grande su gomma per il trasporto su gomma e per il trasporto su ferro anche nelle zone che non siano quelle centrali che va portato avanti con grande forza e tenendo conto che il contratto di servizio che la regione toscana ha stipulato è uno dei più onerosi per le regioni in Italia che la cifra complessiva si aggira tra fondi propri e fondi ministeriali ben oltre i 650 milioni di euro ed è sempre aumentata ed è una quota parte del fondo nazionale molto alta ed è un dovere oltre che una sfida che dobbiamo accertare continuare a lavorare perché il trasporto migliori perché sappiamo che su queste criticità poi c'è una narrazione che vede i problemi non dà soluzioni ma naturalmente parla all'insoddisfazione noi abbiamo un compito diverso perché abbiamo il compito del governo parlare all'insoddisfazione non è compito nostro noi abbiamo la necessità di dare a tutti l'idea che la Toscana continua a essere una regione dove si vive meglio e non si lascia indietro nessuno e dove si vive meglio di altre proprio perché non si lascia indietro nessuno credo che questo sia il nostro compito per l'oggi è stato il nostro compito nei decenni passati è il compito di oggi e il compito di domani e questo PRS sostanzialmente dice questo sull'accesso alle informazioni sulla Toscana sulla Toscana diffusa intesa nel senso tante volte del rinato già in leggi anche fatte dal Consiglio regionale e in provvedimenti della Giunta che sulle aree interne ha investito moltissimo investe moltissimo nella criminalità per i bandi anche per i comuni più piccoli e per i comuni più periferici dà opportunità come con le leggi per i custodi della montagna alle aziende di tanti comuni montani sappiamo che anche questo non basta ma vorremmo vedere quali provvedimenti ulteriori ci suggerisce l'opposizione abbiamo lavorato e chiudo molto sugli emendamenti i Presidenti di Commissione tutti i colleghi il gruppo l'ha letto uno per uno abbiamo letto uno per uno gli emendamenti siamo stati disponibili a non avere una visione pregiudiziale su nessuno di essi alcuni li abbiamo emendati o subemendati alcuni altri li abbiamo chiesto trasformazioni e testi dosedutivi alcuni altri li approveremo dando l'idea che alla fine vogliamo costruire la Toscana con tutti e con il contributo di tutti ma questa visione che noi abbiamo non possiamo derogare prendendo visioni di altri per quello tanti emendamenti dell'opposizione molti emendamenti dell'opposizione non potranno avere il voto favorevole del Partito Democratico ma la disponibilità alla discussione al dialogo c'è stata e c'è e anche questo credo sia un patrimonio di questa aula di questa assemblea che la maggioranza il gruppo di maggioranza non ha mai fatto mancare quindi con questo spirito credo domani andremo ad approvare l'atto la cornice fondamentale di governo della regione che non è un atto formale e non è nemmeno un atto seppur venuto più tardi rispetto a quello che avremmo voluto ma non è neanche un atto come dire dovuto è invece un atto che ci impegna ancora di più a fare bene e su questo andremo avanti fino alla fine della legislatura perché questo è il compito che ci hanno dato le Toscane e i Toscane grazie ringrazio il collega Pescini la parola al presidente Torselli quanti minuti restano al gruppo dei fratelli d'Italia? 16 minuti prego due grazie grazie presidente e raccogliamo volentieri la sfida del PRS perché il PRS l'abbiamo interpretato al di là delle polemiche che anche alcuni miei colleghi hanno fatto e che domani magari in serie di dichiarazioni di voto potremmo fare ulteriormente sui tempi sul momento in cui questo piano è stato presentato però al di là di questo il PRS è un piano strategico è un piano che dà una visione di regione che dà una visione di governo della regione e quando si parla di governo della regione di visione futura del governo della regione non ci possiamo sottrarre dall'accettare la sfida cioè da leggere quella che è la vostra visione abbiamo presentato credo come centrodestra più di cento emendamenti e sfido chiunque al di là della condivisione del testo degli stessi a trovarne uno fatto per prorogare lavori d'aula o fatto in maniera istruzionistica e cambia una E con una A sono tutti emendamenti che davano l'idea della nostra visione di governo e quindi ben venga questo momento di confronto anche se arriva a ora tarda abbiamo provato a immaginare la nostra Toscana in contrapposizione alla Toscana che è scritta nel programma di sviluppo del presidente Gianni abbiamo provato a immaginare una Toscana che non guardasse visto anche siamo anche nel 2023 anziché nel 2021 quindi che non guardasse soltanto al 2025 ma provasse a guardare anche oltre provasse a guardare a quale regione lasciare alle future generazioni abbiamo immaginato una Toscana innanzitutto moderna e per essere una Toscana moderna non si può prescindere dalle infrastrutture le infrastrutture non è polemica presidente Gianni e so benissimo che un'infrastruttura importante di livello regionale non si realizza dall'oggi al domani non si realizza con lo schiocco delle dita ma oggi chi fa il consigliere comunale nella stragrande maggioranza dei nostri comuni chi fa l'assessore chi fa il sindaco molti di noi che facciamo i consiglieri regionali non abbiamo mai visto in vita nostra porre la prima pietra di una grande infrastruttura regionale noi viviamo e ci muoviamo in Toscana ci spostiamo in Toscana viviamo la Toscana su infrastrutture che hanno visto nascere i nostri genitori e non noi che molti assessori e molti sindaci che governano la nostra regione non hanno visto noi abbiamo una Firenze Pisa Livorno inaugurata 53 anni fa la Firenze Siena inaugurata 56 anni fa la direttissima ferroviaria Firenze Roma l'alta velocità inaugurata 31 anni fa il porto di Livorno l'aeroporto di Pisa che aspettano i lavori di ammodernamento che oggi sono fissati orientativamente al 2025 ma con un punto di domanda l'aeroporto di Firenze è no comment ne sappiamo qualcosa noi fiorentini questo è un problema non solo infrastrutturale ma accaduta sul grande altro tema è quello dell'attrazione degli investimenti nella nostra regione perché difficilmente oggi non si parla più non so se questo sia un bene o un male ma il mondo va avanti e il mondo globale ancora più del mondo tradizionale a cui eravamo abituati fino a qualche anno fa oggi attrarre un finanziamento in Toscana non significa attrarre l'imprenditore che da Milano da Roma decide di decentrare un proprio ramo d'azienda in Toscana non significa attrarre l'investimento che arriva da Parigi probabilmente oggi già dobbiamo guardare oltre dobbiamo guardare al meglio oriente all'estremo oriente all'altra parte dell'oceano e nessuno viene oggi a investire in una regione che ha sicuramente una grandissima attrattività dal punto di vista della bellezza sicuramente ha una grande capacità di attrarre dal punto di vista della storia della fama della bellezza naturale della capacità di essere un qualcosa che stupisce l'occhio e il cuore di chi la guarda ma dall'altra parte chi viene a investire nella nostra regione partendo magari dall'altra parte del mondo non può non considerare che oggi per andare da Grosseto a Firenze ci vuole lo stesso tempo che si impiega da Milano a Roma pari pari preciso al minuto non si può non far conto non tenere conto che dal capoluogo di regione dalla bellissima Firenze conosciuta e amata in tutto il mondo per raggiungere il principale porto della nostra regione si utilizza una superstrada progettata negli anni 60 per raggiungere il principale aeroporto che è l'aeroporto di Pisa si utilizza un'autostrada progettata addirittura negli anni 30 e questo ci penalizza ci penalizza perché rischiamo di diventare poco appetibili non oggi ma se si vuol dare una visione futura a 10 anni a 15 anni a 20 anni rischiamo di diventare poco appetibili al mondo in chiave appunto futura abbiamo immaginato una Toscana presidente giovane e i giovani sono un grandissimo tema sono richiamati nel PRS sarebbe ingiusto dire che non si fa riferimento ai giovani c'è quel progetto che ormai conosciamo tutti che è Giovani Sì che è un progetto che negli anni e sono il primo a riconoscerlo ha dato opportunità enormi ai giovani toscani e sono pronto a sottoscriverlo e a difenderlo in tutte le sedi ma oggi dobbiamo fare una riflessione una riflessione che l'abbiamo fatta qualche tempo fa in aula una o due sedute fa che ha generato anche un po' di polemiche sono i dati che ci ha fornito Banca Italia Banca Italia ci dà un dato ci dice che il rapporto tra imprese nate in Toscana negli ultimi 10 anni e popolazione residente con un'età compresa tra 18 e 34 anni è diminuita negli ultimi 10 anni del 18% che è tre volte di più della media nazionale questo cosa significa che i giovani toscani hanno smesso di investire no probabilmente significa anche che ci sarà un calo demografico e di residenzialità no ma sicuramente è un dato che lascia preoccupare è un dato che fa preoccupare è un dato che lascia spazio aperto a un sentimento di sfiducia dei giovani toscani nei confronti della propria terra e se un giovane toscano smette di avere fiducia nella propria regione smette di pensare un giorno di poter essere imprenditore in Toscana ma inizia a sognare come sognavano 20 e 30 anni fa i giovani di altri paesi d'Europa e del mondo di poter venire a investire in Toscana diventiamo una regione che perde di competitività nel futuro abbiamo presentato per questo un emendamento sarà un emendamento sul cui vorrò intervenire domani e lo farò con grande dovizia di particolari sul tema dell'impatto generazionale cioè noi vi chiediamo di inserire nel PRS quella valutazione che già altre regioni hanno introdotto ovvero che quando si va a emanare un provvedimento quando si va a emanare una legge si tenga conto dell'impatto che questo provvedimento potrà avere in futuro su quelle che oggi ci sono le giovani e le giovanissime generazioni perché al nostro modo di vedere è fondamentale tornare a pensare ai giovani abbiamo pensato abbiamo immaginato una città una regione che sia realmente inclusiva e di tutti e guardi Presidente mi fa enorme piacere aver trovato nel PRS un richiamo anche se al nostro modo di vedere non troppo approfondito motivo per cui ci abbiamo presentato sopra degli emendamenti ma è sicuramente un primo tassello che vi sia un richiamo al tema delle nuove povertà oggi noi viviamo una stagione un'epoca in cui la povertà non è più ascrivibile a quelle categorie alle quali eravamo abituati fino a 10 15 20 anni fa fino a la generazione precedente alle nostre le generazioni precedenti alla nostra avevano la fortuna o la sfortuna di riuscire a inquadrare chi fossero i potenziali poveri cioè chi fossero le persone che potenzialmente avevano bisogno di aiuto e tarare gli strumenti e la Toscana che il centro-destra non ha mai governato ma questo non ci permette di essere onesti intellettualmente nel riconoscerlo la Toscana è sempre stata in grado è sempre stata avanguardia nel trovare strumenti per aiutare quelle fasce di società potenzialmente destinati alla povertà poi cosa è successo è successo che il mondo è diventato un mondo fatto di precarietà è diventato un mondo fatto di incertezza è diventato un mondo in cui tu puoi essere oggi una persona economicamente e socialmente solida e ritrovarti domani mattina ad essere una persona che ha un enorme bisogno d'aiuto ti puoi ritrovare ognuno di noi è pieno di storie sentite conosciute raccontate di persone che ci hanno fermato per strada o che hanno bussato alle nostre porte e agli uffici che ci hanno raccontato di vivere una vita esattamente spezzata a metà una prima parte di vita un primo tempo in cui hanno vissuto una situazione di agio una situazione di tranquillità economica e sociale una seconda parte di vita in cui si sentono marginalità in cui sono diventati marginalità e lo sono diventati in maniera improvvisa e per fare fronte a queste nuove povertà servono strumenti differenti da quelli che abbiamo finora utilizzato perché quelli che abbiamo finora utilizzato sono tarati e parametrati per fortuna per fare fronte a determinati bisogni vanno in crisi con le nuove povertà e con le nuove marginalità abbiamo immaginato Presidente una persona toscana del futuro anche più green ma più green realmente più green non dal punto di vista dello slogan o del richiamo alla moda del momento mi spiego nel PRS ci sono tantissimi riferimenti le parole sostenibilità svolta green transizione ecologica ci sono decine di volte non le ho contate ma ci sono veramente richiamate tantissime volte così come nel DEF così come in qualsiasi documento la regione toscana abbia discusso e approvato negli ultimi tempi ma quando ognuno di noi ha a cuore e ci mancherebbe altro il futuro del pianeta ognuno di noi sa che oggi è molto più dovere di ieri avere a cuore il futuro del pianeta è molto più importante di ieri fare fronte all'aumento dell'inquinamento all'aumento al calmutamento climatico e basta guardare fuori dalla finestra oggi al 26 di luglio mentre avevamo in consiglio comunale fuori c'era un temporale leggevamo l'Ansa e le agenzie e uscivano agenzie da 3-4 regioni d'Italia devastate nuovamente dal maltempo quindi è un tema sicuramente importante ma attenzione a non sacrificare tutto sull'altare della sostenibilità e della svolta green perché spesso dietro le parole sostenibilità e svolta green non c'è niente anzi peggio ancora c'è chi è pronto a farti un plauso quando l'unica cosa di green che conosce forse è il colore delle banconote che ha nel portafoglio e attenzione perché spesso e volentieri pur di farsi dire bravi da chi ha questa visione di transizione ecologica e di svolta green rischiamo di sacrificare degli asset strategici regionali e nazionali importantissimi io ho un pallino che riguarda il settore dell'automotive mi fa morire chi predica e sogna un mondo in cui tutte le auto si muovono a batterie e lo fa non tenendo conto del fatto che l'Italia è stata ed era fino a poco tempo fa leader mondiale in quel settore e che più che si va coverso una transizione cieca verso la svolta dell'automotive elettrica più si sacrificano filiere che poi accaduta uno pensa alla Fiat la Fiat ormai di italiano ha poco più che i colori se ancora fanno le auto bianco, rosse e verdi non lo so ma accaduta dalla Fiat poi si arriva a Campi Visenzio si arriva a realtà che tocchiamo tutti i giorni e che sappiamo essere le realtà con cui ci dobbiamo confrontare chiudo su un altro tema che mi sta a cuore una Toscana connessa al futuro in Toscana ci sono ancora 37 comuni che non hanno copertura cellulare c'è ancora un'area importante del territorio soprattutto del territorio del nord ovest che non è coperta dalla fibra che vuol dire che i ragazzini che crescono in queste zone non possono giocare ai videogiochi sul cellulare no significa che una giovane coppia che deve scegliere se continuare a vivere nel proprio paesino dei 37 comuni del nord della Toscana o trasferirsi nella grande città si trasferisce nella grande città non per scelta ma perché ormai si è abituata a lavorare smart working e sa che nel suo paese d'origine nella sua città natale non potrà lavorare smart working perché non ha una copertura adeguata significa che chi deve comprare una casa magari non la compra laddove non c'è una copertura con la fibra perché sa che un giorno non potrà lavorare smart working quando magari dovrà lavorare da casa significa che l'azienda e stavolta non la grande multinazionale di cui parlavo prima che arriva dall'altra parte del mondo ma anche l'azienda toscana se deve investire e realizzare un nuovo capannone in un'area che non è coperta dalla fibra o dal segnale cellulare sa che oggi è fuori dal mondo è fuori dalla competitività e lì non investe in quella porzione di territorio e va da un'altra parte sono tanti 37 comuni su una regione come la toscana secondo me sì secondo me sì può fare qualcosa la regione toscana non da sola ma sicuramente può essere trainante per un processo di digitalizzazione che manca chiudo con una battuta c'è un capitolo dedicato alla semplificazione informatica dentro il PRS vi faccio presente che ancora nella stessa città gli ospedali non dialogano tra loro con i software e se tu hai una cartella clinica fatta a Firenze Sud non traleggono a Firenze Nord quindi va bene la semplificazione informatica ma attenzione cioè partiamo dalle cose che poi ricadono sulla testa dei cittadini tutti i giorni grazie grazie il presidente Torselli la parola 12 minuti la presidente Meini grazie presidente attendevamo da tempo la discussione del piano regionale di sviluppo e dopo una prima lettura abbiamo scelto anche la linea politica da attuare in questa discussione del piano regionale di sviluppo una linea che vuole essere e lo penso che sia stata apprezzata propositiva costruttiva collaborativa anche nella presentazione di quelli che poi saranno gli emendamenti però siamo partiti come gruppo proseguendo in una mancanza purtroppo che è avvenuta di una serie di audizioni e qui mi rivolgo al presidente della prima commissione che sono purtroppo mancate di confronto sul piano regionale di sviluppo lo abbiamo detto più volte lo abbiamo chiesto più volte avevamo come consiglio regionale diversi mesi di tempo davanti che si sono anche protratti e che abbiamo chiesto anche più volte di proseguire con una serie di audizioni e di confronti più precisi e puntuali su tutti i temi toccati nel piano regionale di sviluppo una risposta che non è arrivata e quindi come gruppo Lega abbiamo fatto le nostre audizioni e le nostre consultazioni con tutti i soggetti che ritenevamo giusto coinvolgere per la discussione del piano regionale di sviluppo associazioni di categoria associazioni di settore sindacati e da molti di questi emendamenti che abbiamo portato anche all'attenzione della maggioranza e del consiglio regionale provengono proprio da queste consultazioni che abbiamo fatto in maniera autonoma per mancanza di purtroppo organizzazione di discussione in prima commissione questo è un punto è una nota dolente è una critica una delle critiche che faccio semplicemente perché avremmo avuto anche il piacere che alcuni di questi emendamenti magari fossero accolti nelle varie commissioni di competenza fossero discussi nelle varie commissioni di competenze e magari molti di quelli che poi non troveranno l'approvazione magari se condivisi dopo delle audizioni più corpose potevano trovare un'attuazione un'applicazione di tutto il consiglio regionale dopo dopo la prima fase abbiamo ci siamo focalizzati su quanto relaziona IRPET e la Banca d'Italia e tre sono i principali problemi che mettono all'attenzione dal punto di vista socio-economico il primo è appunto lo diceva prima anche il presidente Torselli l'aumento della povertà la difficoltà delle famiglie a sopravvivere a risparmiare e anche la preoccupazione nel poter investire e su questo abbiamo presentato una serie di emendamenti che riguardano principalmente le case popolari i lode e tutta la gestione degli alloggi IRP in generale il piano delle allenazioni circa 4.000 poco più 4.050 sono gli alloggi sfitti nell'uno degli ultimi piani dell'abitare circa del 2021 ecco su questi ci sono degli emendamenti che vanno appunto nella richiesta di rivisitazione della legge regionale ma soprattutto di una discussione nella commissione competente su quello che è il piano delle allenazioni questo non vuol dire che la colpa è della regione i soldi sicuramente non ci sono disponibili anche per le ristrutturazioni perché molti di questi sono sfitti non perché gli enti locali hanno il piacere di tenere sfitti gli alloggi popolari ma semplicemente perché mancano le risorse per poterli ristrutturare e su questo noi appunto presentiamo per quanto riguarda il piano delle allenazioni una proposta che può andare a compensare anche il riuso di questi di questi alloggi un export non trainante a causa degli effetti del rincaro energetico un fenomeno che ha ridotto in maniera decisiva anche il margine positivo che abbiamo sempre avuto tra l'import e l'export e su questo ci siamo chiesti come possiamo dare un contributo e qui uno dei contributi che ci è venuto in mente analizzando anche il piano regionale di sviluppo è sicuramente l'attenzione centrale che chiediamo anch'esso con un altro emendamento a quella che è la geotermia il petrolio della Toscana anche su questo vorremmo lo abbiamo già fatto in passato più volte ringrazio anche la presidente Bugetti in commissione aprire una discussione su quello che è veramente per noi una risorsa importante però purtroppo ancora oggi il 70% delle energie vengono importate solo il 30% è prodotto da energia geotermica e quindi anche su questo noi apriamo una discussione l'ultimo punto è il turismo che sicuramente si è ripreso e questo credo che faccia piacere a tutti però è controbilanciato da un manifatturiero che purtroppo perde punti di pil e anche qui ci siamo interrogati su come poter dare un contributo e qui entra anche il tema delle infrastrutture abbiamo presentato emendamenti per un'attenzione più centrale al sistema aeroportuale sul tema della FIPILI sul tema della TAV è un tema che a me sta particolarmente a cuore che è quello dell'area metropolitana costiera un collegamento più preciso più puntuale più veloce tra le aree di Livorno Pisa e Lucca e anche su questo abbiamo fatto un focus presentando un emendamento molti dei quali sono più di uno ma semplicemente perché alcune tematiche si toccano più volte all'interno del piano regionale di sviluppo quindi per fare un lavoro completo abbiamo cercato ogni qualvolta si parlasse di quel tema di riprendere quelli che erano i nostri emendamenti e la nostra visione su questo abbiamo poi in maniera politica da opposizione perché non possiamo negare che mentre queste sono proposte di buonsenso che possono essere condivisibili perché non partitiche perché no ideologiche perché no di una visione magari anche di riferenziazione tra il centro-destra e il centro-sinistra abbiamo anche presentato e questo con un confronto anche con il centro-destra poi invece una serie di emendamenti che sono sicuramente più politici di una visione diversa su tanti temi come appunto Toscana Strade perché noi lo abbiamo dichiarato come Lega siamo completamente contrari e lo saremo sempre al pedaggio della FIPL abbiamo presentato una visione diversa su quella che è la gestione dei servizi pubblici parlavo prima di energia però abbiamo parlato anche abbiamo toccato il tema dell'acqua un tema che a noi sta particolarmente a cuore su cui non possiamo negare che c'è bisogno di una riorganizzazione per quanto riguarda la governance perché la gestione dell'acqua per quanto ci riguarda deve essere una gestione molto più vicina ai territori il 40% sono circa le perdite di acqua nella nostra regione e anche qui chiediamo una riorganizzazione della governance che sia anche organica per evitare appunto le perdite dell'acqua poi tocchiamo il tema dei rifiuti che già precedentemente ha toccato anche il collega Bardini su cui è partito un lavoro preciso e puntuale lì sì di audizioni e consultazioni serie con domande approfondimenti come doveva essere fatto anche sul piano regionale di sviluppo perché questo a prescindere dalle critiche che arriva a metà mandato su cui abbiamo avuto modo più volte anche di dire e stimolare la maggioranza il fatto che era un atto che doveva arrivare nei primi mesi di mandato ma sul piano dei rifiuti si fa un lavoro preciso e puntuale su cui spesso magari non si trova anche condivisione di intenti ma si ascoltano tutti i soggetti coinvolti si fanno domande e si cerca di capire anche come commissione cercare di dare un contributo aggiuntivo sul PRS purtroppo questo ci è stato negato più di 60 soggetti convocati in una giornata e più della metà non si sono presentati semplicemente perché la convocazione era arrivata pochissimi giorni prima qualcuno ha mandato sicuramente anche dei contributi scritti però il lavoro che potevamo svolgere tutti insieme come consiglio regionale poteva essere un lavoro diverso e magari oggi non saremmo nemmeno arrivati a dover presentare anche una serie di emendamenti molti dei quali lo ripeto provengono da un confronto che noi abbiamo fatto con le associazioni con i sindacati perché ci sarebbe stata una condivisione anche in prima commissione e nelle altre commissioni competenti purtroppo tutto questo non è avvenuto e ci troviamo oggi a dover discutere anzi domani mi correggo una serie di emendamenti che magari avremmo potuto anche evitare magari approvarne anche di più in condivisione con il consiglio regionale l'ultimo punto lo accennavo prima i rifiuti sui rifiuti abbiamo sicuramente una visione diversa però sono convinta che il lavoro che porteremo in fondo nella commissione sarà un lavoro preciso e puntuale noi abbiamo presentato un emendamento sicuramente quello forse è uno di quelli più strumentali perché noi lo abbiamo dichiarato siamo a favore dei termovalorizzatori un punto di distinzione rispetto alla maggioranza sul tema dei rifiuti però comunque anch'esso anche con un punto di distinzione va a descrivere le motivazioni della nostra visione quindi tutto questo lavoro che noi abbiamo portato avanti ormai da mesi Presidente è un lavoro in parte anche di visione che può sicuramente essere condivisa in parte di visione diversa però assolutamente fatto in un'ottica di bene verso i cittadini toscani credo un bene che tutti abbiamo con l'onore anche con cui li rappresentiamo in consiglio regionale grazie grazie l'ultimo intervento la parola al Presidente Ceccarelli grazie Presidente si prendo la parola per ultimo con un'aula direi anche giustamente stanca ma convinto di inserirmi nell'ambito di un dibattito che è stato ed è un dibattito appassionato e anche costruttivo e io voglio partire Presidente prima di iniziare siccome c'era il portavoce dell'opposizione se vuole intervenire per ultimo ascoltarlo ok perfetto prego vorrei anch'io partire come ha detto la collega Meini dalla linea politica lei ha detto noi abbiamo scelto la linea del confronto della produzione della presentazione dei vendamenti bene noi come avete visto abbiamo scelto una linea dell'ascolto una linea della disponibilità a valutare le proposte che sono venute e che verranno non ci trovate come qualcuno ha detto stanchi ma anzi siamo qui presenti con la volontà di approvare un piano un documento che è sicuramente importantissimo per quanto riguarda la nostra regione ma lo vogliamo fare con la consapevolezza che la Toscana è di tutti e quindi se ci sono idee che sono idee che ci sembrano ragionevoli e utili siamo disponibili ad assumere io credo che dire che questo documento arriva in aula in ritardo credo che sia una cosa non contestabile ma credo che possiamo anche dire che è un ritardo difficilmente evitabile dopo le gravi emergenze della pandemia della guerra cioè tutto quello che il governo regionale si è trovato ad affrontare in questo inizio di legislatura e credo che così come ha fatto in questa fase d'emergenza anche il piano regionale di sviluppo ha degli obiettivi che a mio avvio sono degli obiettivi chiari non si può dire come ho sentito che non c'è una visione mi avviso c'è una visione ci sono degli obiettivi e c'è anche un metodo lo diceva bene Gianni Anselmi con il quale noi pensiamo che sarebbe giusto raggiungere questi obiettivi con un'ambizione che è quella appunto che non è che tutto va bene che non è che tutto il meglio è quello che abbiamo vissuto ma con l'impegno invece a costruire una Toscana per le generazioni del futuro che sia comunque una Toscana accogliente che sia una Toscana più coesa una Toscana in grado di affermare uno sviluppo uno sviluppo sostenibile e le esigenze che il piano regionale sviluppo affronta sono quelle comunque vuol dire di incidere per affrontare ancora le emergenze che la pandemia ci ha lasciato dal punto di vista sanitario le sicuramente criticità economiche dovute appunto a fattori come l'aumento dell'energia come la riduzione della capacità di acquisto da parte delle famiglie fragilità sociali che sono sicuramente aumentate ma anche con la possibilità di cogliere delle opportunità importanti che in passato guardate negli ultimi mi verrebbe da dire qualche decennio non c'erano vale a dire le opportunità del PNRR e dei fondi strutturali europei che sono aumentati di circa un miliardo in questo settennato rispetto a quello precedente quindi gli obiettivi che questo piano regionale di sviluppo persegue sono quelli di una Toscana più coesa capace di superare i gap storici che IRPET che da molti viene giustamente richiamato da tempo ci evidenza che sono quelle di un'area urbanizzata più ricca e invece di una costa e delle aree interne che arrancano di più e che invece hanno delle potenzialità inespresse che noi dobbiamo aiutare invece a tirare fuori e a sviluppare nella cornice di un disegno di rilancio di transizione verso uno sviluppo più sostenibile sia ambientalmente che socialmente favorendo sicuramente la digitalizzazione la competitività del sistema produttivo e anche della pubblica amministrazione perché vedete io sono sempre stato convinto che in un territorio e anche in una regione non c'è una soluzione che può riguardare soltanto una parte non c'è un settore che può risolvere i problemi dello sviluppo e dell'occupazione cioè non c'è una parte di un territorio che può fare da traino cioè lasciandone indietro un altro ma ci deve essere la capacità di coniugare la crescita complessiva cioè un po' di tutto il sistema e quindi cioè rivolgere anche le attenzioni nei confronti del sistema pubblica amministrazione quando si parla di semplificazione quando si parla di efficientamento quando si parla di digitalizzazione è comunque dare un contributo allo sviluppo della Toscana che però è una Toscana che non parte da zero e quando uno come me interviene rischia di far sembrare che le cose vanno tutte bene ma è un riflesso un po' condizionato dal fatto che ascoltando gli interventi dell'opposizione sembra che tutto vada male in realtà come dire la realtà sta nel mezzo e credo che noi come dire dobbiamo riconoscere che ci sono delle criticità che vogliamo affrontare ma che ci sono anche dei dati positivi che lo stesso rapporto IRPET ci riporta ci dice perché ci dice che nel 22 la Toscana è rimasta ancorata su un sentiero espansivo ci dice che certo c'è una diminuzione della produzione industriale ma siamo in linea con una diminuzione che avviene nel resto del paese perché è riconducibile alla riduzione della domanda interna e in alcuni casi della possibilità dell'export e io non metterei cioè l'aumento del turismo tra come ho sentito nel primo intervento della collega Tozzi mi dispiace non ci sia come dice sì però l'aumento del pil è drogato dal turismo ma il turismo è un'attività importante della Toscana cioè noi ci siamo sempre detti che una delle capacità delle peculiarità della Toscana è quella di essere una terra bellissima che ha grandi valori di attrazione turistica ma è stata anche capace di sviluppare un manifatturiero dall'industria all'artigianato servizi magari come dire legati alla persona legati al commercio con un turismo che sta crescendo e per me questo è un aspetto positivo così come non posso sentir dire senza replicare che siccome alle imprese manca la mano d'opera c'è il fallimento della formazione ma che la mano cioè che alcuni profili per quanto riguarda le aziende mancano mancano in tutto il paese in alcuni casi mancano anche proprio le persone fisiche non per niente anche se non l'avete pubblicizzato dal vostro punto di vista cioè questo governo ha prodotto uno degli accordi per flussi che non si erano mai visti prima cioè quindi come dire anche in forte contraddizione ma noi ci trova questa cosa ci trova d'accordo dovreste magari esserne orgogliosi di aver prodotto un accordo un accordo flussi per quanti sono cinquecentomila permessi permessi di soggiorno e quindi come vi dicevo in questa cornice noi crediamo che con le indicazioni con le strategie contenute in questo piano possiamo consolidare la Toscana tra le regioni più avanzate d'altro canto quando dico consolidare e non portare è perché la Toscana e anche qui richiamo un po' ai dati è quando si dice ma dice cresce meno cioè che magari qualche altra regione o qualche o del resto del paese il resto del paese no perché la Toscana c'è anche le indicazioni per il 23 ci dicono che pur di fronte ad una proiezione di crescita debole cresce comunque crescerà più del resto del resto del paese ma la Toscana è anche quella che ha mostrato maggiore resilienza rispetto alla crisi che era scesa di meno quindi questo combinato disposto ci dice che insomma questa Toscana che alla quale dire mancano ancora delle infrastrutture che può avere alcuni dei difetti che voi denunciate cioè non è una regione è una terra che né parte svantaggiata e né ha prospettive cioè di perdere terreno perché anche la questione dell'attrazione degli investimenti Presidente o il dottor Tedeschi che a mio avviso è un professionista bravissimo ci dice le bugie oppure la Toscana è una delle regioni che è stata più capace di attrarre investimenti dall'estero cioè quindi credo almeno non mi ricordo se nel 19 o nel 20 è stata la regione che ha attratto di più ma anche negli anni successivi è una regione che è stata capace di attrarre investimenti e se è capace di attrarre investimenti non credo che tutto sia dovuto ad un grandissimo vantaggio competitivo che noi abbiamo che è quello del brand perché Toscana già di per sé come dire è un marchio che avevamo a un certo punto anche tentato di formalizzare ma come dire è stato non è stato possibile ma credo che in Toscana ci si possa venire ci si viene perché c'è la qualità della vita perché c'è un certo tipo di sanità perché comunque c'è la possibilità di avere delle proposte culturali perché credo che sia un insieme di tutto questo che fa della Toscana una terra di eccellenza che noi vorremmo che noi vorremmo consolidare quindi credo che questo piano regionale di sviluppo abbia anche al suo interno una grande opportunità una grande novità che gli consegna gli rende possibile il momento storico vale a dire quello di ragionare sulla l'utilizzo del PNRR e dei fondi strutturali europei che come vi dicevo sono maggiori in questa programmazione e guardate noi abbiamo partecipato alla redazione di questo piano dando delle indicazioni che abbiamo avuto la soddisfazione di trovare anche assorbite cioè nel momento in cui c'è stata la comunicazione relativa alla costruzione del piano abbiamo dato delle indicazioni che poi abbiamo anche ritrovato nella proposta che è arrivata e lo abbiamo fatto collegandosi anche con il territorio facendo degli incontri anche proprio come gruppo e io non credo che la commissione non abbia svolto il suo lavoro perché è stata un giorno certo ad ascoltare chi è voluto venire e chi non è venuto ha mandato dei copiosi contributi e l'altro aspetto importante è che in questo piano regionale di sviluppo si tiene conto anche dei finanziamenti europei del PNRR con l'obiettivo di utilizzarli in maniera coordinata e non sovrapposta e questo sarà fondamentale assieme all'utilizzo del 30% nelle aree interne perché sempre andando a recuperare i dati dell'IRPET io vedo che qui ad oggi per quanto riguarda il PNRR purtroppo con una gestione così verticale come è stata prodotta il 72% delle risorse a terra nella Toscana centrale il 5% nei territori del sud della regione il 4% nelle aree interne quindi l'obiettivo che noi abbiamo dato cioè quello di cercare di non sovrapporre ma di orientare le risorse dei fondi strutturali quelli ordinari sarà un obiettivo fondamentale quindi una volta approvato il piano c'è la messa a terra del piano che è la parte importante ma in questo piano c'è anche la modalità di messa a terra che è quella che anche qui Gianni Anselmi ha ben sottolineato della programmazione e di una programmazione possibilmente anche negoziata che recuperi il protagonismo dei territori ma non il protagonismo di ogni soggetto di ogni comune nel suo singolo perimere ma su aree che siano aree vaste dove si può effettivamente sviluppare una strategia che abbia un senso e visto che finisco il tempo concludendo abbiamo anche con anche noi con degli emendamenti indicato delle priorità importanti che vanno non soltanto per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile la coesione sociale la sanità territoriale è stato ben detto da chi è intervenuto prima di me ma soprattutto anche per quanto riguarda appunto i temi del sociale abbiamo indicato la necessità di un piano casa del sostegno altra cosa importante il sostegno all'impresa culturale certo il miglioramento dei collegamenti infrastrutturali ma anche qui diciamo io sento sempre citare ma sono tutti interventi spesso che sono competenze della regione dove la regione con i presidenti che si sono succeduti con gli assessori che si sono succeduti cioè sta facendo tutto il possibile e anche di più per cercare di sollecitare cioè l'esecuzione di questi di questi di questi i lavori sarebbe interessante ma ho finito il tempo e quindi mi zitto capire come il governo accompagna lo sforzo di questa regione e come accompagnerà cioè quelli che sono gli obiettivi del piano regionale di sviluppo perché quando parliamo di povertà di sociale cioè io vedo che via il bonus edilizia e comunque non so cosa succederà nella filiera dell'edilizia nei prossimi anni via il reddito cittadinanza che fa mancare svariati milioni anche in Toscana e comunque saranno se non vado errato 90.000 persone che non l'avranno più via il sostegno affitti via la monosità incolpevole taglio alla sanità pubblica perché mi dispiace che Diego non c'è ma questa cosa qui lui deve convincere la corte dei conti che la sanità non è oggetto di un taglio perché la corte dei conti dice che nel 24 e nel 25 il rapporto fra fondo sanitario e PIL sarà del 6% è per questo che noi abbiamo preso un'iniziativa quindi credo che questo strumento sia uno strumento importante di cui ci dotiamo che potrà dare sicuramente orientamento e contributo per lo sviluppo e il miglioramento delle condizioni della Toscana spero che ci sia anche la capacità di un collegamento con il governo perché è evidente che la filiera istituzionale ha bisogno di funzionare con una leale collaborazione Grazie Grazie Presidente Ceccarelli la parola al portavoce dell'opposizione per un massimo di 15 minuti Sì grazie Presidente io mi scuso per la mancanza della prassi consolidata e l'aula di parlare dopo il Presidente Ceccarelli e esatto ma tanto Stella parlerà ancora dopo quindi insomma mi sento assolto da questa responsabilità vorrei provare a fare un ragionamento generale che chiaramente a quest'ora magari non è facile e che cercherò insomma di semplificare per quanto possibile al di là del ritardo con cui si va a discutere questo che è l'atto fondamentale indirizzo della programmazione regionale e poi lo diceva anche un adagio popolare insomma presto e bene non vanno insieme ma insomma quando poi si hanno anche dei termini magari andrebbero rispettati ma soprattutto non vorremmo che poi presto e bene divenga non solo tardi ma magari anche tardi e male sull'impostazione complessiva del piano regionale di sviluppo che stiamo trattando oggi noi probabilmente se l'avessimo dovuto scrivere l'avremmo fatto in maniera diversa per molte parti soprattutto a partire dagli obiettivi strategici a partire anche da quelle che sono le priorità perché poi nella forma questo conta e capiamo anche che poi si seguono delle linee che sono quelle linee di programmazione europea o si segue invece quelle che sono gli indicatori oggi del piano nazionale di ripresa e resilienza però c'è da dire che su questo atto la programmazione si è vero che non deve essere pensata come un vincolo e deve essere momento anche di riflessione però se questo poi diventa riferito all'aggancio ai documenti di economia e finanza regionale che vediamo ripetuti e magari diventano per molte parti dei copia in colla non vorremmo che questo faro poi magari diventasse un ancora perché se è vero che si mantiene da parte di questa maggioranza quella tradizione forte di una programmazione consolidata è anche vero che all'inizio di questa legislatura e lo dico anche alla consigliera mercanti insomma è vero che molti sono nuovi di questa maggioranza ma insomma mi sembra che qualcuno che un po' di esperienze anche a livello di giunta all'interno del gruppo insomma ci siano quindi ci si aspettava sicuramente quello che è che dovrebbe essere un cambio di passo e una visione e diciamo questo perché il ragionamento che volevo fare parte da una riflessione che è stata fatta da due costituzionalisti Bartole e Gian Gaspero che partono dalla da quelle che sono state le istituzioni delle nostre regioni ordinarie con molto ritardo dopo quasi 20 anni nel 1970 quando poi in realtà si era frenato e sappiamo perché perché chi governava all'epoca lo Stato centrale cioè la democrazia cristiana aveva paura che avrebbe dato potere agli oppositori quindi a comunisti in quelle regioni che poi sarebbero state chiamate le regioni rosse che ancora ad oggi insomma nella nostra regione così è rimasta e così è per oltre 50 anni e questo perché chiaramente poi ha creato sicuramente un conflitto ha creato conflitti interpretativi su quell'accordo su quell'accrocchio che poi sono state le definizioni delle materie concorrenti parto da qui per arrivare poi a quello e vado un pochino più veloce su questa parte perché poi le riforme costituzionali al di là di quella dell'articolo 5 della costituzione le mancate riforme l'ultima quella del 2016 hanno messo in condizioni le regioni e anche la nostra di probabilmente affievolirsi essere un po' un po' soffocate e magari si è persa anche la definizione di quello che invece può essere data in termini di efficacia e di efficienza sulla programmazione che invece la nostra regione può fare e ci era piaciuta anche molto l'apertura che il Presidente aveva dato al nostro Ministro sulla riforma delle autonomie e questo purtroppo poi da un passo avanti insomma si è visto qualche passo indietro quando c'è stato un cambio un cambio di gestione del partito di maggioranza in Italia ma soprattutto anche in Toscana e questo c'è anche un po' dispiaciuto perché su molti temi e qui lo diceva anche Ceccarelli ma il collega Torselli ha detto bene sulle infrastrutture abbiamo anche apprezzato il fatto che ci possa essere la ripartenza di alcune opere strategiche tra cui quella che riparte domani della fresa del sottopasso dei 7 km della città di Firenze e anche su questo pensiamo che questo motore che si è riacceso con nuovo vigore all'interno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa essere e avere un valore estremamente positivo dico questo anche perché per esempio faccio un'altra digressione sulla capacità che è stata toccata sempre dal Consigliere Torselli di attrazione degli investimenti il problema è che noi quando qualche giorno fa si è parlato di Firenze Fiera e si parlava del socio privato e qui non abbiamo la sensazione che debbano arrivare investimenti in Toscana o investitori o società che poi possano sviluppare sui nostri territori quello che noi concediamo ma abbiamo manifestato un po' a largo raggio un po' da più parti la paura la perplessità che magari questo socio privato poi potesse portare altrove nostre nostre potenzialità e storiche attività sulla quello che quello che in generale questo piano regionale di sviluppo pone è una è una visione sicuramente di una manutenzione probabilmente ordinaria cioè si vanno a ritoccare senza magari avere alcuni aspetti senza avere una visione una visione a lungo termine generale questo lo vediamo anche nella mancanza di quello che è stato toccato anche dal collega Anselmi sul dato demografico dove andrà la nostra regione da qui a 20 anni a 30 anni cioè noi avremo dei problemi sull'invecchiamento della nostra popolazione abbastanza importanti che forse qui sono stati sottovalutati come è stato forse sottovalutato anche uno dei temi più sensibili alla cittadinanza oggi che è quello della sicurezza però il tema a cui mi vorrei riallacciare è quello della mancanza di una programmazione che ponga e riveda al di là di quelle che sono le discussioni quindi gli stati generali che vengono fatti o sulla salute o sulla cultura o sugli altri argomenti sul compito che noi in quest'aula abbiamo che è quello di porre una legislazione attuale moderna e che guardi al futuro e di questo non possiamo pensare che sia così se pensiamo a quello che è il piano sanitario regionale a quello che ha comportato l'accentramento dei sistemi dei servizi la nostra visione sicuramente è diversa ma noi pensiamo che questi vent'anni trent'anni di accentramento che sono stati fatti sui servizi come la sanità sui rifiuti sull'acqua tra l'altro l'autorità idrica toscana ha invece fatto una marcia indietro perché poi ha creato essa stessa i subambiti con un atto proprio ma noi avendo portato e ridotto gli ato ridotto le aziende sanitarie locale probabilmente vediamo oggi che su quelli che sono i servizi offerti ai cittadini e su quelli che sono i costi probabilmente non abbiamo fatto un grande servizio quindi noi siamo per riportare il potere politico e amministrativo sui territori perché la valenza che hanno i comuni e i nostri comuni della Toscana che su 273 poniamo che solo quelli sotto i 5.000 abitanti sono 119 credo che debbono avere uno sviluppo maggiore non tanto di area vasta come viene prodotto ma debbano essere invece riportati su un sistema gestionale dei servizi che vada capillarmente sui territori almeno a livello provinciale quindi noi abbiamo una visione sicuramente diversa sicuramente più vicina ai territori sicuramente più vicina anche a quelle necessità dei cittadini perché se vogliamo riportare al centro la politica non possiamo pensare che poi metà dei cittadini non vanno a votare perché altrimenti delle responsabilità ce le dobbiamo porre e su questo io credo che noi siamo ben consapevoli che oggi non possiamo stare fermi consigliere Anselmi nel suo intervento lei ha detto che questo è il momento di riflettere ma in realtà questo è il momento di correre qui probabilmente non ci sono una Toscana a due velocità qui probabilmente c'è una Toscana di maggioranza che viaggia in un modo con la presidenza e viaggia in un altro a livello di struttura politica ma non è nostro compito dare un'identità ai nostri avversari politici noi la nostra identità l'abbiamo e proponiamo delle alternative proponendo degli emendamenti che purtroppo poi su quelli fondamentali non riusciremo a trovare a quanto ho capito un accordo ma che sicuramente domani presenteremo e cercheremo di spiegare le motivazioni per cui per cui quegli emendamenti per noi erano fondamentali spendo l'ultimo l'ultimo minuto per per dire sul sul piano dei rifiuti che andremo ad approvare a breve di cui abbiamo fatto un'ampia discussione ringrazio anche la Presidente De Robertis per le tante aduzioni e le opportunità di confronto che ci sono state date in commissione per dire che anche qui sia sui termovalorizzatori questa questa gestione ha ha detto una cosa però poi alla fine ne fa un'altra porsi contro i termovalorizzatori quando poi si va a Montale sappiamo che la regione dà una proroga di 15 anni però poi va a palesare il fatto che i termovalorizzatori debbano essere chiusi beh è una contraddottorietà non di poco conto e questo lo diciamo anche perché un altro passo indietro probabilmente è stato fatto sempre per un cambio di gestione della governance del Partito Democratico è stato fatto sull'impianto di Empoli io credo che credo che ci siano discussioni più interessanti della mia stavano parlando del fatto che siamo arrivati alla fine del tempo e quindi vado a concludere per dire che sicuramente la nostra è una visione diversa in maniera costruttiva abbiamo posto i nostri emendamenti noi siamo per riportare potere politico e amministrativo sui territori e pensiamo che l'accentramento creato dal governo di questa regione in questi almeno 20 anni abbia prodotto soltanto aumento dei costi e piggioramento dei servizi grazie ringrazio il portavoce dell'opposizione e do la parola al presidente Stella grazie presidente grazie al presidente Bugliani per l'introduzione grazie naturalmente alla presenza del presidente Gianni in questo lungo dibattito la presenza naturalmente del presidente qualifica anche i nostri interventi e dell'assessore Nardini che non è stata tutta la giornata al suo fianco e che è un elemento come dire che riempie questa stanza la vediamo sempre molto volentieri assessore mi consenta presidente all'inizio non si può dire che l'assessore avendo un percorso anche nella scorsa legislatura insieme se qualcuno si è offeso chiedo scusa era un segno di gentilezza nei confronti della presenza dell'assessore non mi era sembrato ci fosse nessun tipo di sottolineatura che offendesse né le donne né gli uomini presenti in quest'aula no mi dispiace l'abbia presa così consigliera comunque l'assessore sa che non c'era nessun intento quindi questo mi basta mi consenta presidente di dirle in apertura abbiamo fatto un lungo studio su quello che è il piano regionale di sviluppo grazie anche agli uffici che mi hanno sostenuto in questo lungo viaggio all'interno di queste pagine ma prima ancora di entrare nel merito del piano regionale di sviluppo due elementi tengo a sottolineare il primo presidente è che l'intervento del consigliere Anselmi non può passare inosservato in quest'aula è stato un intervento dell'ex presidente della commissione di attività produttive di questo consiglio nella scorsa legislatura è stato un intervento pieno di passione pieno di energia è stato un intervento che ha anche avuto una sottolineatura di carattere politico e non possiamo essendo in quest'aula fare attività politica non sottolineare che un esponente così importante del partito democrato in quest'aula abbia fatto questo tipo di rilievo il secondo elemento è dopo il voto contrario nella giornata di oggi soltanto poche ore fa rispetto ad una legge di un pezzo della sua maggioranza lo stesso pezzo della sua maggioranza non è qua in aula non ho sentito nessun tipo di intervento rispetto al piano regionale di sviluppo non so se ci sarà quando voteremo gli emendamenti e il piano regionale di sviluppo non possiamo non tenere in considerazione che Italia Viva qua non è presente non è presente a questo dibattito non ho sentito nessun tipo di accezione positiva o negativa ma credo che non sia casuale il fatto che alla legge precedente Italia Viva ha votato in maniera diversa rispetto alla maggioranza che sta in quest'aula due elementi che non possono passare in secondo piano rispetto ad un ragionamento che è di tutto di carattere tecnico sul piano regionale di sviluppo i colleghi hanno sottolineato in maniera molto bene in ritardo la domanda è come abbiamo fatto senza il piano regionale di sviluppo non è perché è arrivato in ritardo la domanda è come è stato possibile fare gli atti programmatori senza il piano regionale di sviluppo la domanda è come è stato possibile fare tutti gli atti che questa giunta ha fatto in due anni e mezzo senza il piano regionale di sviluppo perché se è vero che la cornice all'interno della quale si muove il governo del territorio e quindi la sua giunta senza quel piano senza quella cornice come sono stati fatti i provvedimenti come si è proceduto quali sono stati gli atti che sono stati messi in campo della giunta e soprattutto perché questa è un'assemblea legislativa e l'assemblea legislativa si muove lo ricordava bene il collega Anselmi sulla programmazione e questo è l'atto programmatorio per eccellenza così come è descritto dalla legge regionale e dalle norme nazionali il tema ce ne sarebbero tanti qua dentro ne cito solo alcuni c'è un capitolo sull'attrattività delle imprese e l'attrazione delle imprese io le voglio ricordare Presidente lo ricordo a tutti noi lei cita qui come la Toscana è un elemento di attrazione è una terra di attrazione abbiamo 60 crisi aziendali e sono a rischio oltre 4.000 posti di lavoro se questa è la Toscana che attrae mi domando qual è la regione che non attrae si parla di mobilità io vorrei ricordare che parlando di mobilità e tralasciando il tema di Toscana strade che è stato illustrato benissimo dai colleghi questa è la regione che ha aumentato il biglietto del trasporto pubblico questa è la regione che ha dato il via libera all'aumento più sostanzioso che c'è stato sul trasporto pubblico da un lato si dice che dobbiamo muoversi senza la macchina privata usando il trasporto pubblico e dall'altro invece siamo pieni tutti i giorni nei giornali ma anche nelle interrogazioni dei colleghi di maggioranza relative alla scarsità delle corse al taglio delle corse ai ritardi delle corse ai disagi che hanno i cittadini ma si sceglie di aumentare il biglietto la corsa oraria da 1,50 euro da 1,70 euro la corsa oraria tramite sms da 1,82 euro il biglietto io ancora non ho capito perché il biglietto a bordo debba costare di più anzi secondo me dovrebbe pure costare di meno lo passiamo da 2,50 euro a 3 euro ma si toccano anche le fasce più deboli si tocca naturalmente l'abbonamento quello annuale ordinario che passa da 310 euro a 342 euro e si tocca anche l'abbonamento lo dico all'assessore Bernardini per gli studenti che passa da 252 euro a 278 euro un aumento che non è l'aumento dell'inflazione perché l'inflazione gira intorno al 12% questi sono aumenti che variano fra il 10 e il 18% lo sa bene la Giunta che ha dato il veliver a questo aumento io ancora non ne ho capito i motivi onestamente al di là della fase contrattuale la domanda vera è era proprio necessario farli ora e sono in linea con l'aumento dell'inflazione e sono in linea col servizio che autolinea toscane è in grado di dare ai cittadini toscani si sono fatti da soli un questionario sul gradimento di autolinea toscana e da quel questionario per chi conosce quasi tutti credo di noi la formula matematica attraverso la quale si arriva agli aumenti del costo del biglietto c'è anche all'interno del contratto l'elemento che ci dice se va bene allora l'aumento può essere fatto io mi domando se anche in quest'aula i consiglieri sono convinti che autolinea toscana stia facendo un buon servizio e che l'aumento del biglietto sia un aumento che è legittimo in un momento difficile le ripeto presidente come questo dove l'inflazione è alta ma non corrisponde all'aumento degli stipendi delle donne e degli uomini toscani dove invece rispetto ad un servizio che è carente la regione sceglie di aumentare sceglie di aumentare il costo del biglietto pubblico sulla cultura onestamente non ho compreso bene il modello di promozione culturale che la regione toscana ha intenzione di mettere in campo si parla di valorizzazione delle tradizioni si parla ancora di valorizzazione delle micro tradizioni chi conosce bene il fenomeno del turismo culturale sa bene che è difficilissimo e vada a vedere le micro tradizioni al di là di quello che si possa pensare sulla guardia civile toscana sui costumi sui costi ma non è quello il tema credo che il tema sia che tipo di turismo vogliamo attrarre in questa regione ed è legato come lei molte volte bene ha detto a tutta la regione non è legato solo ad alcune città ad alta vocazione turistica lo dico da come lei è letto nel collegio di Firenze sarebbe mio per pensare che i turisti vengono in Toscana solo per visitare Firenze vengono sicuramente perché Firenze è un attrattore sta a noi mettere in campo la capacità di farli rimanere visitando anche le altre città anche gli altri borghi anche gli altri comuni ma per far questo dobbiamo essere in grado di fare un biglietto unico dei musei per far questo dobbiamo essere in grado di fare un itinerario culturale che all'interno di quel percorso preveda la visita dei musei e per esempio le grandi opere lirico-sinfoniche o la valorizzazione dei teatri ecco io noto che di questo onestamente non ho visto un filo conduttore ma magari me lo spiegherà meglio lei che è la delega perché questo filo conduttore sulla cultura mi è sfuggito non ho capito bene il passaggio sulla legge sulle locazioni turistiche io penso che sia l'abbiamo affrontato mi dispiace ridirlo ma insomma il collega che faceva il presidente della commissione di attività produttive dove io ero col collega Anselmi nella scorsa legislatura avevamo trovato un punto di mediazione su quella legge e poi la corte costituzionale ha bocciato il ministro ha preso il ministro Santanchè ha preso in mano e molto probabilmente andrà in una direzione molto simile rispetto a quella che noi avevamo immaginato abbassando credo non il numero non lavorando sul numero delle notti ma lavorando sul numero degli alloggi che credo sia una cosa giusta da fare ma se si pensa di fare una battaglia e una guerra ad un elemento che è un elemento di modernità e che è anche un elemento di valorizzazione dei territori e dà una risposta ad esigenze diverse perché noi abbiamo i turisti che crescono la permanenza media che cresce le presenze negli alberghi che crescono e le presenze nelle locazioni turistiche che crescono io onestamente quel sul capitolo turismo quel passaggio sulla legge sulla locazione turistica so mi dispiace che non c'è che l'assessore Maras ha già fatto alcuni incontri con le associazioni di categoria che rappresentano quel mondo che è un mondo per noi importantissimo solo per Firenze vale 36 milioni di euro di imposta di soggiorno 14 mila alloggi registrati registrati a registro regionale e perché dobbiamo spaventare le persone che vogliono lavorare in maniera corretta e perché dobbiamo mettere il dubbio che chi oggi fa impresa professionale o non professionale la faccia evadendo le tasse o evadendo quelli che sono i requisiti richiesti ma perché dobbiamo sempre mettere in dubbio che l'altro faccia qualcosa di sbagliato di non corretto che sta fuori dalla legge io penso che non sia giusto credo che non sia corretto e per questo quel passaggio che è fra l'altro un passaggio perlomeno per quanto mi riguarda ma le ripeto molto brevemente l'ho capito male io e sono qua e sono qua per ascoltare un passaggio che non mi convince come non mi convince fra l'altro la sua giunta è anche una giunta fortunata nel senso che l'Esera è piena di risorse e la sua giunta è piena di risorse e questa è una fortuna perché significa che la Toscana è piena di risorse fra i soldi del PNRR e i soldi della comunità europea dei fondi europei dobbiamo essere tutti contenti che arrivino risorse spetta a noi quelle risorse spenderle bene spetta a noi farle atterrare bene insieme al lavoro che la regione ha fatto con i comuni con gli uffici tecnici dei comuni a quali va naturalmente il nostro ringraziamento però per esempio non ho visto il tema lo ricordava prima il collega Landi si è fatto un ragionamento su Firenze Fiera ma il tema dei poli fieristici come questi entrano in relazione per esempio con il turismo e quali fiere ho letto con grande interesse il passaggio che lei ha fatto dopo l'incontro con l'assessore sul maggio musicale sul maggio musicale Fiorentino definendo quel polo un polo anche attrattivo culturale turistico però qua dentro non c'è allora io credo me lo dirà dopo io credo che al di là del limite così vado a chiudere perché credo di averla fatta troppo lunga al di là del limite di averlo presentato in ritardo io non ci ho ritrovato qua dentro un filo conduttore che sia un ragionamento compiuto ed è la cosa onestamente presidente che mi è dispiaciuta più di tutti perché se nella norma quadro tutti quanti ci ritroviamo noi abbiamo presentato più di 200 emendamenti e sono elementamenti che qualificavano perlomeno il lavoro nostro non c'è un lavoro ostruzionistico ma credo che sui grandi temi se noi troviamo un punto di unione e lavoriamo tutti insieme non ne beneficia forse Italia nella Lega nel Partito Democratico ma ne beneficia il nostro territorio e i nostri cittadini ecco perché io penso il lavoro che noi abbiamo fatto e mi auguro che alcuni emendamenti verranno approvati è un lavoro che va in quella direzione il piano regionale di sviluppo perlomeno per quanto mi riguarda non è il luogo della battaglia politica io non l'ho mai considerato tale anche perché va presentata all'inizio della legislatura quasi concomitante con il programma elettorale con il quale il governatore Gianni ha vinto ma è il luogo del dibattito politico non il luogo del come dire della battaglia politica è il luogo del confronto per questo negli emendamenti perlomeno che Forza Italia ha presentato ma non ho dubbio avendogli letto e anche gli altri colleghi il segno che noi abbiamo voluto dare è stato un segno costruttivo chiedo ancora scusa all'assessore Nardini se ha ritenuto a inizio di intervento le mie parole offensive ma lei sa che non c'era nessun tipo di intento in quella direzione grazie ringrazio il presidente Stella la parola per l'intervento finale al presidente Gianni ma io devo dire che prima di tutto devo ringraziare ringraziare tutti gli uffici che hanno contribuito a scrivere quello che sono i vari tratti che hanno naturalmente un'interlocuzione di programma da un punto di vista più tecnico ringrazio tutti coloro che hanno collaborato degli enti funzionali al lavoro della regione a partire da IRPET ma a continuare con ARS a continuare con quelle che sono state diciamo le entità di presidio di intervento del governo regionale allargato che hanno contribuito alla scrittura di alcuni passaggi e a mettere con gli allegati e con quelle che sono le tabelle la base perché potessero nel programma regionale di sviluppo svilupparsi gli argomenti di natura politica ringrazio tutti il lavoro fatto in commissione un lavoro che è sostanzialmente di quasi un anno che ha visto impegnate le commissioni e quindi per me i consiglieri regionali anche nel momento in cui mi riportavano quello che erano le interlocuzioni con le associazioni con le forze vive della società toscana hanno contribuito a creare quel piano regionale di sviluppo che veniva evidenziato è passato da una serie di filtri che sono stati le audizioni in commissione gli emendamenti raccolti chi ha detto mi sembra il consigliere Pescini che in realtà è un piano regionale di sviluppo che si è molto arricchito dal dibattito e dalle audizioni dalla dialettica e dai contributi che poi venivano portati dall'esterno ha ragione è un piano regionale di sviluppo che ha molto più che in altre occasioni io ormai ho vissuto in consiglio regionale tre legislature la prima entrai un anno dopo ma ricordo che ancora anche in quell'occasione non era stato approvato devo dire che è un piano regionale di sviluppo indubbiamente molto partecipato e ringrazio i protagonisti i consiglieri quello che verrà fuori sarà un testo che sicuramente porterà a compimento quello che sono tante indicazioni che vengono dai consiglieri sia nella loro visione di rappresentanti di territori sia nella loro visione più generale di persone che sono entrate nelle dinamiche della capacità decisionale e di indirizzo della regione trasformandola in programmazione arricchendo quello schema che da Beccattini come veniva citato dal consigliere Anselmi l'uomo della teorizzazione di un modello economico e sociale toscano quello delle piccole e medie imprese che poi si articolavano i 16 distretti industriali e che fu a base della prima programmazione negli anni 70 perché se la regione nasce nel 1970 sappiamo che dai comitati di programmazione a livello provinciale Elio Gabugiani diventò il primo presidente del consiglio regionale della Toscana perché aveva presieduto il comitato di programmazione della regione toscana come rappresentante di quello che erano le province che andavano a dar corso alla programmazione che dal 1970 da quel 7-8 giugno del 1970 quando fu eletto il primo consiglio regionale prendeva spunto la disamina corretta ricca che sul concetto di programmazione ha fatto Gian di Alselmi è giusta allora quando le regioni 53 anni fa nascevano nascevano sulla base della programmazione avevano quasi timore le regioni di entrare nella gestione di entrare negli interventi diretti vi era uno stato che si era fondato fin dall'allegato E2248 del marzo 1865 su uno schema comuni province stato che in qualche modo vedeva le regioni come un soggetto che era anomalo l'aveva voluto la regione la costituzione repubblicana soprattutto Piero Calamandrei questo toscano straordinario che aveva voluto interrompere quel processo che durante il fascismo aveva portato il ministero degli interni e quindi il governo al controllo del territorio attraverso le province e era un fatto anche fisico ancora oggi 8 su 10 province della Toscana vedono lo stesso edificio la provincia e la prefettura a partire da chi abbiamo noi davanti la prefettura di Firenze e insieme alla provincia durante il periodo del centralismo periodo che veniva ad essere rappresentato nel ventennio il ministro degli interni con l'ordine al prefetto dava attraverso le province e dalle province ai comuni il controllo capillare del territorio l'idea forte della Repubblica regionalista che ritroviamo nei libri di Calamandrei lo ritroviamo nella sottocommissione 75 in sede di stesura della carta costituzionale dice noi rompiamo questo schema attraverso le regioni e le regioni che Toscana lo stato prioritario era la regione ma nelle altre parti d'Italia non avevano un riferimento nello stato prioritario gli otto stati prioritario l'unico che assomiglia a una regione di oggi è la Toscana vengono costruite per interrompere questo circuito e l'autonomia legislativa prevista dal contesto costituzionale serve a dare alla regione la possibilità di fare legge ma non ha un caso che è l'ultimo degli organi istituzionali che viene realizzato 22 anni dopo l'ingresso della carta costituzionale c'è abbondante letteratura sul fatto che i ministeri non volevano le regioni e quando le regioni vengono inserite e quando le regioni prendono strada lo prendono perché negli anni 60 non se ne può più vi è una sorta di alleanza che si crea tra la cultura cattolica la cultura socialista la cultura laica la cultura comunista a dire rompiamo gli schemi del centralismo dello Stato e partiamo dalla programmazione quindi il piano regionale di sviluppo in realtà nasce come l'elemento su cui si fondano le regioni 1970 come priorità e allora è evidente che allora il piano regionale di sviluppo è giusto sia in qualche modo il primo atto all'interno e all'inizio di una legislatura ma progressivamente noi vediamo una situazione e mi inserisco in ragionamento di Gianni Anselmi in cui dai primi trionfalistici e giusti riferimenti alla capacità programmatoria della regione nelle ultime legislature vi posso dire è tutta una lamentela di chi sta all'opposizione rispetto a chi sta al governo ma ormai viene riconosciuto anche di chi sta al governo sul fatto che la programmazione in realtà poi manifesta la scarsa capacità di incidere delle regioni e si richiede una maggiore capacità di intervento diretto sul territorio delle regioni e oggi non a caso noi abbiamo delle regioni che sempre più e io ho cercato di interpretare questa impostazione che in Toscana intervengono direttamente costituiscono i loro apparati per fare le cose e sempre più sulle infrastrutture noi realizziamo dove potevamo fare appalti con il genio civile quindi sulla difesa del suolo o su una prima dimensione dei trasporti ho fatto la direzione opere pubbliche e non a caso dalla terza torre del nostro nuovo palazzo dal controllo su quello che saranno le realizzazioni in sede sanitaria dall'assistenza ai 210 comuni che hanno attinto ai tre bandi per 50 milioni sugli impianti sportivi la direzione opere pubbliche sta facendo e sta entrando direttamente nella gestione nell'intervento e nella capacità diretta della regione e quindi il ragionamento che io vi faccio che io ho ascoltato tutti gli interventi e guardate sono contento perché ciascuno di questi mi ha dato stimoli mi ha dato input e cercherò di attuare questo però io pensavo che nella mia giornata semplicemente di ieri vado a Roma parto la mattina e mi fermo a Campo Marte perché per me scusate era un godimento assoluto vedere quella talpa che entrava dopo che il primo accordo di programma è comprimic serio nel 1996 37 anni dopo nelle viscere di Firenze con una filiera che abbiamo costruito e l'abbiamo costruita nella regia della regione la terra dei 7 chilometri di Firenze che attraverso la talpa entra su un vagone e quel vagone porta a Cavriglia dove mitighiamo dal 1994 quando fu chiusa l'ultima miniera mitighiamo le ferite delle miniere della Lignite là in Val Darno e contemporaneamente a immettere i diaframmi che faranno quella galleria ci sono i conci che vengono dallo stabilimento di Lucignano pensate in Toscana noi la galleria dell'alta velocità la facciamo scavando portando tutta la terra sul treno e questa terra sul treno va a mitigare ciò che è stata una ferita importante nel nostro territorio con il rivestimento di quelle gallerie che viene realizzato in un astraovimento di Lucignano che se andate dalla nostra sindaca Casini è tutta felice per il raddoppio dell'occupazione creando un sistema d'economia circolare importantissimo il fatto storico che una galleria di 7 km che in Nova Firenze sul piano delle infrastrutture parte oggi 26 di luglio perché in realtà sono partiti ieri e continueranno nei primi 10 metri con i primi conci che sono quelli più delicati fino al 30 ma il simbolo che rimarrà sui giornali e sui libri di storia che sono partiti oggi il 26 di luglio devo dire è qualcosa che dà il senso di come sulle infrastrutture stiamo intervenendo voglio dirvi io non mi troverete nessuna dichiarazione a dire ho il merito eppure a luglio dell'anno scorso con il ministro Giovannini e con Ferraris delle Ferrovie fu la riunione decisiva determinante da cui partì il revampio della Talpa da cui partì la ferrovia che mi dissero va bene Gianni a questo punto ci sono le condizioni spendiamo questo miliardo e cento nell'appalto che fu pubblicato il primo d'agosto e andiamo avanti ma non voglio il merito perché il merito è di tutti il ministro Salvini ha avuto un ruolo importante nell'assecondare tutto quello che era stato partito se si metteva di traverso oggi non arriviamo a questo risultato quindi è un merito di tutti spesso nelle grandi opere pubbliche un lavoro di squadra di quello che oggi è maggioranza di quello che è opposizione però io ieri mattina quando sono fermato lì e godevo era troppo bello vedere quello che saranno le trasformazioni di Firenze da quell'intervento e poi via con il sindaco Nardella a Roma dove con un altro ministro dell'opposizione a cui riconosco una grande serietà e correttezza il ministro San Giuliano con il quale ci siamo messi di fronte a un tavolo con il sindaco Nardella il sottoscritto il rappresentante della cassa dell'ente cassa di risparmio il rappresentante di intesa sei enti sei enti che hanno detto come risolviamo il problema del maggio innanzitutto gli abbiamo detto a Cutaia 8 miliardi e 3 ma abbiamo portato gli argomenti sul fatto che 8 milioni e 3 8 milioni e 3 possono essere ridotti perché ci sono le sopravvenienze e a poco a poco questi 8 milioni e 3 sono diventati 7 milioni e 6 a quel punto abbiamo detto siamo 6 enti lo Stato esprime il commissario la posizione dominante e lo Stato 2 milioni li può mettere gli altri enti ognuno un milione aggiungiamoci mancano 600 mila aggiungiamoci 100 mila ciascuno e ecco i 7 milioni e 7 e poi tutti a parlare di quello che dovremo fare il collegamento lo diceva il consigliere Marco Stella la necessità di integrare Pitti che ha lì la Leopolda con il teatro comunale il cavo che non è stato utilizzato per nulla ci sono 2500 posti è inutile fare Musart a Piazza Santissima Annunziata dove viene Paolo Conte grandissimo successo dove viene Drusilla dove viene oggi sera c'è stato qualcosa di molto bello facciamolo lì almeno invece che il suolo pubblico al comune si vaga un affitto al teatro comunale e sono maturate tante idee un lavoro costruttivo ecco il maggio del teatro comunale fatto ritorno qui di corsa per il museo della deportazione ci abbiamo messo 2 milioni e 7 la regione un'opera straordinaria eravamo con tutti coloro Alessandra Nardini con me a telefono ha fatto l'introduzione che ancora in Nardelli eravamo in macchina ma quando siamo arrivati lì una straordinaria soddisfazione perché vedere Ex 3 che era stata una palestra che si erano resi conto quando avevano finito quando si realizzò Piazza Bartoli nella rigenerazione urbana e l'area L'Ex Don Ginotti che mancavano 20 metri quindi non poteva essere utilizzata oggi è depositaria a livello europeo del museo di Auschwitz e poi di corsa a Firenze Fiere alle 6 abbiamo iniziato posto la prosa e la prima pietra della cittadella fieristica il padiglione Bella Vista 2500 posti a livello congressuale che daranno un auditorio a Firenze allora pensavo una giornata come ieri come si riflette qui signori la regione oggi fa è dinamica realizza e realizza perché insieme quando facciamo squadra riusciamo a creare delle occasioni che è una regione del fare è una regione che in questo momento sta cambiando le infrastrutture i servizi è una regione che dà il senso di come è nata 53 anni fa come la regione della programmazione oggi è protagonista nel nel fare nel trasformare e noi questo processo dobbiamo assecondarlo e allora io mi devo mettere a discutere perché approvo il PRS due anni dopo io mi domando la funzione della programmazione è funzione importante oggi certo ma soprattutto oggi è importante la funzione del fare e della gestione e su questo noi regioni toscana siamo protagonisti ripeto noi regioni toscana nel rapporto con i comuni nel rapporto con il governo e con lo Stato quando le sintonie e le cose funzionano ieri ho letto la polemica il Gianni ma ora noi gli diremo al ministro che Morello non lo deve fare ma il ministro mi ha dato una settimana fa il suo parere favorevole sono andato al ministro Schillaci persona garbata per bene molto seria ho parlato delle strategie della sanità ma ha scritto che dà il parere positivo quindi signori sentiamoci nel contesto delle cose che facciamo e vediamo che la programmazione di oggi non è quella di 53 anni fa la programmazione di oggi che trovate su questo documento è in realtà una lettura dello work in progress dell'agire della regione a cui diamo una visione di prospettiva e questo work in progress dell'agire della regione in questa legislatura non poteva che essere così è la legislatura dei piani degli interventi sulla base dei fondi europei che ormai non sono più nemmeno tanti europei perché il 18% di quei fondi li diamo noi l'anno scorso abbiamo dovuto aumentare il bilancio e previsione di 100 milioni proprio perché il nostro bilancio ordinario per dare il tutto del 18% alle cifre in più da 3 miliardi siamo passati a 3 miliardi e 3 quindi 300 milioni dovevamo mettere i 18 milioni direttamente e per il resto l'aumento della quota parte 100 milioni in più quindi abbiamo i cosiddetti fondi europei che io chiamo fondi regione Europa i fondi regione Europa li possiamo utilizzare dal primo di marzo perché per il PNR sono sedilittati ad allora ma era giusto che quello che abbiamo messo a partire dagli asili nilogratis grazie Pescini è l'unico e l'ha citati che saranno una rivoluzione su cui la Toscana dà un messaggio a livello nazionale dagli asili nilogratis alle misure per il reddito di libertà alle donne con il bonus cultura l'assistenza ai disabili e ai fragili la politica che svilupperemo attraverso diciamo il sossegno alle imprese 530 milioni di bandi per le imprese per le imprese sul piano della ricerca e sviluppo dell'internalizzazione delle pratiche le buone pratiche di diciamo antisismica di efficientamento energetico 530 milioni di bandi sono il doppio dell'altra volta un ossigeno per l'impresa e l'economia toscana qualcuno mi ha detto dice ma ci sono 70 aziende in crisi sì è vero ci sono le crisi ma questa economia toscana sulla crisi più forte la GKM guarda caso è la regione protagonista a metterli d'accordo e in questo momento l'idea dell'incubatore di imprese nello stabilimento a campi dove si prefigurano 5 attività imprenditoriali compresa la cooperativa degli ex dipendenti chi l'ha attivata? La regione io devo dire ho un bel consigliere bravo che segue le mie indicazioni sta facendo un lavoro di consultazione quotidiana importante secondo di poi noi ci troviamo ad avere il panno del casentino crisi risolta erano con me da bantarella l'altro giorno gli operai del panno del casentino gli hanno fatto anche l'omaggio proprio per la capacità di lavoro che hanno messo in funzione il terzo luogo la Beckert ormai chiuso lo stabilimento a figline la Beckert sta diventando il luogo l'abbiamo presentato agli amministratori locali agli operai della produzione di idrogeno cioè questa è una Toscana che nelle crisi aziendali sta dimostrando una reattività una capacità di reazione notevolissima dove c'erano i grandi capannoni distrutti che Giacomo Gugliani conosce bene a massa nell'ultima variazione di Milancio siamo stati così pronti da metterci 12 milioni che io raccarrara alla manifestazione della CGL molto seria corretta fatta sabato e ci veniva riconosciuto la capacità di azione della regione non di Gianni o di quello di quell'altro no della regione perché sono tutti atti che noi abbiamo fatto e anche quando mi dite ma tutto deve essere programmato e si fa le variazioni di Milancio Mario Puppera l'altro giorno con me in Garfagnana e venivano tutti i sindaci a dire con quel piano di rigenerazione urbano che abbiamo implementato i 2 milioni risorge l'attività e la credibilità dei comuni nella Garfagnana ma contemporaneamente in un comune da Toscana diffusa ora non mi metto a citarne uno dietro l'altro ma tanti interventi che noi riusciamo ad attivare è la capacità di gestione della regione questo PRS intervenuto a me dalla legislatura questa dimensione riesce a leggerla e a proiettarla in strategia non ho sentito nessuno rilevare un aspetto che a mio giudizio è qualificante perché non c'è un piano regionale di sviluppo prima di questo che lo tratta con un dettaglio e complessivamente su tante pagine come qui la Toscana diffusa questo sarà il testo base perché cosa significa la parola Toscana diffusa noi l'abbiamo implementato A più B A sta per comuni montani B sta per comuni delle aree interne abbiamo quindi dato una disciplina e una normativa che finora non esisteva a quello che è il concetto di Toscana diffusa che voi ritrovate all'interno del contesto dei comuni che per la prima volta in un testo sono elencati uno per uno e quindi si sa che Aulla fa parte delle aree totalmente montane ma invece è parzialmente montana montignoso o massa ma è contemporaneamente bagni di lucca intermedio alto pascio di cintura barga periferico e sulla base di questa classificazione che voi trovate a pagina 79 noi arriviamo a uno schema che è quello secondo cui possiamo legare i 16 obiettivi strategici le 7 linee di sviluppo regionali i 29 progetti regionali e potete andare nella cartina ad avere l'evidenza di quello che sostanzialmente è la Toscana delle pianure ricchemente produttive e la Toscana da sostenere attraverso i progetti specifici classificati normativizzati ordine mentalizzati della Toscana diffusa finora in regione questo non c'era e questo è un merito di questo piano regionale di sviluppo che orienterà la nostra capacità di programmazione nelle aree più ricche e nelle aree che invece devono essere sostenute e guardate con forza e io ho citato questo come non voglio evitare di citare invece i singoli interventi vi sono tanti aspetti del piano regionale di sviluppo che se uno lo va a leggere bene scoprirà danno un carattere di novità alla nostra programmazione che ci aiuta a leggere da un lato il territorio dall'altro a usare misure che ci consentono normativamente di andare a toccare quella che è la capacità di gestione e di intervento diretto l'altro giorno quando ci siamo visti con la commissione che ha giudicato si parlava di opere pubbliche regionali il ponte Frassigna e la Strassigna che nella piana significherà salvare la vita e il pomeriggio perché ci si passa ore Frassigna e la Strassigna e i nostri uffici per un'opera di 72 milioni interamente regionale mi dicevano è certo Presidente è una bella soddisfazione per noi sapere che si sta andando a intervenire con un'opera di 72 milioni interamente gestita dalla regione dalla fase della progettazione alla fase del confronto con il territorio alla fase della sperimentazione dell'appalto integrato secondo il codice voluto dal Ministro Salvini quando una volta arrivavamo a fare solo le rotatorie sì i nostri uffici facevano una volta solo le rotatorie con l'assessore Ceccarelli già incominciarono ad avere progetti più rilevanti oggi fanno appalti di 72 milioni e sono convinto che questo è un crescere della regione nella possibilità e nelle prospettive come l'intervento di 32 milioni che ci consentirà di concludere lo 439 nel tratto da Castelfiorentino a Certaldo che voi vedete i lavori sono in corsa abbiamo iniziato a gennaio scorso e stanno procedendo perché ormai la linea della strada è ben evidente e con lo stesso metodo lavoreremo sulla 436 la Val di Nievole con il primo tratto da Samignato a Fuscecchio i cui lavori partiranno nell'arco di qualche mese con la stessa impostazione procederemo nel creare le condizioni il rapporto di servizio con le ferrovie fra due giorni butteranno giù l'ultimo diaframma della galleria di Seravalle con lo spirito speriamo non venga frenato da ricorsa al TAR raddoppieremo da Granaiola a Empoli la linea insomma c'è una stagione delle infrastrutture che attraverso la regione sta andando molto avanti guardate che cosa noi abbiamo fatto in questi due anni e mezzo attraverso un lavoro di continuità con il precedente perché le opere hanno state impostate alla giunta precedente ma che ha visto la società autostrade fare la terza corsia fino a Bagnarripoli il tunnel più importante rilevante d'Europa perché a 14 metri di diametro è un passaggio sotto che garantisce piena sicurezza in caso di incendio fra Calenzano e Barberino e in questo momento i lavori che si stanno realizzando da Bagnarripoli fino a Incisa insomma siamo io non so se ci se ne rende conto ma siamo in una stagione di dinamismo da un punto di vista realizzativo che la regione toscana e tanto non vede con questa intensità se si va al porto di Livorno e si vede la base per la darsene Europa che si sta costruendo è qualcosa di bellissimo anzi voglio portarvi e fare un sopralluogo lì perché è una cosa impressionante sembra di essere ai tempi in cui Montalenti realizzava per il Gran Duca Ferdinando il porto di Livorno nella realizzazione di quella struttura e devo dire che il consigliere Gazzetti ha fatto tutto un lavoro anche significativo di sollecitazione sul fatto che c'erano 337 milioni che erano stati impegnati e che si sono ridotti a 20 io spero che quello che ha detto il sottosegretario sia vero che l'hanno ridotti temporaneamente per metterli sul capitolo l'anno prossimo perché tanto in quest'anno c'era da fare il progetto ma come avete visto io non sono intervenuto perché mi sono fidato di quello che ha detto il sottosegretario conseguentemente credo anche nella buona fede e nello spirito però indubbiamente è una cambiale che Gazzetti ha posto giustamente perché poi fra un anno effettivamente avvenga come quello che si è detto ma devo dire che io ho ascoltato le ultime parole della consigliera Mercanti e mi ha fatto piacere vedere anche questo spirito dei nuovi consiglieri regionali che in fondo vivono un'acquisizione di esperienze di competenze e io con il nuovo consiglio regionale veramente voglio trovare un percorso sempre più stretto perché poi gli interventi che facciamo in quella logica del fare nascono con protagonisti i singoli consiglieri regionali la consigliera Galletti mi parlava di navigazione a vista ma dove ma che navigazione a vista quello che si sta facendo si sta facendo al 90% sulla base di programmazione Galli giustamente per l'altro ha fatto un intervento molto costruttivo ha citato quello che stiamo facendo sullo sport ma trovate un'altra volta che si interviene dopo tre anni con 50 milioni ma tutti insieme perché me l'avete votato tutti con 50 milioni sugli ambienti sportivi regionali ci sono 210 comuni coinvolti si Gianni va a far tagliare il nastro se è certo che va a far tagliare il nastro ma fate le cose 360 mila euro e per ciascun comune si fanno questi interventi era a Vernio l'altro giorno per la piscina ma lì c'era felice tutta la popolazione quei 360 mila euro hanno consentito di riaprire una piscina che da quanto tempo era chiusa sono andato a Piave Santo Stefano dice si ha fatto un campo d'allenamento però il campo d'allenamento risparmia l'impianto e spesso che cosa è successo con noi che gli abbiamo fatto i 360 mila euro la società di gestione perché anche il presidente a quel punto si ispira ti fa come a Piave Santo Stefano un certo un impianto non c'è un comune di sinistra ti fa come a Porto Santo Stefano gli spogliatoi noi abbiamo fatto il campo d'allenamento a quel punto il presidente della società con il sindaco Marcelli ha fatto gli spogliatoi e è venuto fuori un complesso che fra sinergia fra comune regione e il presidente della società è eccezionale una sinergia ha creato quel volano dei 50 milioni che veramente ha messo in campo energie di investimento estremamente forti e li vedrete man mano che piano piano inaugurano quelli per cui abbiamo realizzato e anche lì prendete l'ultimo bando il primo fra i 113 che hanno partecipato il comune di Zeri nell'estremo nord della Toscana un comune di mille abitanti colpito dal dramma del pulma che è andato giù e sono rimasti tutti miracolati e sono tutti i ragazzi degli abitanti la festa per essere arrivati primi al bando pensate agli interventi di rigenerazione urbana altro che navigazione a vista erogazioni di cassa ARPAT ARPAT la legge e le abbiamo fatte noi e ARPAT la stiamo valorizzando e portando a un livello onestamente che non era mai stata trovate un momento di conflitto con ARPAT come accadeva in passato una collaborazione un'attività costante quotidiana ARPAT sta funzionando bene altro che non attenzione chiedete la Pietro Lubellini se non c'è attenzione da parte del governo rispetto ad ARPAT la consigliera Galletti sollevava sulle terme di Montecatini le terme di Montecatini signori stiamo arrivando a essere i salvatori di Montecatini perché in questo concordato con 15 milioni che ci mettiamo devo dire apprezzo la collaborazione con il sindaco Baroncini che è anche il segretario regionale della Lega abbiamo lavorato di comune accordo la consigliera Bartolini lo sa come lo sa la consigliera Fratoni e non è andata il Nicolaio lo vedo e forse ma lì abbiamo fatto un lavoro collettivo devo dare atto che è un lavoro tracciato dalla consigliera Fratoni perché di acquistare le terme di il tettuccio ce l'aveva indicato lei non era stato possibile e quando l'abbiamo fatto ci ha consentito di chiudere il concordato ma ora io non mi fermo lì eravamo insieme a Baroncini quando abbiamo visto lo spettacolo della tutela del pallettrimonio UNESCO in quella giornata bellissima in cui dicevano questa è l'opera toscana che può diventare fra le più belle del mondo e lo rifaremo noi come regione ci sarà più la società che ormai con concordato viene liquidata ma la toscana che ha il tettuccio regina l'Eccelsior dove porteremo metà delle opere delle Alinari e daremo a Montecatini il volto della città della fotografia e del cinema la porteremo avanti con molta determinazione quindi altro sconfitta sulle teme di Montecatini è la rigenerazione ripeto non me ne prendo i meriti è un lavoro di squadra e collettivo l'aeroporto all'Elba ma signori le Baleari le Seychelles le isole del Portogallo sull'Atlantico le Canarie il salto di qualità l'hanno fatto con l'aeroporto e io signori se il sindaco Montauti è incerto lo dico a Landi che invece ha mostrato un atteggiamento estremamente costruttivo come la prima volta andai lì con Gianni Anselmi e a mio giudizio se lì non si capisce che con 150 metri di pista arrivano gli ATR ti ricordi Marco con Marco Stella abbiamo vissuto e eravamo della stessa opinione quando allungammo da 1400 a 1650 la pista di Firenze in due anni arrivò a portare 500 a portare 500 mila visitatori e mi fa piacere che Anselmi faccia riferimento a un emendamento io sono straconvinto che sarà una sfida lungimirante di strategia contro la logica dei piccoli comitati che non vogliono farsi toccare nelle loro proprietà ma in quel caso c'è l'interesse generale dell'isola d'Elba anche perché se a Marina di Campo a Campo scusate se a Campo nell'Elba arriva l'aeroporto ma signori pensate a una delle potenzialità che noi come regione toscana abbiamo il dovere di rivitalizzare l'isola di Pianosa chi non c'è vi dico ci vada i Caraibi della Toscana un patrimonio splendido liberato dai penitenziari oggi devi arrivare in battello a Portoferraio prendere il pullman per andare a Marina di Campo e poi un altro battello per arrivare in 40 minuti a Pianosa ma pensate cosa significa poter arrivare lì direttamente con l'aereo e certo nei limiti controllati di un afflusso che deve essere regolarizzato l'accesso anche a questo patrimonio dell'arcipelago che parliamo parliamo ma in questo piano regionale di sviluppo è l'unico documento in cui vedo ci abbiamo messo davvero gli occhi e la focalizzazione nella programmazione e poi Firenze Fiere signori domand'altro facciamo la conferenza stampa perché io mi sono veramente infastidito di vedere parlare di Firenze Fiere come qualcosa che è in crisi ma signori stiamo raddoppiando nei primi sei mesi dell'anno stiamo raddoppiando il fatturato di Firenze Fiere e avevamo avuto la crisi ma un'attività fieristica in pandemia quando il principio è il distanziamento sociale ma cosa ci si aspetta che la gente regali soldi perché io ci sarei andato ma il distanziamento sociale la mascherina mi impedisce di andare a Pitti o la famosa dell'artigianato guardate quest'anno i conti quest'anno i conti dei primi sei mesi di fatturato di Firenze Fiere rispetto ai primi sei mesi non dico dell'anno scorso che sono raddoppiati ma del 2019 siamo già sopra e io sono convinto che se ci crediamo in Firenze Fiere ci investiamo come stiamo investendo per fare la cittadella feristica e il terzo padiglione il padiglione Bellavista che farà per la prima volta a Firenze una sala congressi di 2500 posti perché oggi quella maggiore è il palazzo dei congressi che ne ha 800 posti noi ci facciamo convegni medici i convegni che questa città richiama vogliono venire tutti in Toscana e Firenze Fiere diventa anche da un punto di vista economico un business dice te lo dice la Corte dei Conti questo no la Corte dei Conti fa i conti e quindi mi registrerà che rispetto ai tempi della pandemia vi è una situazione che può destare il sospetto ma il nostro lavoro è un altro il nostro lavoro è avere i sogni crederci nelle cose realizzarle e lo facciamo lì come lo faremo con l'attività delle altre società partecipate Gianni ha usato un'espressione che io mi ritengo e mi impara a memoria senza la crescita non si crea ricchezza il concetto di questo piano regionale di sviluppo è questo concetto senza la crescita non si crea la ricchezza questo è un piano di crescita è un piano che porta la Toscana ad avere poi quello che abbiamo già realizzato perché l'anno scorso il 2022 prendete i dati del PIL della Toscana rispetto all'Italia abbiamo lo 0,5% in più e anche quest'anno avremo in dati di PIL che nel differenziale non saranno il 4% della Toscana o il 5% dell'Italia saranno poco più dell'uno noi abbiamo un'attesa che porta la Toscana più degli altri e devo dirvi che quando parliamo della possibilità di crescita non è solo il turismo signori la manifattura sta crescendo quando noi offriamo le opportunità Beckeriux che l'altro giorno veniva fatto il dramma popolare assaminiato ricordando i tempi di Lapira e esemplificando come Lapira salvò un'azienda il Pignone con 2.000 dipendenti tempi di Lapira il Pignone c'aveva 2.000 dipendenti quando l'ENI nel 1992 ministro dell'economia Varucci commissario liquidatore dell'Efim ente di dotazione che aveva la proprietà era Predieri aveva 3.400 dipendenti i sindacati dicevano ce li porteranno via oggi con Beckeriux a 6.000 dipendenti fra Massa Avenza e Firenze e ad Avenza in questo momento stanno montando la turbina a idrogeno più moderna del mondo Beckeriux evidente che ti dice noi abbiamo bisogno di poter continuare come oggi con una banchina di porto che è a Marina di Carrara che è efficiente funzionale e può essere ampliata e a Marina di Carrara sono andato 15 giorni fa per i campionati italiani di altura di vela e cavolo lì ci può avvenire lo sport il turismo il supporto a Beckeriux evidente bisogna approvarlo il piano portuale di Marina di Carrara e se c'è il pericolo del ripascere la sabbia e si affronta ma noi abbiamo bisogno come dice Gianni giustamente di crescita senza la crescita non c'è ricchezza non c'è pil e non c'è sviluppo e questa crescita noi applicheremo proprio alla dimensione delle aree complesse di crisi perché su quelle ora dovremo concentrare l'attenzione e qui l'abbiamo scritto ma sono convinto che ha ragione anche Petrucci nel momento in cui sulla sanità in un intervento serio ha detto che noi dobbiamo anche razionalizzare tutta una serie di interventi nella spesa per spendere meglio quello che noi abbiamo sono convinto ci sono molti interventi diciamo di migliore organizzazione che possiamo fare e li possiamo fare insieme nella nostra sanità però dato di fatto signori che il fatto quotidiano non è certo un giornale mio amico ma arriva e mi dice che la Toscana è l'unica con il segno più 1,47% nell'affrontare le liste d'attesa le altre regioni sono tutte a meno rispetto al 2019 l'unica in più 1,49% pochissimo ma è la Toscana ILEA ci portano al secondo posto sulle organizzazioni consentitemi stato bravissimo Enrico Sostegni nel far riferimento che sulla sanità noi abbiamo certo messo solo i concetti generali perché poi sarà il piano socioassistenziale a tracciare bene le linee fa parte proprio di quello che è scritto il nostro statuto noi non potevamo mettere più di tanto perché quello che dobbiamo approvare è il piano socioassistenziale e sulle modalità organizzative all'avanguardia Donatella Spadi mi ha fatto una lezione anche a me non arrivavo a poter rispondere a Ulmi quanto nella sua concretezza nella sua capacità di conoscere anche dal di dentro il sistema ha dato risposta Donatella e noi siamo sempre nelle buone pratiche perché poi ce lo riconoscono le ce lo riconoscono le hanno detto che Cardabellotta il presidente della Gimbe l'altro giorno in convegno stanno facendo gli indici elaborati come durante la pandemia sul livello di efficienza dei sistemi sanitari ha detto che dalle prime indicazioni che coglie è la Toscana la prima ora io aspetto i dati ufficiali però sarebbe un'indicazione certo io sono il primo che vi dico non ne voglio fare enfasi sono il primo a dire considero questo dato come meno peggio e sono il primo a dire che le cose che il ministro Schillaci sta dicendo sono cose serie e che condivido ne abbiamo parlato anche l'altro giorno con Bonaccini nell'incontro con i presidenti regionali quindi ci può essere un rapporto molto positivo anche con il ministro spero che il ministro Schillaci che è un tecnico non venga soffocato dalle scelte generali del governo come purtroppo è avvenuto a dicembre quando gli hanno consentito nonostante lui dicesse cose giuste di avere solo 2 miliardi e 100 rispetto ai 35 miliardi che aveva raggranellato il ragioniere generale dello Stato io devo dire che Petrucci parlava di stanchezza ma che stanchezza ma siamo vivi vitali stiamo facendo le cose io proprio per le descrizioni che facevo prima mi sento carico e pieno di energia Galli ha fatto un intervento nel quale ha posto dei problemi giusti innanzitutto io glieli rivolto un po' lui l'ha messo in chiave problematica io lo metto in senso positivo la Foster ovvero della parte dell'alta velocità la stazione ragione la Foster è una rivoluzione urbanistica e quindi con il comune di Firenze anche noi che siamo protagonisti di quell'intervento perché si impernia sulla regione quell'intervento decidere se i bus turistici si toglie tutto dalla stazione e si mette tutto lì o si toglie solo alcuni delle linee di interlocuzione del TPL con le linee ferroviarie parcheggi quanti parcheggi facciamo è una scelta strategica io sono per andare avanti molto molti parcheggi e molti pullman portati lì perché significa spostare Firenze a quello che è un orientamento urbanistico verso nord ovest sono scelte che saranno da motivare nei prossimi due o tre anni fino a quando la stazione sarà pronta e il people mover sarà importante perché il people mover un ascensore orizzontale di un chilometro dal binario 2 della stazione alla stazione del Fiore all'alta velocità sarà un fatto importantissimo quando si diceva non mi ricordo se l'ha detto te o qualcun altro ma si fanno più stazioni certo perché andando a fare l'alta velocità sotto la superficie diventa l'integrazione con la tramvia quindi certo che si fa la stazione a guidoni pensate per chi viene da Pisa la stazione a guidoni significa risparmiare un quarto d'ora rispetto ad andare a Santa Maria Novella e lì si trova subito la tramvia sotto è un'interlocuzione fra le città della Toscana eccezionale contemporaneamente quando si si finisco finisco naturalmente Galli faceva poi riferimento alle case popolari mi riferisco ai 93 milioni che abbiamo messo nel PNNR alle nuove abitazioni sullo sport che ho detto sul maggio musicale il ragionamento prendo quello che ho fatto all'inizio sostegni che appunto un altro spunto interessante di sostegni è il piano sulle spese energetiche accolto quello che abbiamo fatto con una delibera abbiamo messo per quello che è il montaggio dei pannelli fotovoltaici una capacità di risparmio che arriva a 45 milioni è uno degli spunti veramente interessanti Ulmi faceva una serie di riferimenti che io rispetto però ripeto la Corte dei Conti è un organismo che valuta rispetto alla contabilità formale noi dobbiamo guardare agli aspetti sostanziali e se leggiamo fino in fondo anche le relazioni della Corte dei Conti noi la parifica l'abbiamo avuta e quindi spulcia spulcia ma il lavoro che abbiamo fatto sul piano delle realizzazioni sostanziali e si va bene e si va a diritto il CUP rinvio all'intervento bene impostato di Donatella Spadi comunque una cosa vi voglio dire per le liste d'attesa noi l'abbiamo scritta anche qua crediamo molto nella managerialità che Asle per Asle ci deve essere di una persona che si occupa solo di questo che io sono convinto che ad incastro con delle risorse che gli dobbiamo dare per gli straordinari con un coordinamento tra la sanità del territorio e la sanità ospedaliera un bel colpo alle liste d'attesa glielo possiamo dare e già glielo stiamo dando Pescini parlava parlaltro dell'argomento del TPL sul TPL io vi dico solo una battuta noi ci mettiamo 660 milioni la regione toscana per il trasporto la continuità marittima per il trasporto su gomma il trasporto sul ferro ci mette 660 milioni in Emilia ce ne mettono 470 quindi noi al TPL e come ci rediamo io rispetto i comuni ci sono disservizi faremo un'analisi minuziosa facendo le multe con rigore se certi servizi promessi e contraluizzati non ci sono però l'aumento del biglietto dico a Marco fa parte di quel contratto non è un aumento è semplicemente un aggiustamento legato all'Istat che il contratto aveva messo e saremo molto rigorosi con autolinee toscane però bisogna anche dire che i comuni ormai non ci mettono più nulla quando io e te eravamo un consiglio comunale a Firenze e te questa una voce che mi ricordo sollevavi molto bene il comune ci metteva soldi al punto che fu costretta perché coperta dai debiti di vendere ATAF ATAF fu venduta da essere società consortile comunale perché c'aveva 40 milioni di debiti e arrivamo a venderla perché non avrebbe mai recuperati l'acquistò le ferrovie dello Stato Mazzoncini fece quella operazione e il comune si liberò ma dal andarci a fallire per garantire i servizi di DPL a non metterci nulla la strada troppo lunga il nostro sistema prevede Ciccarelli fu protagonista di quell'intesa da arrivare a un bel impegno economico sul TPL ma i servizi che rimangono carenti il rispettivo comune prende il bilancio e ci mette una quota aggiuntiva e fa arrivare i pulmi con maggiore frequenza o con maggiore efficacia qui siamo arrivati a un livello in cui i comuni pensano che debba fare tutta la regione tutto il trasporto pubblico e tutta la regione il ruolo del comune è protestare io lo dico in senso molto costruttivo è bene che si apra un po' più confronto e una valutazione insieme noi saremo più rigorosi nell'attuazione del contratto ma anche lo spirito di comuni che se c'è dei servizi che rimangono carenti ripeto non come ai tempi dell'Ataf che ci fallivano ma un'integrazione da parte dei comuni ci deve essere se vogliamo trovare armonia sul funzionamento del trasporto pubblico e poi è evidente che in questo si entra in una dimensione di servizi di cui in altra occasione cercherò di dare anche più delucidazioni Torselli ci ha parlato della Toscana moderna sulle infrastrutture mi piace apprezzo il riconoscimento sui giovani sì e anche sulla politica verso i giovani che noi dobbiamo impostare un po' a tutti i livelli l'obiezione di coscienza servizio civile che gli dà 500 euro e qui c'è una buona parte nel piano regionale di sviluppo dobbiamo incentivarlo incrementarlo e soprattutto con i fondi europei portarlo a far crescere poi dice c'è sfiducia perché i giovani prendono e vanno via sì la qualità della vita io prendo anche l'altro aspetto la Toscana è il paese è la regione mi sembra la seconda regione in Italia in cui l'età media è più alta e questo signore è anche stile di vita questo signore è qualità della vita noi si vive in una regione che si vive bene se no saremmo quelli che si campa di più e quindi rispetto anche all'aspettativa dei giovani il fatto della nostra qualità della vita è un aspetto che deve legarsi soprattutto a tanta attenzione sul piano del nostro sistema formativo Alessandra sta facendo un grande lavoro con gli ITS che vanno a una capacità d'occupazione al 100% sul diritto allo studio e anche stamani abbiamo presentato i 10 milioni sulle borse di studio e con arti di cui siamo un esempio a livello nazionale l'azienda dei centri dell'impiego sta funzionando a mena dito benissimo e sta creando tante opportunità di lavoro che anche sui social avete visto quante persone fa contente Torselli ha detto una cosa su cui io prendo un impegno perché è molto serio e molto vera è la connettività addirittura sono di più dei 37 comuni e soprattutto ci sono in molti comuni anche problematicità d'aria magari in capoluogo ma poi in realtà non si riesce a telefonare che nel Chianti io per andare l'altro giorno a Radda in Chianti uno dei centri più belli della Toscana deve trovarmi l'impossibilità a telefonare o con Bugliani si va a Vinca a celebrare quello che è il drammatico eccidio e lì a un certo punto non c'è più né telefonino né so nulla nulla onestamente io l'ho detto a Cioffo qui ci siamo affidati con il PNNR al Ministro Colau l'impostazione centralistica in realtà hanno fatto fare interventi doppi a Infotel e in tante zone in cui veramente problemate non hanno fatto nulla lì ora si aspetta un attimino di vedere come rapportarsi rispetto agli accordi che abbiamo firmato però poi ci si mette soldi alla Regione ma la connettività diventa una cosa fondamentale e naturalmente rispetto ai ragionamenti sulle nuove povertà cambiamento climatico io sono ragionamenti che ho fatto e appresso e condivido però devo dirti che noi qui nel piano abbiamo messo molti punti proprio di impostazione strategica la Meni ci ha parlato della geotermia ha fatto bene perché è veramente qualcosa di molto importante e siamo d'accordo siamo stati a sostegno del Ministro Picchetto Fratin quando ha portato a un anno la scadenza geotermica quindi non scade più alla fine di quest'anno ma scade alla fine l'anno prossimo io con Mario Puppa ne ho parlato nel contesto delle scadenze della geotermia e dell'idroelettrico faremo lo svuotamento del lago di Bagli che sarà il prossimo anno sarà un'attrazione eccezionale perché riemergerà fabbriche di mergevoli il paese che è in paese incantato che ora è dentro il lago e quindi c'è un rapporto su tante cose da fare io una delle cose sulle aree geotermiche voglio incontro misura è l'aiuto da parte di Engel Green Power per arrivarci meglio le strade sono veramente un disastro quindi noi dobbiamo studiare anzi facciamo una commissione un modo delle contropartite da chiedere devo dire che l'intervento di Ceccarelli è un intervento che condivido dall'inizio alla fine sottolineo un solo punto l'attrazione degli investimenti il ragionamento che ha fatto noi siamo effettivamente regione molto attrattiva dalle multinazionali basta vedere cos'è successo con Fendi cos'è successo con Selin Sendi a Bagnarripoli Selin a Raddanchianti cosa sta succedendo su Louis Vuitton a Pontassieve qui le imprese vengono fanno a gara per cercare di attrarre su questo territorio io sto cercando di spostarle tutte sulla costa dove peraltro noi abbiamo cercato di fare un ragionamento sullo sviluppo delle aree e con Gianni faremo un lavoro sulle zone industriali complesse ma signori se si va a sommare i click i like che riceve la Toscana sono in assoluto leggevo un articolo l'altro giorno la regione italiana maggiore siamo la regione più attrattiva d'Italia e quindi sotto questo aspetto dobbiamo giocare una sinergia su cui il piano regionale di sviluppo è particolarmente attuale Stella ha detto tante cose sulle crisi aziendali le ho risposto sui poli fioristici rinvia quello che ho detto sulle locazioni turistiche mi sono espresso pochi giorni fa una cosa ma sollecita se è una cosa che mi tocca la cultura e devo dire che uno dei progetti fondamentali è quello di effiuzzi diffusi ci stiamo lavorando sulla villa di Careggi d'accordo con il ministro e anche Torselli venne quando San Giuliano facemmo il sopralluogo ci stiamo lavorando sulla villa di Montelupo così come noi sulla qualificazione dei beni culturali insomma la legge sulle città murate della Toscana ha consentito almeno 50 realtà toscane di avere dei benefici che mi vengono constantemente riconosciuti e contemporaneamente noi attraverso la politica delle fondazioni fondazione Mitorai fondazione per San Casciano dei Bagni quella è la scoperta del secolo con le nostre consiglieri senesi la Rosignoli la Paris abbiamo vissuto dei momenti davvero anche emozionanti in quelle scoperte che guarda caso con l'accordo di valorizzazione fra Ministero Regione e Comune San Casciano siamo arrivati anche a identificare l'abbiamo comprato alla Curia l'edificio dove verrà il nuovo museo sui beni culturali voi troverete molte cose e soprattutto con Cristina Giacchi la ringrazio abbiamo fatto un lavoro di revisione che la Commissione sta esaminando e che svilupperemo per quello che riguarda la legge 21 il testo unico dei beni culturali vedo Salvetti nei prossimi giorni per la Fortezza Nuova e la Fortezza Vecchia di Livorno sono tutte impostazioni finisco con la consapevolezza di aver citato almeno tutti perché sinceramente ho trovato riferimento Landi anche lui mi ha ragionato sui servizi l'aumento dei costi sui ridotti alle asle però consentitemi consentimi Francesco io arrivo a tre anni e con me le tasse in Toscana non sono aumentate mai c'è inflazione c'è crisi c'è situazione di difficoltà della sanità ma con me le tasse in Toscana non ci sono non c'è stato aumenti e io lo annovero come un obiettivo che anche rispetto al respiro alla società civile che come struttura regionale abbiamo offerto anche nei momenti più difficili siamo riusciti a mordere il freno e poi abbiamo sotto questo aspetto ottenuto il risultato io penso sia un piano regionale di sviluppo che nella logica non quello che citava Gianni dell'inizio della programmazione ma nella logica con cui ho colto il suo ragionamento portandolo a attualizzarlo in un piano regionale di sviluppo di work in progress che legge quello che abbiamo fatto in due anni con il project con il PNNR 11.500 progetti che sono in corso e che due anni fa non c'erano perché non sapevamo quali bandi dello Stato avrebbero richiesto e dei fondi europei che abbiamo sostanzialmente sistemato negli ultimi sei mesi che piano regionale di sviluppo avremmo approvato due anni e mezzo fa quello che negli ultimi anni veniva detto tanta carta ma pochi fatti approvandolo ora noi leggiamo questa realtà e la decliniamo in chiave di crescita che crea ricchezza grazie grazie ringrazio il presidente Gianni la seduta serale notturna è chiusa riprenderemo i lavori domattina alle ore 10 che è ci